la locanda della tormenta presenta 20.000 leghe sotto i mari di jules verne buon ascolto parte prima 1 uno scoglio fuggente l'anno 1866 presentò un bizzarro avvenimento un fenomeno inspiegato e inesplicabile che certamente nessuno ha dimenticato senza parlare delle voci che spargevano agitazione tra le popolazioni delle città portuali e sovrecitavano l'opinione pubblica all'interno dei continenti un'emozione particolare si diffuse tra la gente di mare mercanti armatori capitani di lungo corso skippers e masters d'europa ed america ufficiali delle flotte militari di tutti i paesi e dopo di essi i governi dei vari stati di tutto il mondo considerarono il fatto con la più profonda preoccupazione effettivamente da qualche tempo vari bastimenti avevano incontrato in mare una cosa enorme un oggetto lungo fusiforme talvolta fosforescente assai più grande più veloce di una balena i fatti relativi a tale apparizione registrati nei diversi giornali di bordo concordavano abbastanza nettamente sulla struttura dell'oggetto o dell'essere in questione sulla velocità sbalorditiva dei suoi movimenti sulla insolita potenza della sua locomozione sulla vita particolare di cui sembrava dotato se si trattava ad un cetaceo esso superava in volume tutti quelli classificati sino ad allora dalla scienza né cuvier né la sepede né il signor de quatrefages avrebbero mai ammesso l'esistenza di un mostro simile a meno di averlo visto letteralmente visto coi loro propri occhi di scienziati attenendosi alla media delle osservazioni fatte in diverse occasioni rifiutando le timide valutazioni che assegnavano a quell'oggetto una lunghezza di 200 piedi e rispingendo i giudizi esagerati che gli attribuivano fino a un millo di larghezza e tre di lunghezza si poteva comunque affermare che quest'essere fenomenale superava nelle proprie dimensioni tutte le misure ammesse fino ad allora dagli etiologi seppur tuttavia veramente esisteva ma insomma esisteva la cosa non poteva più negarsi e data la tendenza al meraviglioso che è propria allo spirito umano si capirà facilmente l'emozione dovunque prodotta da quella sovrannaturale apparizione quanto a respingerla nel mondo delle favole bisognava rinunziarvi infatti il 20 luglio 1866 il piroscafo governo riginson della calcutta steenburnac steam navigation company aveva incontrato quella massa in movimento 5 miglia est delle coste australiane il capitano baker si era creduto da prima in presenza ad uno scoglio sconosciuto mentre si disponeva a rilevarne l'esatta posizione due colonne d'acqua proiettate dal misterioso oggetto si erano scagliate sino 150 piedi d'altezza dunque a meno che lo scoglio fosse sottoposto all'azione intermittente di un geyser il governo riginson aveva che fare né più né meno che con qualche mammifero marino sino da allora sconosciuto che spelleva dai propri sfiatatoi colonne d'acqua mescolata ad aria e a vapore analogo fatto venne osservato il 23 luglio dello stesso anno nei mari del pacifico dal cristobal colon della west india and pacific steam navigation company dunque lo straordinario cetaceo poteva trasferirsi da un posto all'altro con velocità sorprendente poiché a distanza di tre giorni il governo riginson e il cristobal colon lo avevano osservato in due punti separati sulla carta oceanica da più di 700 leghe marine 15 giorni più tardi 2000 leghe più lontano lo elvezia della compagnie nationelle e lo shannon della royal mail incrociandosi in quella porzione dell'atlantico che è compresa tra gli stati uniti e l'europa si segnalarono a vicenda il mostro a 42 gradi e 15 minuti di latitudine nord e 60 gradi e 35 minuti di longitudine ovest del meridiano di greenwich da questa osservazione simultanea si ritenne poter valutare la lunghezza minima del mammifero in circa 106 metri dato che lo shannon e l'elvezia erano di dimensioni minori benché misurassero 100 metri da prua a poppa ora le più grosse balene quelle che frequentano i paraggi delle isole aleutine il culammac e lungulic non hanno mai superato i 56 metri di lunghezza seppur li hanno mai toccati tanto questi rapporti arrivati l'uno dopo l'altro che le nuove osservazioni fatte a bordo del transatlantico perere e una collisione tra l'etna della linea in man e il mostro e un verbale steso dagli ufficiali della fregata francese normandì e un serissimo rilevamento ottenuto dallo stato maggiore del comodoro fitz james a bordo della lord clyde emozionarono profondamente l'opinione pubblica nei paesi d'umor lieve si fece del fenomeno oggetto di scherzo ma i paesi più gravi e pratici l'inghilterra l'america e la germania se ne preoccuparono estremamente dappertutto nei grandi centri il mostro andò di moda lo si cantava nei varietà e beffeggiava nei giornali lo si recitò sui palcoscenici si videro riapparire sui giornali in mancanza di notizie tutti gli esseri immaginari e giganteschi a partire dalla balena bianca il terribile moby dick delle regioni iperboreali fino allo smisurato kraken i cui tentacoli possono avvinghiare un bastimento di 500 tonnellate e trascinarlo negli abissi dell'oceano furono riprodotti perfino i verbali dell'antichità i pareri d'aristotele e di plinio che ammetteva l'esistenza di quei mostri poi i racconti norvegesi del vescovo pontopidan le relazioni di paul haggd e infine i rapporti di harrington la cui buona fede non può essere sospettata in cui l'autore afferma di aver visto trovandosi a bordo del costillon nel 1857 quell'enorme serpente di mare che fino ad allora non aveva mai frequentato altri mari che quelli cartacei del vecchio constitutionnel allora esplose l'interminabile polemica dei creduli e degli increduli nelle associazioni scientifiche e tra i loro periodici la questione del mostro infiammò gli spiriti i giornali che professano la fede nella scienza e quelli che la professano nell'umorismo in lotta tra loro versarono fiumi di inchiostro in quella memorabile battaglia alcuni anche qualche goccia di sangue poiché dai serpenti di mare si erano lasciati portare ai personalismi più offensivi per sei mesi la guerra imperversò con alterne fortune finalmente in un articolo su un giornale satirico molto temuto il più popolare dei suoi redattori tirando le somme di tutto partì all'attacco del mostro come ippolito gli inferse un ultimo colpo e lo finì tra le risate universali la spiritosità aveva vinto la scienza nei primi mesi del 1867 la cosa parve dimenticata e non sembrava che dovesse tornare mai d'attualità quando nuovi fatti furono portati a conoscenza del pubblico da quel momento non si trattò più di un problema scientifico da risolvere ma di un pericolo reale serio da evitare la questione preso un nuovo aspetto il mostro ridiventò isolotto roccia scoglio ma scoglio sfuggente indeterminabile inafferrabile il 5 marzo 1867 il moravian della montreal ocean company trovandosi di notte tempo a 27 gradi e 30 minuti di latitudine e 72 gradi 15 minuti di longitudine urtò con la sua fiancata di dritta una roccia che nessuna carta segnalava in quei paraggi sotto la doppia spinta del vento e dei suoi 400 cavalli vapore stava navigando alla velocità di 13 nodi non vi è dubbio che se non fosse stato per la qualità superiore della sua carena il moravian squarciato nell'urto si sarebbe inabissato con i 237 passeggeri che aveva imbarcati nel canada l'incidente era accaduto verso le 5 del mattino sullo spuntare del giorno gli ufficiali del quarto di guardia si precipitarono a poppa scrutarono l'oceano con la più scrupolosa attenzione non videro nulla tranne un forte risucchio a tre gomene di distanza come se la superficie liquida fosse stata violentemente sconvolta il rilevamento locale fu preso con esattezza e il moravian riprese la rotta senza apparenti avarie aveva urtato contro una roccia sottomarina o contro qualche enorme relitto di naufragio non si poté stabilirlo ma esaminata in bacino di raddobbo la sua carena si constatò che una parte della chiglia era rimasta fracassata questo fatto per se stesso estremamente grave sarebbe stato probabilmente dimenticato come tanti altri se tre settimane dopo non si fosse ripetuto in condizioni identiche soltanto a causa della nazionalità della nave vittima di questa nuova collisione e a causa della reputazione della compagnia armatrice l'avvenimento ebbe un eco immensa nessuno ignora il nome del celebre armatore inglese cunard questo intelligente industriale fondò nel 1840 un servizio postale tra liverpool e halifax con tre navi di legno e a ruote della forza di 400 cavalli ed una stazza di 1162 tonnellate otto anni dopo il naviglio della compagnia si accresceva di quattro bastimenti di 650 cavalli e di 1820 tonnellate e due anni più tardi di due altri bastimenti superiori per potenza e tonnellaggio nel 1853 la compagnia kyunar il cui privilegio per il trasporto dei dispacci era stato rinnovato aggiunse alla propria flotta l'arabia il persia il china lo scozia il java il russia tutte navi di prima qualità le più grandi che dopo il great eastern avessero mai solcato i mari così dunque nel 1867 la compagnia possedeva 12 bastimenti dei quali 8 a ruote e 4 a elica se do molto succintamente questi dettagli è perché ciascuno sappia l'importanza di questa compagnia di trasporti marittimi conosciuta dal mondo intero per la sua intelligente gestione nessuna impresa di navigazione transoceanica è stata mai condotta con tanta abilità nessun affare è mai stato coronato da tanto successo in 26 anni i bastimenti kyunard avevano trascorso duemila volte l'atlantico e mai una traversata è stata saltata mai si è verificato un ritardo mai una lettera un uomo una nave sono andati perduti e così viaggiatori scelgono ancora malgrado la potente concorrenza francese la linea kyunard preferendola a qualunque altra come appare da una statistica tratta dai documenti ufficiali degli ultimi anni detto ciò nessuno si stupirà del clamore che suscitò l'incidente occorso a uno dei suoi steamers più belli il 13 aprile 1867 con mare buono e vento favorevole lo scozia si trovava a 15 gradi 12 minuti di longitudine e 45 gradi e 37 minuti di latitudine navigava una velocità di 13 nodi e sotto la spinta dei suoi mille cavalli vapore in quella traversata pescava 6 metri e 70 centimetri la sua stazza era di 6624 metri cubi alle 4 e 17 del pomeriggio durante il pasto dei passeggeri riuniti nel grande salone un urto tutto sommato poco sensibile si avvertì nella carena dello scozia a poppavia della ruota di sinistra lo scozia non aveva urtato era stato urtato e da qualcosa piuttosto tagliente o perforante che contundente la collisione era sembrata tanto leggera che nessuno a bordo avrebbe pensato di inquietarsene senza il grido degli uomini di stiva che salivano in coperta urlando affondiamo i passeggeri apparvero dapprima assai spaventati ma il capitano anderson si affrettò a rassicurarli infatti il pericolo non poteva essere imminente lo scozia diviso in sette compartimenti stagni doveva poter sfidare impunemente una via d'acqua il capitano anderson scese immediatamente nella stiva constatò che il quinto compartimento era stato invaso dall'acqua e la rapidità dell'invasione provava che la falla era considerevole fortunatamente quel compartimento non era quello delle caldaie altrimenti i fornelli si sarebbero immediatamente spenti il capitano anderson fece mettere immediatamente in panna e un marinaio si tuffò per una ricognizione dell'avaria pochi momenti dopo si constatava l'apertura di una falla larga due metri nella carena del piroscafo una via d'acqua di tale dimensione non poteva essere turata e lo scozia con le sue ruote mezzo sommerse dovette continuare così la sua rotta a quell'ora si trovava a 300 miglia dal capo clare e dopo un ritardo di tre giorni che inquietò molto liverpool entrò nei bacini della compagnia gli ingegneri procedettero allora alla visita dello scozia che fu messo in un bacino asciutto non poterono credere ai propri occhi due metri e mezzo al di sotto della linea di galleggiamento si apriva uno squarcio regolare dalla forma di un triangolo isoscele la ferita della lamiera era ad una nettezza perfetta non meno che se fosse stata inferta con la cesoia lo strumento perforante che l'aveva prodotta doveva essere di tempra poco comune e dopo essere stato lanciato con una forza prodigiosa in modo da forare una lamiera di 4 cm aveva dovuto ritirarsi autonomamente con un moto retrocedente e davvero inesplicabile tale l'ultimo episodio che determinò un appassionamento dell'opinione pubblica da quel giorno i sinistri marittimi cui non si poteva attribuire una causa determinata furono messi incontro del mostro a quel fantastico animale fu imputata la responsabilità di tutti i naufragi misteriosi il cui numero è purtroppo considerevole su 3000 navi la cui perdita registrata annualmente dal buro veritas il numero di quelle a vela o a vapore date per perdute corpo e beni per mancanza di notizie non è minore di 200 ora della scomparsa fu il mostro ad essere giustamente o ingiustamente accusato e poiché per sua colpa le comunicazioni tra i vari continenti diventavano sempre più pericolose il pubblico prese posizione e chiese categoricamente che i mari fossero a qualsiasi costo sbarazzati di quel formidabile cetaceo 2 il pro e il contro all'epoca in cui si produssero questi avvenimenti ritornavo da un'esplorazione scientifica nelle cattive terre del nebraska stati uniti nella mia qualità di professore supplente al museo di storia naturale di parigi il governo francese mi aveva fatto prendere parte a quella spedizione dopo sei mesi passati nel nebraska carico di collezioni preziose arrivai a new york verso la fine di marzo la mia partenza per la francia era fissata per i primi di maggio nell'attesa stavo dedicandomi a classificare le mie ricchezze mineralogiche botaniche e zoologiche quando avvenne l'incidente dello scozia ero perfettamente al corrente della questione all'ordine del giorno e come avrei potuto non esserlo avevo letto e riletto tutti i giornali americani ed europei senza avvantaggiarmene molto quel mistero mi attraeva nell'impossibilità di farmene un'opinione passavo da un estremo all'altro che qualche cosa vi fosse non poteva essere messo in dubbio e gli increduli erano invitati a mettere il dito sulla piaga dello scozia al mio arrivo a new york l'interesse per la questione si era fatto incandescente l'ipotesi dell'isolotto galleggiante e dello scoglio inafferrabile sostenuta da cervelli privi di competenza era assolutamente abbandonata e effettivamente a meno di avere una macchina nel ventre come poteva mai quello scoglio spostarsi con una rapidità così prodigiosa parimenti si era esclusa all'esistenza di uno scafo alla deriva di un relitto enorme e sempre a causa della rapidità dei suoi spostamenti restavano allora due soluzioni possibili della questione per ciascuna delle quali militava un clan ben distinto di partigiani da un lato quelli che opinavano per un mostro di forza colossale dall'altro quelli che ipotizzavano un battello sottomarino di un'estrema potenza motrice ora quest'ultima ipotesi dopo tutto anch'essa ammissibile non poter resistere alle inchieste che furono organizzate nei due mondi che un signor tal dei tali potesse avere a propria disposizione un simile mezzo meccanico sembrava poco probabile dove e quando lo avrebbe fatto costruire e come avrebbe potuto mantenere nel segreto questa costruzione soltanto un governo avrebbe potuto possedere una simile macchina di distruzione ed in questi tempi disastrosi in cui l'uomo impiega il suo ingegno nel moltiplicare la potenza delle armi da guerra era possibile che uno stato cercasse all'insaputa degli altri di sperimentare quel formidabile strumento dopo i fucili a retrocarica le torpedini dopo le torpedini gli arieti sottomarini poi la reazione per lo meno lo spero ma l'ipotesi di una macchina da guerra cadde anch'essa davanti alle dichiarazioni dei governi e poiché si trattava di una questione di interesse generale dato che ne soffrivano le comunicazioni transoceaniche la sincerità dei governi non poteva essere messa in dubbio d'altra parte come ammettere che la costruzione di quella nave sottomarina avesse potuto rimanere nascosta agli occhi del pubblico mantenere il segreto in circostanze simili è già difficilissimo per un privato ed è certamente impossibile per uno stato di cui tutti gli atti sono ostinatamente sorvegliati dalle potenze rivali quindi dopo inchieste fatte in inghilterra in francia in russia in prussia in italia e in america e perfino in turchia l'ipotesi di un monitore sottomarino fu definitivamente scartata così ritornò a galla il mostro a dispetto delle incessanti facezie con le quali lo punzecchiava la stampa minore e su questa via le immaginazioni si lasciarono andare alle più assurde lucubrazioni di un'ettiologia fantastica al mio arrivo a new york parecchi mi avevano fatto l'onore di consultarmi sul fenomeno avevo pubblicato in francia un'opera in quarto in due volumi intitolata i misteri dei grandi fondali sottomarini questo libro particolarmente piaciuto agli scienziati faceva di me uno specialista in questa parte piuttosto oscura della storia naturale mi fu richiesta la mia opinione fin tanto che mi fu possibile non riconoscere la realtà del fatto mi chiusi in un'assoluta negativa ma presto messo con le spalle al muro dovetti prender categoricamente posizione ed anche l'onorevole piera ronax professore al museo di parigi si trovò costretto dal new york herald a formulare un'opinione qualsiasi mi sottomisi non potendo continuare a tacere parlai discussi la questione sotto tutti i suoi aspetti politici e scientifici e qui da un estratto dell'articolo nutritissimo che pubblicai nel numero del 30 aprile così insomma dicevo dopo aver esaminato una ad una tutte le ipotesi possibili e avendo dovuto rifiutare ogni altra supposizione è giocoforza ammettere l'esistenza di un animale marino di straordinaria potenza le grandi profondità dell'oceano ci sono del tutto sconosciute lo scandaglio non ha potuto raggiungerle che cosa avviene in quei remoti abissi quali esseri vivono e possono vivere a 12 o 15 miglia sotto la superficie delle acque come sono gli organismi di quegli animali si possono appena rischiare delle congetture eppure la soluzione del problema che si sottopone al mio studio può assumere la forma di un dilemma o noi conosciamo tutte le specie di esseri che popolano il nostro pianeta o non le conosciamo se non le conosciamo tutte se la natura per noi oppone ancora dei segreti all'ittiologia non ve nulla di più ammissibile dell'esistenza di pesci o cetacei di specie e anche di generi nuovi per noi di un'organizzazione biologica essenzialmente abissale che abitano gli strati acque inaccessibili allo scandaglio e che un qualsiasi avvenimento una fantasia se si vuole un capriccio riporta a lunghi intervalli verso il livello superiore dell'oceano se invece conosciamo tutte le specie viventi bisogna necessariamente che cerchiamo l'animale in questione tra gli esseri marini già catalogati e in tal caso sarei disposto ad ammettere l'esistenza di un narvalo gigante il narvalo volgare oliocorno di mare raggiunge spesso una lunghezza di 60 piedi quintuplicate decuplicate magari questa dimensione date a questo cetaceo una forza proporzionata alle sue misure accrescete quella della sua arma offensiva e otterrete l'animale che cercate esso avrà le proporzioni stabilite dagli ufficiali dello shannon lo strumento adatto per la perforazione dello scozia e la potenza necessaria per sfondare la carena di un piroscafo infatti il narvalo è armato di una specie di spada d'avorio di una labarda secondo l'espressione usata da certi naturalisti è un dente principale che ha la durezza dell'acciaio qualcuno di questi denti è stato trovato conficcato nel ventre di balene che il narvalo attacca sempre con successo altri hanno dovuto essere strappati non senza fatica da carene di navi che essi avevano passato da parte a parte come una punta di trapano foro una botte il museo della facoltà di medicina di parigi possiede una di queste zanne lunga 2 metri e 25 centimetri e larga 48 centimetri alla base ebbene immaginate quest'arma dieci volte più forte e l'animale dieci volte più potente lanciatelo a una velocità di 20 miglia all'ora moltiplicate la sua massa per la sua velocità ed ecco che ottenete un urto capace di produrre la catastrofe che temete dunque fino a più ampie informazioni io opterei per un liocorno di mare di dimensioni colossali armato non di un alabarda ma di un vero e proprio sperone simile a quello di una fregata corazzata o di un ram da guerra di cui avrebbe al tempo stesso la massa e la potenza motrice così si spiegherebbe questo fenomeno inspiegabile a meno che non vi sia assolutamente nulla nonostante tutto ciò che si è intravisto visto sentito e risentito è una cosa ancora possibile queste ultime parole erano da parte mia una viltà ma volevo fino a un certo punto mettere al sicuro la mia dignità di professore e non offrire troppo il fianco alle risate degli americani che quando ridono ridono bene mi riservavo una scappatoia in fondo io ammettevo l'esistenza del mostro il mio articolo venne discusso con calore trovando così una vasta eco un certo numero di partigiani sposò la mia tesi dal resto la soluzione che proponeva lasciava ogni libertà all'immaginazione lo spirito umano si compiace in queste grandiose concezioni di esseri soprannaturali ora per questi il mare è il miglior ambiente il solo habitat in cui questi giganti a cui il confronto gli elefanti o i rinoceronti sono appena dei nani possono riprodursi e svilupparsi le masse liquide trasportano le più grandi specie conosciute di mammiferi e forse nascondono anche dei molluschi di dimensioni senza pari dei crostacei spaventevoli a vedersi come ragoste di 100 metri e granchi di 200 tonnellate perché no un tempo gli animali terrestri delle epoche geologiche i quadrupedi i quadrumani i rettili gli uccelli erano fabbricati su modelli giganteschi il creatore li aveva fusi in uno stampo colossale che il tempo ha piano piano ridotto perché il mare nelle sue ignorate profondità non potrebbe aver conservato quegli smisurati campioni della vita di un'altra età lui che non cambia mai mentre il nucleo terrestre muta quasi incessantemente perché non nasconderebbe nel suo seno le ultime verità di quelle specie titaniche per le quali sono i secoli gli anni e i millenni secoli ma mi sto lasciando trascinare a delle fantasticherie che non ho più diritto di perseguire basta con queste chimere che il tempo ha cambiate per me in terribili realtà ripeto un'opinione si formò allora sulla natura del fenomeno e il pubblico ammise senza contestazioni l'esistenza di un essere prodigioso che non aveva niente in comune coi favolosi serpenti di mare ma se per gli uni tutto ciò non significò che un problema puramente scientifico da risolvere per gli altri più positivi specialmente in america in inghilterra si trattò innanzitutto di liberare l'oceano da quel terribile mostro per tornare a rendere sicure le comunicazioni transoceaniche la stampa industriale e quella commerciale affrontarono la questione soprattutto da questo punto di vista la shipping and mercantile gazette il lloyd il pachebo la review marittime e colonielle tutti i periodici al servizio delle compagnie d'assicurazioni che minacciavano di aumentare il prezzo dei loro premi furono unanimi su questo punto essendosi l'opinione pubblica pronunciata in proposito gli stati dell'unione assunsero la prima iniziativa i preparativi di una spedizione destinata a dare la caccia al narvalo furono fatti a new york una fregata veloce l'abraham lincoln fu messa in grado di prendere il mare al più presto gli arsenali furono aperti al comandante farragut che diede il massimo impulso all'armamento della sua nave e dal preciso momento come succede sempre in cui fu decisa la caccia al mostro questi non si mostrò più per due mesi nessuno ne sentì più parlare nessuna nave lo incontrò sembrava che quell'io corno fosse al corrente dei complotti che si tramavano contro di lui se n'era tanto parlato e anche attraverso il cavo transatlantico così i begli spiriti sostenevano che quel volpone avesse intercettato qualche telegramma e adesso ne traeva profitto tal che quella fregata armata per una crociera lontana e dotata di formidabili attrezzature da pesca ora non si sapeva più verso dove dirigerla e l'impazienza saliva quando il 2 luglio si seppe che un piroscafo della linea san francisco di california shanghai aveva rivisto la bestia tre settimane prima nei mari settentrionali del pacifico l'emozione provocata da questa notizia fu grandissima non furono accordate al comandante farragut neppure 24 ore di respiro i suoi viveri erano a bordo le sue stive rigurgitavano di carbone non un uomo mancava il suo ruolino dell'equipaggio doveva soltanto accendere le caldaie e salpare non gli sarebbe stata perdonata neppure mezza giornata di ritardo dal resto il comandante farragut non desiderava che partire tre ore prima che l'abram lincoln lasciasse la banchina di brooklyn io ricevetti questa lettera signora ronax professore al museo di parigi fifth avenue hotel new york signore se volete unirvi alla spedizione dell'abram lincoln il governo degli stati uniti gradirà assai che la francia sia rappresentata in quest'impresa da voi il comandante farragut tiene una cabina a vostra disposizione cordialmente vostro jb hobson segretario della marina 3 come piacerà il signore 3 secondi prima dell'arrivo della lettera di jb hobson pensavo in seguire il liocorno quanto a tentare il famoso passaggio di nord ovest 3 secondi dopo aver letto la lettera dell'onorevole segretario della marina avevo capito finalmente che la mia vera vocazione ossia il reale scopo della mia vita era dar la caccia a questo mostro inquietante e liberarne il mondo eppure ero di ritorno da un faticoso viaggio stanco avido di riposo non sognavo che di rivedere il mio paese e gli amici il mio piccolo appartamento al jardin de plants le mie care preziose collezioni ma nulla potei trattenermi dimenticai tutto fatiche amici collezioni accettai senza esitare l'offerta del governo americano del resto pensavo tutte le strade riconucono in europa e il liocorno sarà così gentile da trascinarmi verso le coste della francia quel degno animale si lascerà cogliere nei mari europei per il mio piacere personale e non voglio portare al museo di storia naturale meno di mezzo metro della sua labarda ma intanto mi toccava cercare quel narvalo nel nord dell'oceano pacifico cosa che nei riguardi del ritorno in francia equivaleva a prendere la via degli antipodi conseil gridai con voce impaziente conseil era il mio domestico un giovane devoto che mi accompagnava in tutti i miei viaggi un bravo fiammingo cui volevo bene e che me ne voleva altrettanto a sua volta un essere flemmatico per natura metodico per principio zelante per abitudine non facile a stupirsi dalle sorprese della vita abilissimo di mano adattabile a tutti i servizi e a dispetto del suo nome alieno dal dar consigli perfino quando gli venivano richiesti a forza di avvicinare gli scienziati del nostro piccolo mondo dai jardin de plants conseil aveva finito con l'acquisire parecchie cognizioni scientifiche in lui aveva uno specialista afferratissimo quanto classificazioni di scienze naturali capace di percorrere con un'agilità da acrobata tutta la gamma dei rami dei gruppi delle classi delle sottoclassi degli ordini delle famiglie dei generi dei sottogeneri delle specie e delle varietà ma là si fermava la sua scienza classificare era il suo vivere e non ne sapeva di più versatissimo nella teoria della classificazione quasi digiuno della pratica credo che non avrebbe saputo distinguere un capodoglio da una balena eppure che bravo e degno ragazzo fino allora e ormai da dieci anni conseil mi aveva seguito dovunque la scienza mi avesse trascinato da lui mai un'osservazione sulla lunghezza o la faticosità di un viaggio mai un'obiezione al dover preparare le valigie per qualsiasi paese cina o congo per lontano che fosse andava qui come là senza chiedere nulla inoltre avevo una salute che sfidava tutte le malattie muscoli solidi ma niente nervi niente apparenza di nervi nel senso morale beninteso questo giovane aveva 30 anni e la sua età stava quella del suo padrone come 15 sta a 20 chiedo scusa di far sapere così che avevo 40 anni ma con sale aveva un difetto formalista arrabbiato non mi parlava mai se non in terza persona fin a riuscire irritante con sale ripetei cominciando febbrilmente a fare i miei preparativi di partenza certo mi dava sicurezza un giovanotto tanto devoto di solito non domandava mai se gli conveniva o no seguirmi in un viaggio ma questa volta si trattava di una spedizione che poteva durare dio sa quanto di un'impresa rischiosa alla caccia di un animale capace di affondare una fregata come si spinge sott'acqua un guscio di noce vi era da riflettere anche per il più impassibile uomo del mondo che ne avrebbe detto con sale con sale chiamai per la terza volta con sale apparve il signore mi desidera disse entrando sì ragazzo mio preparami e preparati fra due ore partiamo come piacerà al signore rispose tranquillamente con sale non abbiamo minuto da perdere metti nel mio baule tutti i miei strumenti da viaggio e dei vestiti delle camicie e dei calzini senza contarli quanti più puoi e sbrigati e le collezioni del signore fece osservare con sale ce ne occuperemo più in là come gli archioterium gli racoterium gli orodeon il cheropotamus e tutte le altre carcasse del signore ce le terranno qui in albergo e il baby russa vivo del signore a penseranno di nutrirlo durante la nostra assenza dal resto darò ordine di spedirci tutto il nostro serraglio in francia allora noi non torniamo a parigi domandò con sale sì certo risposi evasivamente ma facendo una deviazione la deviazione che piacerà al signore o sarà roba da poco una via un po meno diretta ecco tutto ci imbarchiamo sull'abram lincoln come al signore converrà meglio ribadì pacificamente con sale sai amico mio si tratta del mostro del famoso narvalo andiamo a liberarne i mari l'autore di un'opera in quarto in due volumi sui misteri dei grandi fondali sottomarini non può esimersi dall'imbarcarsi col comandante farragut missione gloriosa ma anche pericolosa non si sa dove si va queste bestie possono essere molto capricciose ma noi andremo comunque abbiamo un comandante che ha fegato da vendere quel che farà il signore farò io ma rifletti bene perché io non voglio nasconderti nulla è uno di quei viaggi da cui non sempre si ritorna come piacerà al signore un quarto d'ora dopo il nostro bagaglio era pronto con sale aveva sbrigato tutto in un lampo e io ero sicuro che non mancasse nulla perché il giovanotto classificava le camicie e vestiti tanto bene quanto gli uccelli o i mammiferi l'ascensore dell'albergo ci portò al grande vestibolo del mezzanino feci pochi scalini che scendevano al piantarreno pagai il mio conto a quel vasto bancone sempre assediato da una considerevole folla gli di ordine di spedire a parigi i miei pacchi di animali impagliati e di piante essiccate feci aprire un credito sufficiente per il mantenimento del baby russa e seguito da con sale presi una carrozza il veicolo a 20 franchi percorsa discese broadway fino a union square seguì fourth avenue fino alla congiunzione con bovary street e svoltato in catherine street si fermò la trentaquattresima banchina di là il catherine ferry boat ci trasportò uomini cavalli e carrozza a brooklyn la grande frazione di new york sulla riva sinistra dell'east river arrivamo in qualche minuto alla banchina presso la quale l'abraham lilcon vomitava dai suoi due fumaioli torrenti di fumo nero il nostro bagaglio fu subito trasbordato sul ponte della fregata mi precipitai a bordo e chiesi del comandante farragut un marinaio mi guidò sul casserretto dove mi trovai alla presenza di un ufficiale dalla faccia simpatica che mi tese la mano il signor pierre ronax mi domandò in persona risposi il comandante farragut esattamente siate il benvenuto signor professore la vostra cabina vi aspetta salutai e lasciato il comandante ai suoi compiti mi fece accompagnare alla cabina l'abraham lilcon era stato opportunamente scelto e attrezzato per la sua eccezionale missione era una nave veloce munita di apparecchiature surriscaldanti che permettevano di portare fino a 7 atmosfere la pressione del vapore sotto una tale pressione l'abraham lilcon raggiungeva una velocità media di 18 miglia e tre decimi all'ora velocità considerevole però sempre insufficiente per la lotta contro il gigantesco cetaceo la sistemazione interna della nave era all'altezza delle sue qualità nautiche rimasi molto soddisfatto della mia cabina che situata nella parte poppiera dava sul quadrato degli ufficiali sì ci troveremo bene qui dissi a conseil tanto bene se il signore me lo permette quanto bernardo l'eremita nella conchiglia di una buccina lasciai conseil sistemare convenientemente il nostro bagaglio e risali in coperta per assistere ai preparativi della partenza il comandante farragut stava facendo mollare le ultime cime che ormeggiavano l'abraham lilcon alla banchina di brooklyn così dunque un quarto d'ora e anche meno di ritardo e la fregata sarebbe partita senza di me e io avrei fallito l'occasione di partecipare a quella spedizione straordinaria sovrannaturale inverosimile il cui racconto veridico potrà pur sempre trovare degli increduli ma il comandante farragut non voleva perdere né un giorno e né un'ora per portarsi sui mari nei quali l'animale era stato ultimamente segnalato fece chiamare l'ufficiale macchinista siamo sotto pressione gli domandò sì signore fu la risposta gridò il comandante ricevuto quest'ordine trasmesso alla sala macchine per mezzo di apparecchi ad aria compressa i macchinisti fecero agire la ruota della messa in marcia il vapore fischiò precipitandosi nei tubi dischiusi i lunghi pistoni orizzontali gemettero e spinsero le bielle dell'albero le pale dell'elica batterono i flutti con crescente rapidità l'abram lincoln avanzò maestosamente fra un centinaio di ferry bots e di tenders che gli facevano corteo le banchine di brooklyn e tutta quella parte di new york che copre le sponde dell'ist river erano brulicanti di curiosi tre urrà scaturiti da mezzo milione di petti esplosero in successione migliaia di fazzoletti si agitarono sulla massa compatta salutarono l'abram lincoln fino al suo ingresso nelle acque dello hudson alla punta di quella penisola oblunga che forma la città di new york allora la nave seguendo dalla parte di new jersey l'ammirevole riva destra del fiume tempestata di ville passò tra i forti che la onorarono con le salve dei loro più grossi cannoni l'abram lincoln rispose ammainando e hissando tre volte la bandiera americana le cui 39 stelle splendevano al picco di mezzana poi correggendo la rotta per infilare il canale segnalato da boe che si incurva nella baia interna formata dalla punta di sandy hook sfiorò quella lingua sabbiosa sulla quale alcune migliaia di spettatori la clamarono ancora una volta il corteo dei ferry boats e dei tenders seguiva sempre la fregata e non la lasciò se non all'altezza del faro galleggiante le cui due luci indicano l'imbocco dei canali navigabili di new york suonavano in quel momento le tre il pilota scese nel suo canotto e raggiunse la piccola goletta che lo aspettava sotto vento la pressione del vapore fu aumentata l'elica batte l'acqua più rapidamente la nave costeggiò la riva gialla e bassa di long island e alle otto di sera dopo aver perduta di vista a nord ovest le luci del faro di fire island corse a tutto vapore sulle buie acque dell'atlantico 4 ned land il comandante farragut era un buon marinaio degno della nave che comandava formavano una cosa sola lui ne era l'anima sulla questione del cetaceo nessun dubbio si affacciava alla sua mente ed egli non permetteva nessuno di metterne in discussione l'esistenza a bordo della sua nave vi credeva come certe buone donne credono al leviatano per fede non per ragionamento il mostro esisteva lui avrebbe liberato il mare della sua presenza lo aveva giurato era una specie di cavaliere di rodi di diodon de gozon in marcia verso il serpente che desolava la sua isola o il comandante farragut avrebbe ucciso il narvalo o il narvalo avrebbe ucciso il comandante farragut nessun compromesso gli ufficiali di bordo condividevano l'opinione del loro capo bisognava sentirli parlare discutere disputare calcolare le probabilità di un incontro e vederli scrutare la vasta distesa dell'oceano più di uno di essi si imponeva un volontario quarto di guardia sulle crocette di velaccio che in tutt'altre circostanze avrebbe maledetto come una dannata corvè quando il sole percorreva il suo arco diurno l'alberatura era popolata di marinai cui l'assito del ponte bruciava i piedi e che non potevano restarvi tranquilli eppure l'abraham l'ilcon non tagliava ancora con la sua prua le acque sospette del pacifico quanto all'equipaggio esso non chiedeva che di incontrare il liocorno arpionarlo hissarlo a bordo tagliarlo a pezzi e sorvegliava il mare con scrupolosa attenzione non per nulla del resto il comandante farragut parlava di una certa somma di 2000 dollari riservata a chiunque mozzo o marinaio sotto ufficiale o ufficiale avesse avvistato per primo il mostro lascio immaginare quanto si prodigassero gli sguardi a bordo dell'abraham lincoln per mio conto non ero da meno di nessuno e non abbandonavo a nessuno la mia parte d'osservazione quotidiana la fregata avrebbe avuto mille e una ragione per chiamarsi l'argus solo fra tutti con sail aveva l'aria di protestare con la sua indifferenza per la questione che ci appassionava tutti era una nota stonata nell'entusiasmo generale ho già detto che il comandante farragut aveva accuratamente provvisto la sua nave di apparecchi idonei alla pesca del gigantesco cetaceo una baleniera non avrebbe potuto essere meglio armata eravamo in possesso di tutti i mezzi conosciuti dall'arpione a chi viene scagliato a mano fino alle frecce spinate delle spingarde e alle pallottole esplosive delle carabine sul castello di prua si allungava un cannone di tipo perfezionato a retrocarica dalla canna spessissima e l'anima assai stretta il cui modello deve figurare all'esposizione universale del 1867 quel prezioso congegno di produzione americana poteva spedire senza fatica un proiettile cilindri conico di quattro chilogrammi a una distanza media di 16 chilometri insomma labran lilcon non mancava di alcun mezzo di distruzione ma aveva a bordo ancora di meglio aveva ned land il re dei fiocinieri ned land era un canadese di mano eccezionalmente abile e non aveva rivali nel suo pericoloso mestiere abilità e sangue freddo audacia e astuzia queste qualità egli le possedeva in modo superiore e bisognava essere una balena ben furba o un capodoglio singolarmente astuto per sfuggire al colpo del suo arpione ned land aveva circa 40 anni era un uomo di alta statura più di sei piedi inglesi vigorosamente costruito l'aria grave poco comunicativo e talvolta violento e irascibilissimo quando incontrava qualche opposizione la sua figura richiamava l'attenzione e ancor di più la potenza del suo sguardo che accentuava singolarmente la sua fisionomia credo che il faragut avesse fatto molto bene ad arruolare quell'uomo egli valeva da solo tutto l'equipaggio come occhio e come braccio non potrei far meglio che paragonarlo a un potente telescopio che sia nello stesso tempo un cannone pronto a far fuoco quando si dice canadese si dice francese e per quanto poco comunicativo fosse ned land devo dire che fu preso da un certo affetto per me la mia nazionalità senza dubbio lo attirava era per lui un'occasione di parlare e per me di sentire quella vecchia lingua di rabelè che viva ancora in certe province canadesi la famiglia del fiociniere era oriunda di quebec ed aveva formato una tribù di arditi pescatori già nell'epoca in cui quella città apparteneva ancora alla francia a poco a poco ned prese gusto a chiacchierare e io mi dilettavo ascoltando i racconti delle sue avventure nei mari polari narrava cacce e combattimenti con una grande naturale poesia la narrazione prendeva forme epiche e mi sembrava di ascoltare un omero canadese che cantasse l'iliade delle regioni perboreali dipingo ora quell'ardito compagno tal quale attualmente lo conosco perché siamo diventati due vecchi amici uniti da quell'inalterabile amicizia che nasce e si cementa nelle congiunture più spaventevoli valoroso ned chiedo soltanto di vivere ancora cent'anni per poter ricordarmi più a lungo di te e adesso qual era l'opinione di ned sulla questione del mostro marino debbo confessare che assolutamente non credeva al liocorno e che era il solo a bordo a non condividere la convinzione generale e perfino evitava di trattare l'argomento sul quale riteni una buona volta necessario intrattenermi con lui in una magnifica serata il 30 luglio cioè tre settimane dopo la partenza la fregata si trovava all'altezza di capo bianco 30 miglia sotto vento alle coste patagone avevamo oltrepassato il tropico e lo stretto di l'ano si apriva a meno di 700 miglia a sud prima di otto giorni l'abram lincoln avrebbe solcato i flutti del pacifico seduti sul casserretto ned land e io parlavamo del più e del meno guardando quel misterioso mare le cui profondità sono rimaste sinora inaccessibili allo sguardo dell'uomo io portai con naturalezza la conversazione sul liocorno gigante ed esaminai varie possibilità di successo o d'insuccesso della nostra spedizione accorgendomi che ned mi lasciava parlare un po troppo da solo lo incalzai più apertamente ma come ned gli domandai ma come potete non essere convinto dell'esistenza del cetaceo cui stiamo dando la caccia avete delle ragioni per mostrarvi tanto incredulo il fiociniere mi guardò per qualche momento prima di rispondere si batte la mano sulla larga fronte con un gesto che gli era abituale chiuse gli occhi come per accogliersi in sé disse finalmente può essere proprio così signora ronax eppure ned voi baleniere di professione voi che siete in familiarità coi grandi mammiferi marini e la cui immaginazione dovrebbe facilmente accettare l'ipotesi dell'esistenza di cetacei enormi proprio voi nutrite dubbi in circostanze simili qualcosa vi inganna signor professore rispose ned che l'ignorante creda straordinarie comete che attraversano lo spazio o all'esistenza di mostri antidiluviani che popolano all'interno del globo sia pure ma né l'astronomo né il geologo ammettono tali chimere e così il baleniere ho cacciato molti cetacei ne ho arpionato un gran numero ne ho uccisi parecchi ma per quanto potenti e bene armati fossero né le loro code né i loro denti avrebbero potuto intaccare le piastre di lamiera ad un piroscafo eppure ned vengono citati dei bastimenti che il dente del narvalo ha passati da parte a parte dei bastimenti di legno è una cosa possibile rispose il canadese e per giunta io non li ho mai visti così fino a prova contraria io nego che balene, capodoglio o liocorni possono produrre danni simili ascoltatemi ned no signor professore no tutto quello che volete ma non questo un polipo gigantesco forse ancora meno ned il polipo non è che un mollusco e questo stesso nome indica la poca consistenza delle sue carni forse anche lungo 500 piedi il polipo che non appartiene alle specie dei vertebrati è del tutto innocuo per navi come lo scozia o l'abram lincoln bisogna dunque respingere tra le favole le prodezze dei kraken e di altri mostri dello stesso genere allora signor naturalista replicò ned land in tono alquanto malizioso voi persistete ad ammettere l'esistenza di un enorme cetaceo sì ned e ve lo ripeto con una convinzione che si appoggia alla logica dei fatti io credo all'esistenza di un mammifero di potente costituzione appartenente alle specie dei vertebrati come le balene, i capodogli o i delfini e munito di una zanna cornea di un'estrema potenza di penetrazione fece il fiociniere scuotendo la testa con l'aria di un uomo che non vuole lasciarsi convincere osservate, mio degno canadese ripresi che se un simile animale esiste se esso abita nelle profondità dell'oceano se frequenta gli strati liquidi situati a qualche miglio sotto la superficie acquea esso necessariamente possiede un organismo la cui solidità sfida qualsiasi confronto e perché un organismo tanto potente? perché occorrerebbe una forza incalcolabile per mantenersi negli strati profondi e resistere alla loro pressione davvero? disse Ned che mi guardava strizzando l'occhio davvero? e poche cifre ve ne convinceranno senza fatica oh, le cifre ribatte Ned si fa qualche si vuole con le cifre negli affari Ned, ma non nelle matematiche sentitemi bene ammettiamo che la pressione di un'atmosfera sia rappresentata dalla pressione di una colonna d'acqua alta a 32 piedi in realtà la colonna d'acqua sarebbe d'altezza minore perché si tratta di acqua di mare la cui densità è superiore a quella dell'acqua dolce ebbene quando voi vi tuffate Ned tante volte 32 piedi d'acqua sopra di voi tante volte il vostro corpo sopporta una pressione uguale a quella dell'atmosfera cioè di chili su ogni centimetro quadrato della sua superficie ne consegue che a 320 piedi questa pressione è di 10 atmosfere di 100 atmosfere a 3200 piedi e di 1000 atmosfere a 32.000 piedi cioè circa due leghe e mezza ciò che equivale a dire che se voi poteste raggiungere questa profondità dell'oceano ogni centimetro quadrato della vostra superficie subirebbe una pressione di 1000 kg e adesso mio caro Ned sapete quanti centimetri quadrati conta la vostra superficie? non ne ho la minima idea signor Aronax circa 17.000 tanti? e poiché in realtà la pressione atmosferica è un po' superiore al peso di un chilogrammo per centimetro quadrato i vostri 17.000 cm quadrati in questo momento sopportano una pressione di 17.568 kg senza che io me ne accorghe? senza che ve ne accorgiate e se non siete schiacciato da una tale pressione è perché l'aria penetra all'interno del vostro corpo con una pressione uguale d'onde un perfetto equilibrio tra la spinta interna e quella esterna che si neutralizzano a vicenda il che vi permette di sopportarle senza inconvenienti ma nell'acqua le cose sono ben diverse si capisco disse Ned diventato più attento perché l'acqua mi circonda ma non mi penetra precisamente Ned così dunque a 32 piedi sotto la superficie marina voi subireste una pressione di 17.568 kg a 320 piedi 10 volte quella pressione vale a dire 175.680 kg a 3200 piedi 100 volte quella pressione vale a dire 1.756.800 kg e finalmente a 32.000 piedi mille volte quella pressione vale a dire 17.568.000 kg cioè sareste appiattito come se vi si ritirasse da sotto i rulli di una macchina idraulica caspita fece Ned ebbene mio degno fiociniere se dei vertebrati lunghi più di centinaia di metri e grossi in proporzione si mantengono in vita a simili profondità l'oro la cui superficie rappresentata da milioni di centimetri quadrati è in miliardi di chilogrammi che bisogna calcolare il peso che sopportano calcolate dunque quale deve essere la resistenza della loro ossatura e quale la potenza del loro organismo per poter resistere a tali pressioni bisogna rispose Ned Land che siano costruiti in piastre di lamiera di 8 pollici come le fregate corazzate proprio come dita Ned e pensate allora alle devastazioni che può produrre una simile massa lanciata con la velocità di un treno espresso contro lo scafo di una nave si effettivamente forse rispose il canadese che scosso da quelle cifre non voleva tuttavia arrendersi ebbene vi ho convinto mi avete convinto di una cosa signor naturalista che se esistono in fondo al mare animali simili debbono necessariamente essere forti come dite voi ma se non esistono cocciuto di un fiociniere come spiegate l'incidente dello Scozia che forse disse Ned esitante continuate che forse la cosa non è vera rispose il canadese ripetendo senza saperlo una celebre risposta di Arago ma tal genere di risposta provava l'ostinazione del fiociniere e nient'altro quel giorno non insistetti oltre l'incidente dello Scozia non si poteva negare la falla era tanto vera che si era dovuto turarla e non ritengo che l'esistenza di un foro possa essere dimostrata in modo più inoppugnabile certamente la falla non si era prodotta da sola e poiché non era stata prodotta da rocce sottomarine o da macchine sottomarine era ovviamente dovuta l'arma perforante di un animale ora secondo me e in base a tutte le ragioni dedotte in precedenza l'animale apparteneva alla specie dei vertebrati alla classe dei mammiferi al gruppo dei pisciformi e infine all'ordine dei cetacei quanto alla famiglia di cui faceva parte balene, capodoglio, delfini e quanto alla specie nella quale occorresse catalogarlo la questione era da mettere in chiaro ulteriormente per risolverla bisognava dissecare quell'ignoto mostro per dissecarlo prenderlo per prenderlo arpionarlo cosa che era di competenza di Ned Land per arpionarlo vederlo cosa che era di competenza dell'equipaggio e per vederlo incontrarlo ciò dipendeva dal caso 5 all'avventura 5 il viaggio dell'Abram Lincoln non fu segnato per qualche tempo da incidenti ma una circostanza mise in rilievo la meravigliosa abilità di Ned Land e mostrò quale fiducia si potesse avere in lui a largo delle malvine il 30 giugno la fregata si mise in contatto con alcuni balenieri americani sapemmo che non avevano nulla da dire del narvalo uno di essi tuttavia il capitano del Monroe appreso che Ned Land era a bordo dell'Abram Lincoln chiese il suo aiuto per cacciare una balena che era in vista il comandante Farragut desideroso di vedere Ned Land all'opera lo autorizzò a passare a bordo del Monroe e il caso servì così bene il nostro canadese che invece di una balena egli ne arpionò due con una felice doppietta colpendo l'una al cuore e impadronendosi dell'altra dopo un inseguimento di qualche minuto decisamente se il mostro avesse mai avuto da fare i suoi conti con Ned Land non avrei scommesso per il mostro la nave procede lungo la costa sud-est dell'America con prodigiosa rapidità il 3 luglio eravamo l'imboccatura dello stretto di Magellano all'altezza del capo delle Vergini ma il comandante Farragut non volle cacciarsi in quel tortuoso passaggio e manovrò in modo da doppiare il capo Horn l'equipaggio gli diede ragione all'unanimità e infatti che probabilità vi era di poter incontrare il narvalo in quell'angusto stretto molti marinai affermavano che il mostro non poteva che era troppo grosso per farlo il 6 luglio verso le tre pomeridiane l'Abran Lincoln doppiò quell'isolotto solitario quello scoglio perduto all'estremità del continente americano al quale dei marinai olandesi diedero il nome della loro città natale il capo Horn la rotta fu tenuta per nord-est e l'indomani l'elica della fregata batte finalmente le acque del pacifico apri l'occhio apri l'occhio ripetevano i marinai dell'Abran Lincoln e lo aprivano a dismisura occhi e cannocchiali un po' abbagliati è vero dalla prospettiva dei 2000 dollari non si diedero un momento di riposo giorno e notte si scrutava la superficie dell'oceano e i nittalopi per i quali la facoltà di vedere nella notte aumentava del 50% le possibilità avevano buon gioco nella gara per il premio io pur non attirato dal denaro non ero tuttavia almeno attento non concedendo che qualche minuto ai pasti e qualche ora al sonno indifferente al sole o alla pioggia non lasciavo più il ponte della nave ora chino sul bastinaggio del castello di prua ora appoggiato al parapetto di poppa divoravo con occhio avido la cotonosa scia che imbiancava il mare a perdita d'occhio e quante volte ho condiviso l'emozione dello stato maggiore dell'equipaggio allorché qualche capricciosa balena faceva sorgere dai flutti il suo dorso nerastro il ponte della fregata si affollava in un momento i boccaporti emettevano un torrente di marinai e di ufficiali ciascuno col petto ansante l'occhio torbido osservava il cammino del cetaceo io guardavo guardavo fino a consumarmi la retina a diventar cieco mentre Consail sempre flemmatico mi ripeteva in modo calmo se il signore volesse avere la bontà di sgranare meno gli occhi forse il signore ci vedrebbe molto meglio bene speranze l'abran lincoln correggeva la rotta correva sull'animale abbistato semplice balena o volgare capodoglio che presto spariva sotto un concerto di imprecazioni ma il tempo restava favorevole il viaggio procedeva nelle condizioni migliori si era nella cattiva stagione australe dato che il luglio di quella zona corrisponde al nostro gennaio di Europa ma il mare si manteneva buono e si lasciava osservare facilmente su un vasto perimetro Ned Land continuava a mostrare la più tenace incredulità ostentava persino di non esaminare la superficie delle acque quando non era il suo turno di guardia per lo meno quando nessuna balena era in vista eppure la sua meravigliosa potenza visiva avrebbe reso grandi servizi ma per otto ore su dodici quell'ostinato canadese leggeva o dormiva nella sua cabina cento volte gli rimproverai la sua indifferenza bah rispondeva non c'è mai nulla e anche se qualche animale ci fosse quali probabilità avremmo di vederlo ma non stiamo correndo all'avventura quella bestia introvabile è stata rivista si dice negli altri mari del Pacifico ed io voglio anche ammetterlo ma da quell'incontro sono passati ormai già due mesi e a giudicare dal temperamento del vostro narvalo a lui non piace affatto ammuffire a lungo negli stessi paraggi è dotato di un'immensa facilità di spostamento ora voi lo sapete meglio di me signor professore la natura non fa mai nulla senza ragione e non darebbe a un animale naturalmente lento la facoltà di muoversi così rapidamente se lui non avesse bisogno di servirsene dunque se la bestia esiste è già lontana a questo non sapevo rispondere evidentemente noi andavamo alla cieca ma quale il modo di fare diversamente così le nostre probabilità di successo erano assai limitate tuttavia del successo nessuno ancora dubitava e nessun marinaio di bordo avrebbe scommesso contro il narvalo e contro la sua prossima apparizione il 20 luglio il tropico di capricorno fu da noi tagliato a 105 gradi di longitudine e il 27 dello stesso mese passavamo l'equatore sul centodecimo meridiano rilevata questa posizione la fregata prese una direzione più precisa verso l'ovest e si inoltrò nei mari centrali del pacifico il comandante Farragut pensava giustamente che fosse meglio frequentare le acque profonde e allontanarsi dai continenti e dalle isole di cui sembrava che l'animale avesse sempre evitato la vicinanza senza dubbio perché non c'è abbastanza acqua per lui diceva il primo nostromo la nave passò dunque a largo delle pomutù delle marchesi delle sandwich tagliò il tropico del cancro a 132 gradi di longitudine e fece rotta verso i mari della cina eravamo finalmente sui luoghi delle ultime famose scorrerie del mostro e in poche parole a bordo non si viveva più i cuori palpitavano terribilmente e si preparavano per l'avvenire incurabili aneurismi l'intero equipaggio subiva una sovreccitazione nervosa di cui non riuscirei a dare l'idea non si mangiava non si dormiva più venti volte al giorno l'errore d'apprezzamento l'illusione ottica di qualche marinaio inerpicato sull'alberatura producevano effetti intollerabili e queste emozioni ripetute venti volte ci mantenevano in uno stato di eretismo troppo violento per non condurre ad una reazione essa infatti finì col prodursi ma per tre mesi tre mesi dei quali ogni giornata sembrava un secolo l'Abram Lincoln solcò tutti i mari settentrionali del Pacifico correndo verso tutte le balene avvistate facendo bruschi cambiamenti di rotta fermandosi repentinamente virando all'improvviso di bordo forzando o invertendo il vapore un colpo dietro l'altro a rischio di causare guasti alle macchine e non lasciò inesplorato neppure un punto solo dalle coste del Giappone a quelle americane nulla null'altro che l'immensità dei flutti deserti niente che assomigliasse a un narvalo gigantesco né a un isolotto sottomarino né a un relitto di naufragio né a uno scoglio fuggente né a qualsiasi entità sopranaturale venne la reazione lo scoraggiamento si impadronì degli spiriti e aprì un varco alla sfiducia completa un nuovo sentimento si diffuso a bordo composto per tre decimi di vergogna e sette decimi di furore si era avviliti ad essersi lasciati affascinare da una chimera ma ancor più furiosi le montagne ed argomenti favorevoli accumulate in un anno crollarono a un tratto e ciascuno non pensò più che a recuperare allora dei pasti o del sonno il tempo che aveva tanto stupidamente sacrificato con la naturale incostanza dell'animo umano da un eccesso si precipitò in un altro i più caldi fautori dell'impresa diventarono fatalmente i suoi più ardenti denigratori la reazione salì dal fondo della nave dai carbonili fino al quadrato dello stato maggiore e certamente non fosse stato per un'ostinazione personalissima del comandante Farragut la nave avrebbe definitivamente rivolto la prua a sud tuttavia quella inutile ricerca non poteva prolungarsi oltre l'Abram Lincoln non aveva nulla da rimproverarsi aveva fatto tutto il possibile per riuscire mai equipaggio della marina americana aveva mostrato maggiore pazienza e maggior zelo l'insuccesso non avrebbe potuto esserle imputato non rimaneva che tornare un ricorso collettivo venne fatto presso il comandante questi tenne duro i marinai non nascosero il loro malcontento e il servizio venne a soffrirne non voglio dire che vi sia stata rivolta a bordo ma dopo un ragionevole periodo d'ostinazione il comandante Farragut come Cristoforo Colombo chiese gli ultimi tre giorni di pazienza se entro tre giorni il mostro non fosse apparso il timoniere avrebbe dato tre giri di ruota indirizzando l'Abram Lincoln verso i mari americani la promessa venne fatta il 2 novembre ebbe dapprima l'effetto di rianimare gli spiriti crollanti l'oceano fu scrutato con rinnovata attenzione ognuno voleva gettargli quell'ultimo sguardo nel quale si concentra tutto un ricordo i cannocchiali tornarono a funzionare con attività febbrile era una suprema sfida lanciata al narvalo gigante poteva esso ragionevolmente esimersi dal rispondere a questo mandato di comparizione passarono due giorni l'Abram Lincoln navigava a piccolo vapore i mezzi più diversi vennero impiegati per svegliare l'attenzione o pungolare l'apatia dell'animale nel caso si fosse trovato in quei paraggi enormi pezzi di lardo furono messi a rimorchio per la maggiore gioia dei pescicani devo riconoscerlo le imbarcazioni si irradiarono in tutte le direzioni intorno all'Abram Lincoln mentre la nave metteva in panna e non lasciarono in esplorato un sol punto del mare ma la sera del 4 novembre arrivò senza che il mistero sottomarino si fosse svelato l'indomani 5 novembre a mezzogiorno scadeva il termine della dilazione dopo aver fatto il punto col comandante Farragut secondo la sua promessa avrebbe dovuto ordinare la rotta per sud-est e abbandonare definitivamente le regioni settentrionali del Pacifico la nave si trovava allora a 31 gradi e 15 minuti di latitudine nord e a 136 gradi e 42 minuti di longitudine est le terre del Giappone erano a meno di 200 miglia da noi sottovento si avvicinava la notte erano appena suonate le otto grandi nuvole velavano il disco della luna allora al primo quarto il mare ondulava pacificamente sotto la prua della fregata io ero a prua via affacciato al bastinaggio di sinistra con Seil al mio fianco guardava davanti a sé l'equipaggio appollaiato nel sartiame scrutava l'orizzonte che si restringeva e si oscurava a poco a poco gli ufficiali si erano armati del loro cannocchiale notturno e frugavano nell'oscurità crescente di tanto in tanto il cupo oceano scintillava sotto un raggio che la luna dardeggiava tra le frange di due nuvole poi qualsiasi traccia di luce svaniva nelle tenebre osservando con Seil vidi che il bravo figliolo risentiva almeno un po' dell'influenza generale perlomeno mi parve di constatarlo forse e per la prima volta i suoi nervi vibravano sotto l'azione di un sentimento di curiosità coraggio con Seil gli dissi ecco l'ultima occasione per intascare 2000 dollari che il signore mi permetta di dirlo rispose con Seil io non ho mai contato su questo premio e il governo dell'unione avrebbe potuto promettere anche 100 milioni senza pericolo di impoverirsi hai ragione con Seil si tratta di una stupidaggine nella quale ci siamo lanciati con troppa leggerezza quanto tempo perduto quante emozioni inutili già da sei mesi avremmo potuto essere ritornati in Francia nel piccolo appartamento del signore replicò con Seil nel museo del signore io avrei già classificato i fossili del signore e il suo baby russa già installato nella gabbia al jardin de plants attirerebbe tutti i curiosi della capitale proprio come dici con Seil senza contare inoltre che ci si burlerà di noi effettivamente rispose con tutta calma con Seil penso che ci si burlerà del signore e bisogna dirlo eh bisogna dirlo con Seil bene il signore non avrà quello che si è meritato davvero quando si ha l'onore di essere uno scienziato come il signore non ci si espone con Seil non pote finire il suo complimento nel silenzio circostante risonò una voce era la voce di Ned Land e gridava la cosa di cui si tratta sotto vento per traverso sei a tutto vapore a quel grido ogni uomo imbarcato sull'Abraham Lilcon si precipitò verso il fiociniere comandante ufficiali sotto ufficiali marinai mozzi e gli stessi ufficiali di macchina e gli addetti al carbone che avevano subito abbandonato i loro forni l'ordine di fermare era stato dato e la nave correva sull'abbrivo l'oscurità era profonda per quanto eccellenti fossero gli occhi del canadese mi domandavo in quale modo e quale cosa egli avesse potuto vedere il mio cuore batteva fino a rompersi ma Ned Land non si era ingannato e potemmo scorgere tutti la cosa che egli accennava con la mano a due gomene dalla nostra fiancata di dritta il mare pareva illuminato dal sotto in su non era un semplice fenomeno di fosforescienza e non ci si poteva sbagliare il mostro immerso a poche tese dalla superficie acquea emanava quel bagliore intensissimo ma inesplicabile che avevano menzionato i rapporti di diversi capitani quella magnifica radiazione doveva essere prodotta da una fonte di luce di rara potenza la parte luminosa formava sul mare un grandissimo ovale molto allungato al cui centro si condensava una sorgente il cui splendore insostenibile si smorzava grattatamente ma è solo un'agglomerazione di molecole fosforescenti esclamò un ufficiale no signore risposi io con convinzione le foladi o le salpe non producono una luce così potente quello splendore è di natura essenzialmente elettrica del resto vedete vedete si sta muovendo avanti e indietro sta per rirrompere su di noi un grido generale si alzò dalla nave silenzio disse il comandante farragut la barra al vento tutta macchina indietro i marinai si precipitarono alla barra il personale di macchina si precipitò sotto coperta il vapore fu immediatamente invertito e l'abram lilcon virando sulla sinistra descrisse un semicerchio via così macchina avanti gridò il comandante farragut gli ordini furono eseguiti e la nave si allontanò rapidamente dalla fonte luminosa mi sbaglio essa volle andarsene ma il soprannaturale animale si avvicinò a una velocità doppia della sua eravamo ansimanti ben più che il timore lo stupore ci teneva muti e immobili l'animale ci raggiungeva prendendosi gioco di noi esso fece un giro intorno alla fregata che in quel momento filava quattordici nodi e l'avvolse nel suo lone elettrico come in un polverio luminoso poi si allontanò di uno o due miglia lasciando una scia fosforescente simili ai vortici di vapore che proietta dietro di sé la locomotiva ad un treno espresso tutto a un tratto dai bui limiti dell'orizzonte dove era andata a prendere la sua rincorsa il mostro si scagliò ed improvviso verso l'Abraham Lilcon con una rapidità terrificante si fermò di colpo a venti piedi dal suo fasciame si spense non eclissandosi sotto le acque poiché il suo splendore non subì alcuna diminuzione graduale ma di colpo e come se la fonte di quel effluvio luminoso si fosse improvvisamente esaurita poi riapparve dall'altro lato della nave come se l'avesse aggirata o fosse scivolato sotto la sua chiglia ad ogni momento poteva prodursi una collisione che ci sarebbe stata fatale ma ero stupito per le manovre della nostra nave essa fuggiva e non attaccava era inseguita lei che avrebbe dovuto inseguire e lo disse al comandante Farragut il suo volto normalmente tanto impassibile esprimeva un'indefinibile meraviglia signor Aronax mi rispose io non so con quale essere formidabile sono le prese e non voglio rischiare imprudemente la mia nave in questo buio del resto come attaccare come difendersi aspettiamo la luce del giorno e le parti si invertiranno non avete più dubbi comandante sulla natura dell'animale no signore è evidentemente un narvalo gigantesco ma è anche un narvalo elettrico forse aggiunsi non è più avvicinabile di un gimnoto o di una torpedine probabilmente rispose il comandante e se possiede anche una forza fulminatrice è senza dubbio l'animale più terribile che sia mai uscito dalle mani del creatore e per questo signore che starò bene in guardia tutto l'equipaggio passò la notte vegliando a nessuno venne l'idea di dormire non potendo gareggiare in velocità l'Abram Lilcon aveva rallentato il cammino e procedeva a piccolo vapore dal canto suo il narvalo imitando la nave si lasciava cullare dalle onde e sembrava deciso a non lasciare il campo della lotta però verso mezzanotte scomparve o per meglio dire si spense come una grossa lucciola era fuggito bisognava temerlo non sperarlo ma all'una meno sette del mattino un fischio assordante si fece dire simile a quello prodotto da una colonna d'acqua espulsa con estrema violenza il comandante Farragut Ned Land e io ci trovavamo in quel momento insieme sul casserretto gettando avidi sguardi attraverso le tenebre profonde Ned Land chiese il comandante avete spesso sentito ruggire le balene spesso signore ma non mai balene il cui avvistamento mi abbia fatto guadagnare 2000 dollari infatti siete voi che avete diritto al premio ma ditemi non era questo il rumore che fanno i cetacei quando espellano l'acqua dai loro sfiatatoi lo stesso signore ma incomparabilmente più forte cosicché non ci si può sbagliare è proprio un cetaceo che abbiamo nelle nostre acque col vostro permesso gli diremo due parolette domani al levar del sole se sarà di umore tale da volervi ascoltare Mastro Land risposi io in tono poco convinto fatemelo avvicinare a quattro lunghezze d'arpione ribatté il canadese e vedrete se non mi ascolterà ma per farvelo avvicinare riprese il comandante dovrò mettere a vostra disposizione una baleniera? certo signore sarà mettere in gioco la vita dei miei uomini? e la mia? rispose semplicemente il fiociniere verso le due del mattino la fonte luminosa si manifestò non meno intensa a cinque miglia sopravvento dall'Abram Lilcon nonostante la distanza si udivano i formidabili colpi di coda dell'animale e perfino l'ansare della sua respirazione sembrava che al momento in cui l'enorme narvalo veniva a respirare alla superficie dell'oceano l'aria si precipitasse nei suoi polmoni come fa il vapore nei vasti cilindri di una macchina da duemila cavalli mmm pensai una balena che avesse la forza di un reggimento di cavalleria sarebbe pur sempre una graziosa balena si restò sul chi vive fino all'alba e ci si preparava al combattimento i congegni da pesca vennero disposti lungo i bastinaggi il comandante in seconda fece caricare quelle spingarde che scagliano un arpione a un miglio di distanza e le lunghe carabine a pallotto l'esplosiva la cui ferita è mortale anche per gli animali più potenti Ned Land si era accontentato di affilare il suo arpione arma terribile nelle sue mani alle sei l'alba cominciò a sorgere e con le prime luci dell'aurora si spense lo splendore elettrico del narvalo alle sette si era fatto giorno abbastanza ma una bruma mattutina molto fitta restringeva l'orizzonte e i migliori cannocchiali non riuscivano a forarla d'onde disappunto e collera mi inerpicai fino alle barre di trinchetto alcuni ufficiali si erano già arrampicati fino in cima agli alberi alle otto la bruma presa a rotolare pesantemente sui flutti e le sue grosse volute si alzarono poco a poco l'orizzonte si allargava e si purificava al tempo stesso a un tratto e come il giorno prima si fece udire la voce di Ned Land la cosa in questione dietro a sinistra tutti gli sguardi si puntarono sul punto indicato là a un miglio e mezzo dalla nave un lungo corpo nerastro emergeva di un metro dai flutti la sua coda agitata violentemente provocava un risucchio considerevole mai a parecchio caudale aveva battuto il mare con simile potenza un'immensa scia di un candore abbagliante segnava il percorso dell'animale tracciando una curva allungata la fregata si avvicinò al cetaceo lo esaminai in piena libertà di spirito i rapporti dello Shannon e della Elvezia avevano un po' esagerato le sue dimensioni io stimai la sua lunghezza appena 250 piedi quanto alla grossezza non potevo valutarla facilmente ma insomma l'animale mi parva ammirevolmente proporzionato nelle tre dimensioni mentre osservavo quell'essere fenomenale due getti di vapore ed acqua erruppero dai suoi sfiatatori raggiungendo un'altezza di 40 metri cosa che mi rivelò il suo modo di respirare ne conclusi definitivamente che apparteneva al ramo dei vertebrati classe dei mammiferi sotto classe dei monodelfi gruppo dei pisciformi ordine dei cetacei famiglia dei... su questo punto non mi potevo ancora pronunciare l'ordine dei cetacei comprende tre famiglie le balene, i capodogli e i delfini ed è in quest'ultima che sono annoverati i narvali ciascuna di queste famiglie si divide in più generi ciascun genere in specie ciascuna specie in varietà varietà, specie, genere e famiglia ancora mi mancavano ma io ero sicuro di poter completare la mia classificazione con l'aiuto del cielo e del comandante Farragut l'equipaggio attendeva impaziente gli ordini del capo questi, dopo aver attentamente osservato l'animale fece chiamare l'ufficiale di macchina l'ufficiale accorse signore disse il comandante siamo in pressione? si signore! rispose l'ufficiale bene, forzate le macchine a tutto vapore tre urrà accolsero quest'ordine l'ora della lotta era suonata pochi momenti dopo le due ciminiere della fregata vomitavano torrenti di fumo nero il ponte fremeva ripercotendo il tremito delle caldaie l'Abraham Lilcon spinto in avanti dalla sua elica possente andò diritto sull'animale questo lo lasciò con indifferenza avvicinarsi fino a mezza gomena poi, non degnandosi di immergersi prese una piccola andatura di fuga e tenne la distanza l'inseguimento si prolungò per circa tre quarti d'ora senza che la fregata guadagnasse due tese sul cetaceo era evidente che continuando così non lo si sarebbe mai potuto raggiungere il comandante Fargut torceva con rabbia il folto ciuffo di peli che li cresceva sotto il mento Ned Land! gridò il canadese si mise a disposizione ebbene Mastro Land domandò il comandante mi consigliate ancora di mettere in mare le scialuppe? no signore rispose Ned Land perché quella maledetta bestia non si lascerà prendere se non a suo piacimento e allora che fare? forzare le macchine se è possibile signore quanto me col vostro permesso naturalmente vado a installarmi sulle sottobarbe di buon presso e se arriviamo a portata d'arpione io arpiono! andate Ned rispose il comandante Fargut macchina! gridò fare salire la pressione! Ned Land si portò al suo posto di combattimento i fuochi furono più fortemente alimentati l'elica diede 43 giri al minuto e il vapore scaturì da tutte le valvole gettato il lock si vide che l'Abraham Lincoln correva a 18 miglia e 5 decimi all'ora ma il maledetto animale filava anche lui a una velocità di 18 miglia e 5 decimi all'ora per un'ora ancora la nave tenne questa andatura senza guadagnare una tesa era umiliante per uno tra i più veloci corridori della marina americana una sorda collera correva tra l'equipaggio i marinai insultavano il mostro che peraltro non si degnava di rispondere il comandante Fargut non si contentava più di torcersi la barbetta se la mordeva l'ufficiale di macchina fu chiamato ancora una volta avete raggiunto il massimo di pressione? gli domandò il comandante si signore! rispose l'ufficiale e le vostre valvole sono cariche? cariche a 6 atmosfere e mezza caricatele a 10 atmosfere mai vi fu un ordine più americano di questo non si sarebbe fatto di meglio sul Mississippi per distanziare un concorrente con sail dissi al mio bravo domestico che si trovava al mio fianco lo sai che stiamo forse per saltare in aria? come piacerà il signore! rispose con sail ebbene confesso che questa probabilità non mi spiaceva rischiarla le valvole furono caricate il carbone si riversò nei forni i ventilatori spedirono torrenti d'aria sulla brace la velocità dell'Abram Lilcon aumentò i suoi alberi tremavano fino nelle loro basi e i turbini di fumo potevano appena riuscire a passare per le ciminiere troppo strette fu gettato per la seconda volta il lock ebbene timoniere? domandò il comandante Farragut 19 miglia e tre decimi signore forzate le macchine l'ordine fu eseguito il manometro segnò dieci atmosfere ma il cetaceo evidentemente forzò le macchine anche lui perché senza fare complimenti si mise a filare anche lui le sue 19 miglia e tre decimi all'ora che inseguimento no, non posso descrivere l'emozione che faceva vibrare tutto il mio essere ned land era sempre al suo posto l'arpione in pugno più di una volta l'animale si lasciò avvicinare lo prendiamo lo prendiamo gridava il canadese poi al momento in cui ned si preparava a colpire il cetaceo sfuggiva con una velocità che non potevo stimare minore di 30 miglia all'ora e addirittura mentre andavamo al nostro maximum di velocità non si permise forse di dar la baia alla fregata facendone il giro un urlo di furore esplose da tutti i petti a mezzogiorno non ci trovavamo meglio che alle otto del mattino il comandante Farragut si decise allora a impiegare mezzi più diretti ah disse quell'animale va più veloce dell'Abram Lilcon ebbene adesso vedremo se andrà più veloce anche dei suoi proiettili cilindro conici quartier mastro degli uomini al pezzo di prua il cannone del castello di prua fu immediatamente caricato e puntato il colpo partì ma il proiettile passò di qualche piede al di sopra del cetaceo che si teneva a mezzo miglio avanti un altro più bravo gridò il comandante e 500 dollari a chi mi bucherà quella bestia infernale un vecchio cannoniere dalla barba grigia mi pare di vederlo ancora l'occhio calmo la fisionomia fredda si avvicinò al suo pezzo e lo mise in posizione di tiro mirò a lungo e cheggiò una forte detonazione alla quale si mischiarono gli urrà dell'equipaggio il proiettile andò a segno e colpì l'animale ma non normalmente scivolando sulla sua superficie tondeggiante andò a perdersi in mare due miglia più lontano ah ah perdinci disse il vecchio cannoniere rabbiosamente quel birbante là deve essere blindato con piastre di sei pollici maledizione esclamò il comandante farragut la caccia riprese il comandante disse chinandosi su di me lo inseguirò fino a quando scoppia la mia nave si risposi e avete ragione si poteva sperare che l'animale si stancasse non essendo indifferente alla fatica come una macchina a vapore ma non avveniva così le ore passarono senza che desse segno di esaurimento tuttavia bisognava dire in lode all'Abram Lilcon che essa lottò con una tenace instancabile non calcolo a meno di 500 km la distanza percorsa in quella disgraziata giornata del 6 novembre ma la notte discese e avvolse nelle sue ombre l'oceano agitato allora credetti che la nostra spedizione fosse giunta al termine e che non avremmo mai più rivisto il fantastico animale ma sbagliavo alle 10.50 di sera il chiarore elettrico apparve di nuovo a 3 miglia sopravvento dalla fregata così puro così intenso come la notte precedente il narvalo sembrava immobile forse stanco della sua giornata stava dormendo abbandonandosi all'ondulare delle onde era una probabilità di successo di cui il comandante Farragut decise di approfittare egli impartì suoi ordini a piccolo vapore Labram e Lilcon avanzò con prudenza per non svegliare l'avversario non è raro incontrare in pieno oceano delle balene profondamente addormentate che si possono allora attaccare con successo e Ned Land ne aveva arpionata più di una durante il sonno il canadese andò a riprendere il suo posto di combattimento nelle sottobarbe di Bonpresso la fregata si avvicinò senza far rumore fermò le macchine a due gomene dall'animale e corse sull'abbrivo a bordo non si respirava più un profondo silenzio regnava sul ponte eravamo ormai a meno di cento piedi dall'ardente fonte di luce il cui splendore cresceva abbagliandoci in quel momento affacciato al parapetto del castello di prua vedevo sotto di me Ned Land che afferrato con una mano alla martingala brandiva con l'altra il suo terribile arpione venti piedi soltanto lo separavano dall'immobile animale a un tratto il suo braccio si distese violentemente e l'arpione fu scagliato udì l'urto sonoro dell'arma che sembrava avesse colpito un corpo duro il chiarore elettrico si spense di colpe e due enormi trombe d'acqua si abbatterono sul ponte della fregata correndo come un torrente da prua a poppa rovesciando gli uomini fracassando tutto sul loro passaggio seguì un urto tremendo e scaraventato il di sopra del parapetto senza avere il tempo di affarrarmi a qualcosa precipitai in mare 7. una balena di specie ignota benché del tutto sorpreso ebbi intiera coscienza delle mie sensazioni fui dapprima trascinato a una profondità di circa 20 piedi sono un buon notatore senza pretendermi pari a Byron e a Edgar Poe che sono dei maestri e quel tuffo non mi fece perdere la testa due vigorose tallonate mi riportarono alla superficie il mio primo pensiero fu di cercare con gli occhi la nave l'equipaggio si era accorto della mia scomparsa l'Abraham Lilcon aveva virato di bordo il comandante Farragut faceva calare in mare una scialuppa potevo sperare di essere salvato le tenebre erano profonde intravidi una massa nera che spariva verso est e i cui fanali di posizione si spensero nella lontananza era la fregata mi sentii perduto aiuto! aiuto! gridai nuotando verso l'Abraham Lilcon abbracciate disperate i miei indumenti mi imbarazzavano l'acqua li incollava al mio corpo essi paralizzavano i miei movimenti io sprofondavo soffocavo aiuto! fu il mio ultimo grido la mia bocca si riempì d'acqua mi dibattei trascinato nell'abisso a un tratto il mio vestito fu afferrato da una mano vigorosa mi sentii violentemente riportato alla superficie e udì udì pronunciare al mio orecchio queste parole se il signore volesse usarmi l'estrema cortesia ad appoggiarsi alla mia spalla nuoterebbe molto meglio strinsi con una mano il braccio del fedele Consail tu! tu! dissi io in persona rispose Consail e agli ordini del signore e quell'urto ti ha fatto cadere insieme a me in mare niente affatto ma essendo al servizio del signore ho seguito il signore il degno giovanotto trovava tutto questo naturalissimo e la nave? domandai rispose Consail voltandosi sul dorso credo che il signore farà bene a non contar troppo su di lei cosa dici? dico che al momento di saltare in mare udì gli uomini di barra a gridare l'elica e il timone sono rotti rotti? sì, rotti dal dente del mostro credo sia la sola avaria subita dall'Abram Lilcon ma... spiacevole circostanza la nave non governa più allora siamo perduti sì forse rispose tranquillamente Consail però abbiamo ancora qualche ora davanti a noi e in qualche ora si fanno tante cose l'imperturbabile sangue freddo di Consail mi confortò nuotai con maggior vigore ma imbarazzato dai miei vestiti che mi sembravano una cappa di piombo mi riusciva estremamente difficile sostenermi Consail se ne accorse che il Signore mi permetta di praticargli un'incisione disse e facendo passare sotto i miei vestiti un coltello aperto li tagliò dall'alto in basso con un colpo rapido poi me ne liberò lestamente mentre io nuotavo per tutti e due a mia volta resi a Consail lo stesso servizio e continuammo a navigare l'uno accanto all'altro ma la nostra situazione non diventava meno terribile forse la nostra scomparsa non era stata notata e se anche lo fosse stata la fregata non avrebbe potuto tornare sotto vento per noi essendo stata privata del timone non si poteva perciò contare che sulle sue scialuppe Consail ragionò freddamente su questa ipotesi e fece in base a ciò il suo piano curioso carattere quel flemmatico giovane si trovava come a casa propria fu dunque deciso che poiché le nostre sole probabilità di salvezza erano quelle d'essere raccolti dalle scialuppe dell'Abraham Lilcon dovevamo organizzarci in modo da poter aspettare il più a lungo possibile io risolse allora di dividere le nostre forze per non esaurirle completamente ed ecco quanto fu convenuto mentre uno steso sul dorso sarebbe rimasto immobile a braccia incrociate e gambe distese l'altro avrebbe nuotato spingendolo in avanti questo compito da rimorchiatore non doveva durare più di dieci minuti e facendo così a turno avremmo potuto tenerci a galla per qualche ora e forse fino allo spuntare del giorno deboli speranze ma la facoltà di sperare è tanto radicata nel cuore dell'uomo e poi eravamo in due e infine lo dichiaro benché la cosa possa sembrare inverosimile se cercavo di distruggere in me ogni illusione se volevo disperare non ci riuscivo la collisione tra la fregata e il mostro si era prodotta all'incirca verso le undici di sera contavo dunque su otto ore di nuoto fino alle var del sole operazione rigorosamente possibile dandoci il turno il mare piuttosto buono ci stancava poco talvolta cercavo di penetrare con lo sguardo quelle fitte tenebre rotte soltanto dalla fosforescenza provocata dai nostri movimenti guardavo quelle onde luminose che si frangevano sulla mia mano e il cui specchio luccicante si macchiava di placche livide si sarebbe detto che fossimo immersi in un bagno di mercurio verso l'una del mattino fu preso da un'estrema stanchezza le mie membra si irrigidirono sotto la stretta di crampi violenti con Seil dovette sostenermi e la difesa della nostra conservazione fu affidata a lui solo presto sentì il povero giovane ansimare il respiro gli si fece corto e affrettato compresi che non avrebbe potuto resistere a lungo lasciami gli dissi abbandonare il signore mai egli rispose io conto assolutamente da negare per primo in quel momento la luna apparva attraverso le frange di una grossa nuvola che il vento spingeva verso est la superficie del mare balenò sotto i suoi raggi quella benefica luce rianimò le nostre forze la mia testa si rialzò i miei sguardi si portarono su tutti i punti dell'orizzonte scorsi la fregata era cinque miglia da noi e non formava più che una massa scura appena percettibile ma di scialuppe nessuna vogli gridare ma che serviva a tanta distanza le mie labbra gonfiate non fecero passare alcun suono con sei il poter articolare qualche parola e lo udì ripetere a più riprese aiuto aiuto sospeso ogni movimento per un istante ascoltammo e forse per uno di quei ronzii dei quali il sangue oppresso riempie l'orecchio mi parve che un grido rispondesse al grido di consail hai sentito? mormorai si, si e consail lanciò allo spazio un nuovo appello disperato questa volta nessun errore possibile una voce umana rispondeva alla nostra era la voce di qualche sventurato abbandonato in mezzo all'oceano di qualche altra vittima dell'investimento subito dalla nave o forse una scialuppa della fregata ci chiamava nell'ombra con sei il fece uno sforzo supremo e appoggiandosi alla mia spalla mentre io resistevo in un'ultima convulsione si erse per metà dall'acqua e ricadde esaurito cosa hai visto? ho visto mormorò ho visto ma non parliamo conserviamo tutte le forze che aveva visto? allora non so perché il pensiero del mostro mi tornò per la prima volta alla mente però quella voce sono passati i tempi in cui Jonah si rifugiava nel ventre delle balene tuttavia con sei il mi rimorchiava ancora alzava ogni tanto la testa guardava davanti a sé e gettava un grido di richiamo al quale rispondeva una voce sempre più vicina io lo udivo appena le mie forze erano allo stremo le mie dita si aprivano la mano non mi offriva più un punto d'appoggio la bocca con vulsamente aperta si riempiva d'acqua salata il freddo mi invadeva alzai la testa un'ultima volta e sprofondai nel medesimo istante veni urtato da un corpo duro mi ci aggrappai poi senti che venivo preso riportato alla superficie che il mio petto si sgonfiava e svenni è certo che tornai in me prontamente grazie a vigorose frizioni che mi frustrarono il corpo so chiusi gli occhi Consail mormorai il signore ha suonato? rispose Consail nell'ultimo chiarore della luna che declinava all'orizzonte scorsi un viso che non era quello di Consail e che subito riconobbi Ned! esclamai proprio io signore e sto correndo dietro al mio premio rispose il canadese siete stato gettato in mare quando il mostro urtò la nave si signor professore ho potuto immediatamente mettere piede su un isolotto galleggiante un isolotto? o per meglio dire sul nostro narvalo gigantesco spiegatevi Ned e ho soltanto capito ben presto perché il mio arpione non aveva potuto intaccarlo e si era spuntato sulla sua pelle perché Ned? perché? perché questa bestia signor professore è fatta di lamiere d'acciaio qui bisogna che io ritrovi il mio equilibrio illumini i miei ricordi controlli io stesso le mie asserzioni le ultime parole del canadese avevano operato un istantaneo capovolgimento dei miei pensieri mi inerpicai rapidamente in cima all'essere o all'oggetto semi immerso che ci serviva da rifugio lo tastai col piede era innegabilmente un corpo duro impenetrabile non fatto di quella sostanza molle che forma la massa dei grandi mammiferi marini ma quel corpo duro poteva essere una corazza ossea simile a quella di certi animali antidiluviani e ciò mi avrebbe autorizzato a classificare il mostro fra i rettili anfibi come le tartarughe e gli alligatori ebbene no il dorso nerastro che mi sopportava era liscio lucido non embricato rispondeva all'urto con una sonorità metallica e per quanto incredibile ciò potesse essere sembrava affatto cosa dico mai di piastre bullonate nessun dubbio era possibile l'animale il mostro il fenomeno naturale che aveva incuriosito l'intero mondo degli scienziati sconvolto e fuorviato l'immaginazione dei marinai di due emisferi bisognava riconoscerlo era un fenomeno ancora più stupefacente un fenomeno dovuto all'abilità dell'uomo la scoperta dell'esistenza dell'essere più favoloso più mitologico non avrebbe tanto sorpreso la mia ragione che ciò che è prodigioso ci venga dal creatore la cosa è semplicissima ma trovarsi tutta un tratto sotto gli occhi l'impossibile misteriosamente e umanamente fatto realtà era cosa da confondere le idee eppure non vi era da esitare eravamo distesi sul dorso di una specie di nave sottomarina che presentava almeno per quanto potevo giudicare la forma di un immenso pesce d'acciaio l'opinione di Ned Land in proposito era già cosa fatta con sé e lei ed io non potemmo che condividerla ma allora dissi questo apparecchio racchiude in sé un meccanismo di locomozione e un equipaggio per manovrarlo evidentemente rispose il fiociniere eppure in tre ore che mi trovo ad abitare in quest'isola galleggiante nessuno ha dato segno di vita questo battello non ha camminato no signor Aronax si lascia cullare dalle onde ma non si muove noi sappiamo senza possibilità di dubbio che è capace di una grande velocità ora poiché occorre una macchina per produrre questa velocità e un meccanico per guidare questa macchina ne concludo che siamo salvi mmm fece Ned Land in tono di riservo in quel momento quasi per dar ragione al mio argomentare un'ebullizione si produsse a poppa di quello strano apparecchio il cui propulsore doveva evidentemente essere un'elica ed esso si mise in moto avemmo appena il tempo di aggrapparci alla sua parte superiore che emergeva per circa 80 cm fortunatamente la sua velocità non era eccessiva fin tanto che naviga orizzontalmente mormorò Ned Land non ci trovo nulla a ridire ma se gli prende la fantasia di tuffarsi non darei due dollari della mia pelle ancora meno avrebbe potuto dire il canadese diventava quindi urgente entrare in comunicazione con gli esseri rinchiusi nei fianchi di quella macchina cercai sulla sua superficie un'apertura un boccaporto un qualsiasi passaggio per giuntura delle lame ma le linee dei bulloni solidamente ribaditi sulla giuntura delle lamiere erano nette ed uniformi del resto la luna spariva e ci lasciava in una profonda oscurità bisognava aspettare il giorno per pensare al modo di penetrare all'interno di quella nave sottomarina e così dunque la nostra salvezza dipendeva unicamente dal capriccio dei misteriosi timonieri che dirigevano quell'apparecchio e se essi decidevano l'immersione noi eravamo perduti salvo in questo caso non mettevo in dubbio la possibilità di entrare in contatto con loro e infatti se essi non producevano loro stessi la loro aria bisognava necessariamente che risalissero ogni tanto alla superficie per rinnovare la loro provvista di molecole respirabili quindi necessita di un'apertura attraverso la quale mettere l'interno della nave in comunicazione con l'atmosfera quanto alla speranza di essere salvati dal comandante Farragut bisognava completamente rinunciarvi eravamo trascinati verso ovest e calcolavo che la nostra velocità relativamente moderata raggiungeva le 12 miglia all'ora l'elica batteva i flutti con regolarità matematica emergendo talvolta e facendo schizzare a grande altezza l'acqua fosforescente verso le 4 del mattino la velocità dell'apparecchio crede noi resistavamo con difficoltà a quello spostamento vertiginoso quando le onde ci prendevano in pieno per fortuna Ned si trovò sotto mano un largo anello di ferro per filare i cavi fissato alla parte superiore del dorso di lamiera e riuscimmo ad aggrapparci ad esso solidamente finalmente quella lunga notte ebbe termine il mio ricordo incompleto non mi permette di risuscitarne tutte le impressioni un solo particolare torna alla mia mente durante certi momenti di calma del mare e del vento credetti più volte di udire dei suoni vaghi una specie di fuggente armonia prodotta da accordi lontani qual era dunque il mistero di quella navigazione sottomarina di cui il mondo cercava inutilmente la spiegazione quali esseri vivevano in questa strana nave quale agente meccanico le permetteva di muoversi a una velocità tanto prodigiosa il giorno spuntò le brume del mattino ci avvolgevano ma non tardarono a lacerarsi stavo per procedere ad un attento esame dello scafo che formava nella sua parte superiore una specie di piattaforma orizzontale quando sentì che esso si immergeva a poco a poco ehi per mille diavoli esclamò Ned battendo col piede la lamiera sonora aprite navigatori poco ospitali ma era difficile farsi sentire tra i battiti assordanti dell'elica l'epoca fortunatamente il movimento di immersione si fermò all'improvviso un rumore di ferraglie sbattute con violenza venne dall'interno del battello una piastra si sollevò un uomo apparve gettò un grido bizzarro e scomparì immediatamente qualche istante dopo apparivano otto personaggi robusti dal viso velato in silenzio ci trascinarono nella loro formidabile macchina 8 mobilis immobile questo brutale rapimento fu compiuto con la rapidità del lampo i miei compagni e io eravamo stati presi del tutto alla sprovvista non so che cosa provarono loro sentendosi introdotti in quella prigione galleggiante quanto a me un fulmineo brivido mi agghiacciò la pelle con chi avevamo a che fare senza dubbio con pirati di nuovo genere che sfruttavano il mare a modo proprio appena lo stretto boccaporto si fu richiuso mi trovai avvolto da un'oscurità profonda i miei occhi ancora impregnati dalla luce marina non potevano distinguere nulla sentii i miei piedi nudi aggrapparsi ai pioli di una scaletta di ferro ned land e con sail solidamente tenuti mi seguivano ai piedi della scaletta una porta si aprì e si richiuse immediatamente dietro a noi con un secco frastuono eravamo soli dove? non potevo saperne nulla ma appena immaginarlo tutto era nero di un nero così assoluto che dopo un certo tempo i miei occhi non avevano scoperto alcunché di quei barlumi indeterminati che pur fluttuano nelle notti più fonde ned land fu ribondo contro questo modo di procedere dava intanto libero corso alla sua collera per mille diavoli vociava ecco gente che in fatto d'ospitalità darrebbe dei punti ai selvaggi della nuova caledonia non manca loro che d'essere anche antropofagi non ne sarei sorpreso ma dichiaro che farò energiche obiezioni ai miei divoratori calmatevi amico ned calmatevi rispose tranquillamente con sail non vi lasciate trascinare dalla rabbia prima del momento giusto non siamo ancora sul girarrosto sul girarrosto no ribatte il canadese ma sul forno sì ci fa abbastanza buio fortunatamente il mio boy and knife non mi ha mai lasciato e ci vedo abbastanza per servirmene il primo di questi banditi che mi mette le mani addosso non irritatevi ned dissi allora io al fiociniere e non vi compromettete con inutili violenze forse ci stanno ascoltando cerchiamo piuttosto di sapere dove siamo camminai a tastoni dopo cinque passi incontrai una muraglia di ferro fatta di lamiere bullonate poi voltandomi urtai in una tavola di legno vicino alla quale stavano alcuni sgabelli il pavimento della prigione era coperto da una spessa stuoia di lino che attutiva il rumore dei passi le pareti nude non rivelavano l'esistenza di porte né di finestre con sale girando in senso inverso mi incontrò e tornamo al centro di quella cabina che doveva avere una lunghezza di 20 piedi e una larghezza di 10 quanto all'altezza ned land malgrado la sua alta statura non riuscì a misurarla una mezz'ora era già passata senza cambiamenti nella situazione quando dalla più nera oscurità i nostri occhi passarono nella luce più violenta la nostra prigione si illuminò a un tratto vale a dire che si riempì di una materia luminosa talmente viva che dapprima non potei sostenerne lo splendore dalla sua bianchezza dalla sua intensità riconobbi quella luce elettrica che avevo visto irradiarsi intorno al battello sottomarino come uno splendido fenomeno di fosforescenza dopo aver involontariamente chiuso gli occhi li riaprì e vidi che la fonte luminosa era un mezzo globo smerigliato tondeggiante sulla parte superiore della cabina finalmente ci si vede chiaro esclamò ned land che col coltello in pugno stava sulla difensiva già risposi io arrischiandomi nell'antitesi ma la situazione non rimane meno oscura il signore abbia pazienza fece l'impassibile con sale l'illuminazione della cabina mi permetteva di esaminarla anche nei minimi particolari non conteneva che la tavola e i cinque sgabelli la porta invisibile doveva essere ermeticamente chiusa nessun rumore giungeva alle nostre orecchie tutto sembrava morto a bordo della nave era in movimento o si teneva immobile la superficie dell'oceano o stava immergendosi nelle sue profondità non potevo indovinarlo tuttavia il globo luminoso doveva essersi acceso per qualche motivo speravo che gli uomini dell'equipaggio non avrebbero tardato a mostrarsi quando si vogliono dimenticare le persone non si illumina la cella era un pensiero giusto un rumore di catenacci si fece udire la porta si aprì e apparvero due uomini uno era di piccola statura muscoloso, spalle larghe, membra robuste testa solida capigliatura abbondante e nera folti baffi sguardo vivo e penetrante in tutta la persona notavo quella vivacità meridionale che in Francia caratterizza i provenzali Diderot sostiene a ragione che il gestire umano è metaforico e quel piccolo uomo ne dava certamente una prova vivente nel suo linguaggio abituale dovevano abbondare prosperose le metonimie, le impallagi cosa che però non fui mai in grado di accertare perché davanti a me egli ricorse sempre a un idioma lontano dai miei poteri di comprensione il secondo sconosciuto merita una descrizione meno sommaria un discepolo di Gratoliè o di Engels avrebbe letto sulla fisionomia come in un libro aperto riconobbi immediatamente le sue qualità dominanti la fiducia in se stesso poiché il capo si alzava nobilmente sull'arco formato dalla linea delle spalle gli occhi neri guardavano con fredda sicurezza la calma perché la sua pelle tendente piuttosto al pallido che all'incarnato denotava sangue freddo l'energia segnalata dalla rapida contrazione dei muscoli sopraccigliari e finalmente il coraggio perché nella vasta respirazione era avvertibile una grande espansione vitale dirò inoltre che quest'uomo era fiero che il suo sguardo fermo e calmo sembrava riflettere elevati pensieri e che da tutto l'insieme dall'omogeneità delle espressioni nei moti del corpo e del viso risultava un'indiscutibile franchezza mi sentì involontariamente rassicurato dalla sua presenza traendone buoni auspici per il nostro colloquio poteva avere 35 o 50 anni non avrei saputo precisarlo la statura era alta la fronte larga il naso diritto la bocca disegnata con esattezza la dentatura magnifica le mani erano fini lunghe eminentemente psichiche per usare una parola della chirognonomia cioè degne di servire un animo nobile e appassionato questo individuo formava certamente il più ammirevole tipo umano che avessi mai incontrato particolarità suggestiva occhi alquanto discosti l'uno dall'altro potevano abbracciare simultaneamente circa un quarto dell'orizzonte a tale facoltà lo accertai più tardi si univa una potenza di vista superiore ancora a quella di Ned Land quando lo sconosciuto fizzava qualcosa la linea delle sopracciglia si aggrottava le palpebre si ravvicinavano talmente da circoscrivere le pupille e restringere così il campo visivo e in che modo guardava come ingrandiva le cose rimpicciolite dalla distanza come vi sentivate penetrati fino all'animo e come sapeva vedere addentro alle acque impenetrabili dai nostri sguardi e leggere nel profondo del mare i due sconosciuti portavano berretti di lontra marina calzavano stivali in pelle di foca i loro abiti d'una pelle a me ignota lasciavano una straordinaria libertà di movimenti il più alto tra i due evidentemente il capo ci esaminò con attenzione estrema senza pronunciare parola poi rivolgendosi al compagno usò una lingua che non potei riconoscere era un idioma sonoro armonioso flessibile le cui vocali parevano svariare moltissimo l'accentazione l'altro rispose scuotendo la testa e aggiunse due o tre parole perfettamente incomprensibili poi con lo sguardo parve interrogarmi direttamente risposi in buon francese che non capivo la sua lingua ma lui a sua volta sembrò non comprendermi la situazione diventava alquanto imbarazzante il signore voglia comunque raccontare la sua storia mi disse con sale questi signori ne intenderanno forse qualcosa incominciai il racconto articolando nettamente ogni sillaba e senza omettere i particolari declinai le nostre generalità e le nostre professioni presentai nelle dovute forme il professore arronax il domestico conseile e mastro ned land fiociniere l'uomo dagli occhi dolci e calmi mi ascoltò tranquillamente anche cortesemente e in un modo senza dubbio attento ma nella sua fisionomia nulla segnalò comprensione quando ebbi finito non pronunciò una parola restava ancora la risorsa ad esprimermi in inglese forse ci saremmo fatti capire in quella lingua pressapoco universale io la conoscevo così come la tedesca abbastanza per leggerla correntemente ma a parlarla riuscivo male e ciò che occorreva qui era soprattutto farsi capire animo è la vostra volta dissi al fiociniere mastro land esca dal vostro sacco il migliore inglese che un anglosassone abbia mai parlato e abbiate più fortuna di me Ned non si fece pregare rifece il mio racconto lo capì approssimativamente il contenuto fu analogo ma la forma assai diversa trasportato dal carattere il canadese vi mise molta animazione protestò con violenza per essere tenuto prigioniero in spregio al diritto delle genti domandò in forza di quale legge lo si trattava così invocò l'abeas corpus minacciò denunce contro chi indebitamente lo sequestrava si dimenò gesticolò gridò e inoltre fece capire con mimica adeguata che morivamo di fame cosa perfettamente vera ma l'avevamo messa in disparte con sua grande meraviglia il fiociniere non ebbe più fortuna di me i nostri cari amici non batterono ciglio era evidente che ignoravano tanto la lingua di Arago come quella di Faraday pieno di imbarazzo dopo aver vanamente esaurito le nostre risorse filologiche non sapevo più che pesci pigliare quando con Seil intervenne se il signore mi autorizza racconterò la cosa in tedesco come? sai il tedesco? come un fiammingo se non spiace al signore anzi mi piace coraggio ragazzo mio e con la sua voce tranquilla egli narrò per la terza volta le peripezie della nostra storia ma nonostante l'ottimo eloquio e il bellissimo accento del nostro narratore anche la lingua tedesca non trovò alcun successo finalmente sentendomi con le spalle al muro che ha mai raccolta quanto mi restava dei primi studi e descrissi le nostre avventure in latino Cicerone si sarebbe turato le orecchie e mi avrebbe spedito in cucina pur tuttavia seppi cavarmela identico risultato negativo dopo il fallimento di quest'ultimo tentativo i due ignoti scambiarono alcune parole nella loro incomprensibile lingua e se ne andarono non ci avevano neppure indirizzato uno di quei gesti rassicuranti che hanno corso in tutti i paesi del mondo la porta si è richiusa è un'infamia esclamò Nedland esplodendo per la ventesima volta ma come? gli parliamo in francese e in inglese in tedesco e in latino a questi furfanti e nemmeno uno di loro è tanto civile da risponderci calmatevi Ned disse al bollente fiociniere la collera non servirebbe a nulla ma voi sapete signor professore che possiamo assolutamente morire di fame in questa gabbia di ferro bah fece con Seil con un po' di filosofia possiamo ancora resistere a lungo amici miei disse io non ci dobbiamo disperare ne abbiamo passate di peggio fatemi il piacere di non formular subito un'opinione sul comandante e sull'equipaggio di questa nave la mia opinione è bella e fatta rispose Nedland sono furfanti bene e di che paese? del paese dei furfanti mio bravo Ned questo paese non è ancora abbastanza segnato sul mappamondo e confesso che la nazionalità dei due sconosciuti resta un enigma né francesi né inglesi né tedeschi ecco tutto quanto si può dire ma non sarei alieno dal credere che il comandante e il secondo provengano da basse latitudini c'è del meridionale in loro ma che siano spagnoli o turchi arabi o indiani il loro tipo fisico non lo rivela abbastanza quanto al loro linguaggio è del tutto misterioso ecco l'inconveniente di non sapere tutte le lingue disse Consail o insomma il guaio che manca una lingua universale non servirebbe a nulla rispose Nedland non vedete che questa gente ha un linguaggio a sé un linguaggio inventato per far disperare le brave persone che chiedono un pranzo ma in tutti i paesi della terra aprir la bocca muovere le mascelle afferrare l'aria con i denti e con le labbra non è cosa che tutti capiscono non significa forse in Quebec come alle Pomotou a Parigi come gli antipodi ho fame datemi da mangiare oh esistono nature così poco intelligenti mentre egli diceva queste parole entrò uno steward ci portava del vestiario giuppe e pantaloni da mare fatti di una stoffa di cui non riconobbi la sostanza mi affrettai a indossarli e i miei compagni mi imitarono intanto lo steward muto forse sordo aveva preparato la tavola e disposto tre coperti ecco un fatto serio disse Consail la cosa promette bene rispose l'arcimonioso fiociniere cosa volete che diano da mangiare fegato di tartaruga filetto di pesce cane bistecca di bue marino staremo a vedere disse Consail piatti ricoperti da campane d'argento furono simmetricamente posati sulla tovaglia e noi sedemmo a tavola decisamente avevamo a che fare con gente civilizzata e a parte quella luce elettrica che ci inondava mi sarei creduto nella sala da pranzo della Delphi Hotel di Liverpool o del Grand Hotel di Parigi devo dire che purtroppo pane e vino erano totalmente assenti l'acqua era fresca e limpida ma sempre acqua cosa estranea ai gusti di Nedland tra le cibarie che ci furono servite riconobbi diversi pesci delicatamente preparati ma su certe vivande d'altra parte eccellenti non avrei saputo pronunziarmi e nemmeno avrei saputo dire a quale regno vegetale o animale appartenessero il servizio da tavola era elegante e di gusto inappuntabile ogni utensile cucchiaio o forchetta coltello o piatto riccava una lettera e un'insigna di cui ecco il facsimile mobilis in mobile n mobile nel mobile elemento il motto si addiceva perfettamente a quel battello sottomarino se la preposizione venisse davvero tradotta con in e dalla lettera n senza dubbio incominciava il nome dell'enigmatico comandante nel fondo dei mari ned e consail sembravano ragionare meno di me divoravano e io non tardai a imitarli ero già in qualche modo rassicurato sul nostro destino mi sembrava chiaro che gli ospiti non volevano farci morire di fame ma tutto qua giù ha una fine tutto passa persino la fame di gente che non ha mangiato da 15 ore e conclusosi l'appetito il bisogno del sonno si fece immediatamente sentire reazione ben naturale dopo l'interminabile notte in cui avevamo lottato con la morte in fede mia dormirei volentieri disse con sale e io 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 dormo rispose ned entrambi si distesero sul tappeto della cabina e sprofondarono presto nel sonno io mi abbandonai meno facilmente a questo violento bisogno di dormire troppi pensieri si accumulavano nella mia mente troppe domande insolubili vi si affollavano dove eravamo? quale strana potenza ci trascinava con sé? sentivo o piuttosto credevo di sentire la nave scendere verso gli strati marini più profondi incubi febbrili mi assediavano travedevo in quei misteriosi asili tutto un mondo di animali ignoti cui il battello sottomarino appareva somigliare vivente dinamico tremendo come loro poi il cervello si calmò e l'immaginazione divenne torbida presto caddi nel sonno 9. le collere di ned land 9. le collere di ned land quanto durò il sonno lo ignoro ma dovette essere lungo poiché ci ristorò completamente dalle nostre fatiche fu io il primo a svegliarmi i miei compagni non si erano ancora mossi e restavano stesi nei loro angoli come masse inerti appena levatomi da quel giaciglio piuttosto duro senti il cervello scombro lo spirito chiarissimo ricominciai allora un esame attento della cella nulla era cambiato nelle sue condizioni essenziali la prigione era rimasta prigione e i prigionieri restavano prigionieri lo steward intanto approfittando del nostro sonno aveva sparecchiato dunque nulla indicava un mutamento prossimo della situazione mi domandai se era nostro destino vivere per molto tempo in questa gabbia la prospettiva mi riuscì tanto più ostica quanto più se il cervello era libero dalle oppressioni del giorno prima mi sentivo il respiro stranamente oppresso l'aria pesante non bastava ormai a soddisfare i miei polmoni la cella era vasta ma evidentemente avevamo consumato gran parte del suo contenuto d'ossigeno l'uomo spende in un'ora l'ossigeno diffuso in 100 litri d'aria e quest'aria se contiene pressa poco un uguale quantità di acido carbonico diventa irrespirabile urgeva dunque rinnovare l'atmosfera della nostra prigione e senza dubbio anche quella del battello sottomarino qui una domanda si offrì alla mia mente come procedeva il signore di questa dimora galleggiante otteneva con mezzi chimici l'aria liberando grazie al calore l'ossigeno contenuto nel clorato di potassa e assorbendo l'acido carbonico mediante potassa caustica in tal caso per procurarsi le materie necessarie all'operazione doveva aver conservato qualche rapporto con la terraferma o si limitava soltanto a immagazzinare l'aria sotto alte pressioni in appositi serbatoi liberandola poi secondo i bisogni dell'equipaggio forse oppure procedimento più comodo più economico e dunque più probabile si contentava di tornare a respirare alla superficie come un cetaceo e rinnovare per 24 ore la provvista d'aria comunque fosse qualunque fosse il metodo mi pareva urgente ricorrervi senza tardare mi trovavo infatti già costretto a moltiplicare le ispirazioni per estrarre dall'ambiente il poco ossigeno che racchiudeva ma all'improvviso mi senti rinfrescato da una corrente d'aria pura tutta profumata da emanazioni saline era proprio una brezza di mare vivificante e carica di iodio spalancai la bocca i polmoni si riempirono di fresche molecole nello stesso tempo senti un ondeggiamento un rollio non fortissimo ma assai ben precisabile il battello il mostro metallico era dunque risalito alla superficie dell'oceano per respirarvi come una balena non avevo più dubbi sul sistema di ventilazione quando ebbi assorbito a pieni polmoni quell'aria pura cercai l'aerifero se così si può dire che faceva giungere fino a noi il benefico effluvio e non tardai a trovarlo sopra la porta si apriva un foro d'aereazione che lasciava passare una fresca colonna d'aria l'atmosfera impoverita della cella ne veniva rinnovata proprio allora Ned e Consail si svegliarono quasi contemporaneamente richiamati dalla benefica ventilazione si stropicciarono gli occhi si stirarono e si alzarono in piedi il signore ha dormito bene? domandò Consail con la solita gentilezza molto bene caro figliolo risposi e voi Mastroland? come un ghiro signor professore ma sbaglio o sto respirando brezza di mare? un marinaio non poteva sbagliarsi gli raccontai quanto era accaduto mentre dormiva bene commentò ora mi spiego i mugiti che sentivamo quando il cosiddetto narvalo era in vista dell'Abram Lilcon proprio così Mastroland era la sua respirazione in ogni modo signor Aronax non ho idea dell'ora a meno che sia l'ora di pranzo di pranzo Ned? dita almeno l'ora di colazione siamo certamente all'indomani di ieri ciò dimostra aggiunse Consail che abbiamo dormito 24 ore lo credo anch'io dissi non voglio contraddirvi riprese Ned Land ma sia pranzo o colazione lo steward sarà il benvenuto con l'uno o con l'altra l'uno e l'altra disse Consail giusto approvò il canadese ci aspettano due pasti e per mio conto farò onora a tutte e due bene Ned aspettiamo è chiaro che questi sconosciuti non intendono affatto lasciarci morire di fame o il pranzo di ieri non avrebbe più senso se non ci stiano ingrassando per i loro fini protesto dissi non siamo caduti in mano dei cannibali una rondine non fa primavera rispose seriamente il canadese chissà se questa gente non è privata da molto tempo di carne fresca e in questo caso tra i galantuomini sani e ben costituiti come il signor professore il suo domestico ed io basta con queste idee Mastroland ribattei al fiociniere e soprattutto non prendetene motivo per uscire dai gangheri con i nostri ospiti cosa che può solo aggravare la situazione comunque io ho una fame del diavolo e pranzo o colazione il pasto non viene Mastroland risposi bisogna conformarsi al regolamento di bordo e credo che il nostro stomaco sia più avanti dell'orologio del cuoco ebbene lo rimetteremo all'ora giusta concluse tranquillo Consail vi riconosco amico Consail replicò l'impaziente canadese voi risparmiate la bile e i nervi sempre calmo sapreste dire le grazie prima del benedicite morir di fame piuttosto che lamentarvi a che mi servirebbe lamentarmi ma proprio a lamentarvi per dinci è già qualche cosa e se questi pirati dico pirati per rispetto e per non contrariare il signor professore che proibisce di chiamarli cannibali se questi pirati credono che potranno tenermi chiuso in questa gabbia dove soffoco senza imparare di quali imprecazioni condisco le mie arrabbiature si sbagliano vediamo un po signor Aronax parlate con franchezza credete che ci terranno lungo in questa scatola di ferro per dire il vero non ne so più di voi amico Land ma insomma cosa pensate penso che il caso ci ha resi partecipi di un segreto importante ora se l'equipaggio di questa nave sottomarina tiene a mantenerlo tale e se questo suo interesse è più grave della vita di tre uomini credo la nostra esistenza molto compromessa nel caso contrario alla prima occasione il mostro che ci ha inghiottiti ci restituirà al mondo abitato dei nostri simili a meno che questa nave non c'è ruoli nel suo equipaggio disse Consail e ci conservi così fino al momento proseguì Ned Land in cui qualche fregata più rapida o più abile dell'Abraham Lincoln si impadronirà di questo nido di fuorilegge e spedirà il suo equipaggio e noi a respirare per l'ultima volta penzolando dal pennone di maestra giusto Mastroland dissi ma non ci sono state ancora fatte a quanto sappia proposta al riguardo perciò inutile discutere le decisioni che dovremmo prendere in questo o quel caso ve lo ripeto aspettiamo lasciamoci consigliare dalle circostanze e non facciamo nulla poiché non ve nulla da fare al contrario signor professore ribatté il fiociniere che non voleva darsi vinto bisogna fare qualcosa e cosa allora Mastroland fuggire fuggire da una prigione terrestre è spesso difficile ma da una prigione sottomarina mi pare assolutamente impossibile andiamo amico Ned intervenne con Sayle che rispondete all'obiezione del signore non posso credere che un americano si trovi a corto di risorse il fiociniere visibilmente imbarazzato taceva una fuga nelle condizioni in cui il caso ci aveva gettati era del tutto impossibile ma un canadese è per metà francese e Mastro Ned Land lo faceva ben capire dalla sua risposta di modo che signora Ronax disse dopo qualche momento di riflessione voi non indovinate cosa debbono fare delle persone che non possono fuggire dalla loro prigione? no amico mio eppure è semplicissimo bisogna che si arrangino per restarci perbacco fece con Sayle sempre meglio essere dentro che sopra o sotto ma aggiunse Ned Land dopo aver buttato fuori i carcerieri secondini e guardiani cosa Ned? pensereste seriamente di impadronirvi di questo bastimento? serissimamente rispose il canadese è impossibile e perché signore? può presentarsi qualche circostanza fortunata e non vedo che cosa potrebbe impedirci di approfittarne se non c'è più di una ventina di uomini a bordo di questa macchina questi non faranno indietreggiare due francesi e un canadese credo era meglio ammettere le vedute del fiociniere che discuterle perciò mi accontentai di rispondere lasciamo venire le circostanze Mastro Land e vedremo ma per intanto ve ne prego contenete la vostra impazienza non possiamo agire che d'astuzia e non è perdendo le staffe che farete nascere le circostanze favorevoli perciò promettetemi che accetterete la situazione senza troppa collera ve lo prometto signor professore rispose Ned Land in tono poco rassicurante dalla mia bocca non uscirà una sola parola violenta non mi lascerò tradire da nessun gesto brutale anche se il servizio di tavola non sarà fatto con la regolarità desiderabile ho la vostra parola Ned rispose al canadese poi la conversazione fu sospesa e ciascuno si mise a riflettere per conto suo confesserò che dal mio canto e nonostante la baldanza del fiociniere non conservavo nessuna illusione non riuscivo ad ammettere le circostanze favorevoli di cui Ned aveva parlato per essere manovrato con tanta sicurezza il battello aveva bisogno di un equipaggio numeroso e perciò in caso di lotta ci saremmo trovati alle prese con un nemico troppo forte del resto per prima cosa avremmo dovuto essere liberi e non lo eravamo non vedevo neppure un modo per fuggire da questa cella di lamiera ermeticamente chiusa e per poco che lo strano comandante di quel battello avesse un segreto da difendere cosa apparentemente probabile non ci avrebbe lasciato liberi a bordo adesso si sarebbe sbarazzato di noi con la violenza o ci avrebbe gettati un giorno su qualche angolo di terra questo era l'ignoto tutte queste ipotesi mi sembravano perfettamente logiche e bisognava essere proprio un fiociniere per sperare nella riconquista sollecita della propria libertà notavo intanto che gli umori di Ned si inasprivano attraverso le riflessioni elaborate dal suo cervello sentivo poco poco le imprecazioni brontolate in fondo alla sua gola e vedevo i suoi gesti tornare a farsi minacciosi si alzava si aggirava come una belva in gabbia percuoteva le pareti col piede e col pugno d'altronde il tempo passava la fame si faceva crudelmente sentire e questa volta lo steward non si faceva vivo ed era dimenticare troppo lungo le nostre condizioni di naufraghi se veramente si avevano buone intenzioni nei nostri riguardi ned land tormentato dai crampi del suo robusto stomaco si incolleriva sempre di più e nonostante la sua parola d'onore temevo veramente un'esplosione quando egli si ritrovasse dinanzi qualcuno dell'equipaggio durante due ore la sua collera andò esaltandosi il canadese chiamava gridava ma inutilmente le muraglie di lamiera restavano sorde non avvertivo rumori dall'interno del battello che sembrava morto non si muoveva altrimenti avrei sentito il fremito dello scafo sotto l'impulso dell'elica immerso senza dubbio nell'abisso delle acque non apparteneva più alla terra tutto questo silenzio era spaventoso quanto al nostro esilio al nostro isolamento in fondo a una cella non osavo immaginare la sua durata le speranze che avevo concepito dopo l'incontro col comandante svanivano a poco a poco la dolcezza dello sguardo di quel uomo l'espressione generosa della sua fisionomia la nobiltà del suo portamento tutto spariva dal mio ricordo rivedevo l'enigmatico personaggio tal quale doveva essere necessariamente spietato crudele lo sentivo estraneo all'umanità inaccessibile a qualunque sentimento di compassione implacabile nemico dei suoi simili cui doveva aver votato odio inestinguibile ma quest'uomo ci avrebbe dunque lasciato perire di nedia chiusi in una stretta prigione abbandonati alle tentazioni orrende che provengono dalla fame più selvaggia questo pensiero spaventevole prese nella mia mente un'intensità terribile e con la complicità dell'immaginazione mi sentì invaso da un terrore insensato con sale restava calmo Ned Land ruggiva a un tratto dall'esterno si udì un rumore dei passi risuonavano sulle lastre di metallo le serrature furono mosse la porta si aprì apparve lo steward prima che potessi fare un movimento per impedirglielo il canadese si precipitò su quel disgraziato lo stese al suolo e lo strinse alla gola lo steward rantolava sotto una mano potente con sale cercava di togliere dalla stretta del fiociniere la vittima semisoffocata e io stavo per unire ai suoi i miei sforzi quando venni inchiodato al mio posto da alcune parole pronunciate in francese calmatevi maestro Land e voi signor professore vogliate ascoltarmi 10 l'uomo delle acque era il comandante del battello a parlare così Ned Land si levò subito in piedi lo steward mezzo strangolato finì per uscire barcollando a un cenno del suo padrone era tale a bordo l'autorità del comandante che non un gesto tradì risentimento da parte dell'aggredito con sale interessato suo malgrado io stupefatto aspettavamo in silenzio il finale della scena il comandante in piedi con le braccia conserte ci osservava con attenzione profonda esitava a parlare gli dolevano quelle parole appena pronunciate in francese potevamo crederlo dopo un silenzio che nessuno di noi tre osava interrompere signori disse con voce calma e penetrante io parlo ugualmente il francese l'inglese il tedesco e il latino avrei potuto quindi rispondervi già al nostro primo incontro ma volevo innanzitutto conoscervi poi riflettere il vostro quadruplo racconto assolutamente coerente in sostanza mi ha affermato l'identità delle vostre persone adesso so che il caso ha messo in mia presenza il signor pierre ronax professore di storia naturale al museo di parigi incaricato da una missione scientifica all'estero il suo domestico con sail e ned land canadese d'origine piocciniere della fregata abraham lincoln della marina nazionale degli stati uniti d'america mi inchinai in guisa di assenso non era una domanda che il comandante mi rivolgeva dunque nessuna risposta da dare quell'uomo si esprimeva con scioltezza completa senza alcun accento la sua frase era netta le sue parole esatte la sua facilità dell'occhio notevole eppure io non sentivo in lui un compatriota riprese il discorso in questi termini senza dubbio signore avete trovato che tardavo molto a farvi questa seconda visita il fatto era che conosciuta la vostra identità volevo maturamente pesare la decisione che avrei presa nei vostri confronti ho esitato molto le più spiacevoli circostanze vi hanno messi alla presenza di un uomo che ha rotto i ponti con l'umanità siete venuti a turbare la mia esistenza involontariamente dissi io involontariamente rispose lo sconosciuto alzando un poco la voce e involontariamente è involontariamente che l'abram lincoln mi da la caccia su tutti i mari è involontariamente che voi vi siete imbarcato su quella fregata involontariamente che i vostri proiettili sono rimbalzati sullo scafo della mia nave involontariamente maestro ned land mi ha colpito col suo arpione sentivo in queste parole l'irritazione repressa ma alle recriminazioni avevo una risposta pronta da dare e la chiedi signore dissi voi ignorate senza dubbio le discussioni che hanno avuto luogo riguardo a voi in America ed in Europa non sapete che diversi incidenti provocati dall'urto contro il vostro sottomarino hanno scosso l'opinione pubblica dei due continenti vi risparmio le innumerevoli ipotesi mediante le quali si è cercato di spiegare il fenomeno inspiegabile di cui soltanto voi conoscevate il segreto ma sappiate che inseguendovi fino negli alti mari del Pacifico l'abram lincoln credeva di andare a caccia di qualche potente mostro marino del quale bisognava ad ogni costo liberare l'oceano un mezzo sorriso distese le labbra del comandante poi in tono più calmo signora Aronax riprese potreste affermare che la vostra fregata non avrebbe inseguito e cannoneggiato un battello sottomarino altrettanto che un mostro questa domanda mi mise in imbarazzo perché certamente il comandante Farragut non avrebbe esitato a farlo egli avrebbe creduto suo dovere distruggere tanto un apparecchio di quel genere quanto un narvalo gigantesco voi quindi capite signore continuò lo sconosciuto che io ho il diritto di trattarvi come nemici non risposi e non potevo far altro a che serviva discutere una tesi simile quando la forza può distruggere i migliori argomenti ho esitato a lungo riprese il comandante non c'era nulla che mi obbligasse a darvi la mia ospitalità se dovevo separarmi da voi non avevo alcun interesse a rivedervi vi mettevo sul ponte di questa nave che vi aveva servito da rifugio mi immergevo sotto il mare e dimenticavo che foste mai esistiti non era forse nel mio diritto forse nel diritto di un selvaggio risposi non in quello di un uomo civile signor professore ribatte vivacemente il comandante io non sono quello che voi chiamate un uomo civile ho rotto con la società intera per ragioni che io solo ho il diritto di giudicare quindi non ubidisco le sue regole e chiedo che non le imbocchiate mai davanti a me tutto questo fu detto in modo chiaro e netto un lampo di collera o disprezzo aveva balenato negli occhi dello sconosciuto nella sua vita credetti di intravedere un formidabile passato non soltanto si era messo fuori dalle leggi umane ma si era fatto indipendente libero nella più rigorosa accezione della parola al sicuro da qualsiasi attacco chi mai avrebbe osato dargli la caccia nelle profondità dei mari dato che alla loro superficie sventava gli sforzi tentati contro di lui quale nave avrebbe potuto resistere all'urto del suo monitore sottomarino quale corazza per quanto spessa avrebbe potuto sostenere i colpi del suo sperone nessuno fra tutti gli uomini poteva chiedergli conto delle sue opere Dio se egli vi credeva la sua coscienza se ne aveva una erano i soli giudici dai quali potesse dipendere queste riflessioni attraversarono la mia mente velocissimamente mentre lo strano personaggio rimaneva silenzioso assorbito e come ritirato in se stesso io lo guardavo con un terrore misto a interesse e senza dubbio come edipo guardava la sfinge dopo un lungo silenzio il comandante ripresa a parlare ho dunque esitato disse ma ho pensato che il mio interesse poteva accordarsi con quella pietà naturale alla quale ogni essere umano ha diritto voi resterete a bordo della mia nave poiché vi siete stati gettati dalla fatalità voi sarete liberi e in cambio di questa libertà molto relativa del resto non vi imporrò che una condizione la vostra parola mi basterà parlate signore risposi penso che questa condizione sarà accettabile da un galantuomo sì signore ed eccola è possibile che certi avvenimenti imprevisti mi obblighino a tenervi serrati nelle vostre cabine per qualche ora o per qualche giorno secondo i casi poiché desidero non dover mai usare la violenza mi aspetto da voi in questi casi più ancora di sempre una completa obbedienza facendo così vi metto al coperto vi libero da ogni responsabilità non potrete infatti vedere ciò che non deve essere visto accettate questa condizione dunque a bordo dovevano accadere cose per lo meno singolari e non dovevano essere viste da quanti non si fossero estragnati dalle norme sociali nel conto generale delle sorprese che l'avvenire mi riservava questa era certamente destinata a riapparirmi notevole accettiamo risposi soltanto vi chiedo il permesso di farvi una domanda una sola dite signore avete detto che saremo liberi a bordo della vostra nave del tutto vi chiedo allora che cosa intendete per questa libertà ma di andare e venire vedere osservare tutto quel che succede tranne che in qualche rara circostanza la libertà insomma di cui godiamo noi stessi i miei compagni ed io era chiaro che non ci intendevamo scusatemi signore ripresi ma questa libertà corrisponde a quella di un prigioniero nella sua prigione non può bastarci pure dovrà bastarvi come? dobbiamo rinunciare per sempre a rivedere la nostra patria i nostri amici i nostri parenti sì signore ma rinunciare a quell'insopportabile gioco della terra che gli uomini credono libertà non è forse tanto penoso quanto credete per esempio esclamò Ned Land io non darò mai la mia parola di non cercare di fuggire non vi chiedo nessuna parola Mastro Land rispose freddamente il comandante signore rispose incollerito malgrado me stesso voi abusate della vostra situazione nei nostri rapporti questo si chiama crudeltà no signore si chiama clemenza voi siete miei prigionieri di guerra io vi tengo con me quando con una sola parola potrei restituirvi agli abissi dell'oceano voi mi avete attaccato siete venuti a violare un segreto che nessun uomo al mondo deve penetrare il segreto di tutta la mia esistenza e credete che io possa farvi tornare in terraferma dove nessuno deve conoscermi più mai trattenendovi non custodisco voi quanto me stesso parole che indicavano da parte del comandante un partito preso superiore per lui a qualsiasi discussione dunque signore ripresi ci lasciate semplicemente scegliere fra la vita e la morte semplicemente amici dissi a una domanda posta in questi termini non c'è nulla da rispondere ma nessuna parola ci lega al padrone di questa nave nessuna confermò lo sconosciuto poi con voce più dolce adesso permettetemi di completare quanto ho da dirvi io vi conosco signor Aronax voi seppur non i vostri compagni non avrete forse tanto da lamentarvi nel caso che vi lega al mio destino troverete tra i libri che mi servono per i miei studi favoriti l'opera che avete pubblicata sui grandi fondali marini l'ho letta spesso voi avete portato quest'opera tanto lontano quanto ve lo permetteva la scienza terrestre ma non sapete tutto non avete visto tutto perciò lasciatemi dire signor professore che non deplorerete il tempo passato a bordo della mia nave viaggerete nel paese delle meraviglie la meraviglia lo stupore saranno probabilmente lo stato normale della vostra mente non vi stancherete facilmente dello spettacolo che sarà incessantemente offerto ai vostri occhi io sto per rivedere in un nuovo giro del mondo sottomarino chissà forse l'ultimo tutto ciò che ho potuto studiare in fondo a quei mari percorsi tante volte e voi sarete il mio compagno di studi a partire da questo giorno voi entrate in un nuovo elemento voi vedrete ciò che nessun uomo ha ancora visto poiché io e i miei compagni non contiamo più e il nostro pianeta grazie a me sta per svelarvi i suoi ultimi segreti non posso negarlo tali parole ebbero su di me un grande effetto ero preso dal mio lato debole e dimenticai per un momento che la contemplazione di quelle cose sublimi non poteva valere la libertà perduta d'altronde contavo sull'avvenire per risolvere questa grave questione così mi accontentai di rispondere signore se avete rotto con l'umanità voglio credere che non abbiate rinnegato ogni sentimento umano noi siamo dei naufraghi caritatevolmente raccolti a bordo dalla vostra nave e non lo dimenticheremo quanto a me personalmente non nego che se l'interesse della scienza potesse assorbire anche il bisogno di libertà ciò che il nostro incontro mi promette offrirebbe grandi compensi credevo che il comandante mi avrebbe teso la mano per suggellare il nostro trattato non ne fece nulla mi dispiacque per lui un'ultima domanda dissi al momento in cui quell'uomo inesplicabile sembrò volersi ritirare dite signor professore con quale nome debbo chiamarvi signore rispose il comandante io non sono per voi che il capitano Nemo e per me i vostri compagni e voi siete esclusivamente i passeggeri del Nautilus il capitano Nemo chiamò apparve uno steward il capitano gli impartì ordini in quella lingua straniera che non sapevo qualificare poi rivolgendosi al canadese a Consail un pasto vi aspetta nella vostra cabina disse loro vogliate seguire quest'uomo non è il caso di fare complimenti esclamò il fiociniere lui e Consail uscirono finalmente dalla cella dove erano rinchiusi da più di 30 ore e ora signora Ronax la nostra colazione è pronta permettetemi di farvi strada ai vostri ordini capitano seguì il capitano Nemo appena varcata la soglia prendemmo per un corridoio illuminato elettricamente dopo una decina di metri una seconda porta si aprì davanti a me entrai allora in una sala da pranzo ornata e mobiliata con gusto severo alte credenze di quercia incrostata ad ornamenti di ebano si ergevano alle due estremità della sala e sulle loro scaffalature a linea ondulata sfavillavano maioliche porcellane cristallerie d'un valore inestimabile il vasellame piatto vi risplendeva sotto i raggi versati da un soffitto luminoso del quale fini pitture attutivano e addolcivano l'intensità al centro della sala vi era una tavola riccamente imbandita il capitano Nemo mi indicò il mio posto sedetevi signore mi disse e mangiate come un uomo che deve morire di fame la colazione era composta da un certo numero di piatti di cui il solo mare aveva fornito il contenuto e di alcuni cibi dei quali mi erano ignote la natura e la provenienza riconoscerò che erano buoni ma ad un gusto particolare al quale mi abituai facilmente quei diversi alimenti mi parvero ricchi di fosforo e pensai che dovessero avere un'origine marina il capitano Nemo mi guardava io non gli domandai nulla ma lui indovinò i miei pensieri e rispose di propria iniziativa alle domande che urgevano nel mio pensiero la maggior parte di questi cibi vi è sconosciuta mi disse ma potete mangiarne senza timore sono sani e nutrienti da molto tempo ho rinunciato agli alimenti della terra ma non me ne trovo affatto male il mio equipaggio gente assai vigorosa non si nutre diversamente da me allora tutti questi alimenti sono prodotti dal mare si signor professore il mare soddisfa tutti i miei bisogni talvolta calo le reti e vado alla traina le ritiro gonfie da rompersi altre volte vado a caccia in seno a questo elemento che sembra inaccessibile all'uomo e mi procuro la selvaggina che abita nelle mie foreste sottomarine le mie greci come quello del vecchio pastore di Nettuno pascolano senza timore sulle immense praterie dell'oceano io sono proprietario di una sconfinata tenuta che sfrutto da solo e che è seminata dalla mano del creatore universale guardai il capitano Nemo con una certa meraviglia gli risposi capisco perfettamente signore come le vostre reti forniscano eccellenti pesci alla vostra tavola capisco meno come diata la caccia alla selvaggina acquatica delle vostre foreste sottomarine ma non capisco affatto come una particella di carne per quanto piccola possa figurare nel vostro menù quel che voi credete carne signor professore è filetto di tartaruga marina ecco intanto del fegato di delfino che prendereste facilmente per ragù di maiale il mio cuoco è un abile dispensiere eccelle nel conservare i più vari prodotti dell'oceano assaggiate tutti questi cibi ecco una conserva doloturie che un malese dichiarerebbe senza rivali al mondo ecco della crema per la quale il latte è stato fornito dalla mammella dei cetacei e lo zucchero dai grandi fuchi del mare del nord e finalmente permettetemi di offrirvi confetture di anemoni che valgono quelle dei frutti più saporiti io assaggiavo da curioso più che da buon gustaio mentre il capitano Nemo mi incantava coi suoi racconti inverosimili ma questo mare signora Ronax mi disse questa nutrice prodigiosa inesauribile non soltanto mi nutre mi veste pure queste stoffe che vi coprono sono tessute col bisso di certe conchiglie sono tinte con la porpora degli antichi e sfumate da colori violetti che estraggo dalle aplisis del Mediterraneo i profumi che troverete sulla toletta della vostra cabina sono prodotti dalla distillazione di piante marine il vostro letto è fatto con la più dolce zosteria dell'oceano la vostra penna sarà un fanone di balena il vostro inchiostro il liquore secreto dalla seppia o del calamaro tutto ora mi viene dal mare come tutto ritornerà al mare un giorno voi amate il mare capitano si lo amo il mare è tutto copre i sette decimi del globo terrestre il suo alito è puro e sano è l'immenso deserto dove l'uomo non è mai solo poiché sente la vita fremere accanto a lui il mare non è che il veicolo di una sovrannaturale prodigiosa esistenza non è che movimento e amore è l'infinito vivente come ha detto un vostro poeta e infatti signor professore la natura vi si manifesta con i suoi tre regni minerale vegetale e animale quest'ultimo vi è largamente rappresentato dai quattro gruppi degli zaofiti da tre classi degli articolati da cinque classi dei molluschi da tre classi dei vertebrati i mammiferi i rettili e quelle innumerevoli legioni di pesci ordine infinito di animali che conta più di tredicimila specie delle quali soltanto un decimo appartiene all'acqua dolce il mare è il vasto serbatoio della natura ecco il mare che il globo ha per così dire cominciato a vivere e chissà se non finirà con lui qui è la tranquillità suprema il mare non appartiene ai despoti alla sua superficie questi possono ancora esercitare dei diritti iniqui battersi divorarsi trasportarvi tutti gli orrori terrestri ma a 30 piedi sotto il suo livello il loro potere cessa la loro influenza si spegne la loro potenza sparisce ah signore vivete vivete in seno al mare soltanto qui è l'indipendenza qui non riconosco padroni qui sono libero il capitano tacque all'improvviso nel bel mezzo dell'entusiasmo che da lui strarivava si era forse lasciato trascinare oltre al suo abituale riservo aveva parlato troppo per qualche momento camminò in su e in giù agitatissimo poi i nervi si calmarono la fisionomia riprese l'abituale freddezza adesso esclamò signor professore se volete visitare il nautilus sono ai vostri ordini 11 il nautilus il capitano nemo mi fece strada una doppia porta situata nel retro della sala si aprì ed entrammo in una stanza ampia come quella che avevo appena lasciata era una biblioteca alti mobili di palissandro nero intarsiato di rame sorreggevano sui loro larghi ripiani moltissimi libri rilegati in modo uniforme seguivano il perimetro della sala e nella loro parte inferiore terminavano in vasti divani imbottiti di cuoio marrone che offrivano le più comode curve le gii avvicinabili o allontanabili a volontà si ergevano con leggerezza al centro era collocata una vasta tavola sparsa da altri libri tra i quali appariva qualche giornale ormai vecchio la luce elettrica inondava questo insieme armonioso piovendo da quattro globi racchiusi per metà nelle volute del soffitto io guardavo con autentica ammirazione una sala così ingegnosamente disposta e non potevo credere ai miei occhi capitano Nemo dissi al mio ospite che si era adagiato su un divano ecco una biblioteca invidiabile da molte grandi dimore continentali e veramente mi sballordisce la sua destinazione a seguirvi nel più profondo del mare dove si può trovare maggior solitudine un silenzio più tenace signor professore rispose il capitano Nemo il vostro luogo di studio al museo vi garantisce una quiete altrettanto grande no signore e debbo aggiungere che è ben povero a confronto del vostro voi dovete tener qui sei o settemila volumi dodicimila signora Ronax sono i soli legami che mi uniscono alla terra ma il mondo è finito per me il giorno nel quale il Nautilus si è immerso per la prima volta nel mare quel giorno avevo acquistato i miei ultimi volumi le mie ultime riviste i miei ultimi giornali e da allora voglio credere che l'umanità non ha più pensato né scritto del resto i miei libri sono a vostra disposizione signor professore e vi invito a servirvene liberamente ringraziai il capitano Nemo mi avvicinai alle scaffalature libri di scienza morale e letteratura scritti nelle lingue più varie vi abbondavano ma non vidi una sola opera di economia politica libri del genere sembravano severamente messi al bando dalla nave particolare curioso tutti i volumi erano indistintamente classificati in qualsiasi lingua fossero scritti il miscuglio provava che il capitano del Nautilus doveva leggere correntemente i volumi che la sua mano prendeva a caso tra queste opere notai capolavori dei maestri antichi e moderni cioè tutto quello che di più bello l'umanità aveva prodotto nella storia nella poesia nel romanzo e nella scienza da Omero a Victor Hugo da Senofonte fino a Michele da Rabelais fino alla signora Sand ma era stata più particolarmente la scienza a contribuire alla costituzione della biblioteca libri di meccanica, balistica e idrografia meteorologia, geografia e geologia eccetera occupavano un posto non meno importante di quello delle opere di storia naturale e compresi che formavano i principali studi del capitano Vidi tutte le opere di Humboldt e di Arago i lavori di Foucault Henry Sinclair de Ville Chesley Milne Edwards Quatrefages Tindal Faraday Berthelot dell'Abate Secchi di Peterman del Comandante Mori di Agassiz eccetera le memorie dell'Accademia delle Scienze i bollettini di diverse società geografiche e in buona posizione i due volumi che forse mi avevano valso l'accoglienza relativamente buona del capitano Nemo Tra quelli di Joseph Bertrand il volume intitolato I fondatori dell'astronomia mi fornì anche una data sicura di riferimento Sapendo che era stato pubblicato nel 1865 potei concluderne che l'installazione del Nautilus non risaliva a un'epoca precedente dunque tutt'al più da tre anni il capitano Nemo aveva iniziato la sua esistenza sottomarina speravo inoltre che qualche libro di pubblicazione ancor più recente mi permettesse di stabilire con precisione quell'epoca ma avevo dinanzi a me gran tempo per fare questa ricerca e non vogli ritardare oltre la nostra passeggiata fra le meraviglie del Nautilus Signore, dissi al capitano vi ringrazio di aver messo a mia disposizione questa biblioteca contiene tesori di scienza e ne approfitterò questa sala non è solo una biblioteca disse il capitano Nemo è anche un fumois fumois? esclamai ma dunque a bordo si fuma? certamente allora devo credere che avete relazioni con l'Havana nessuna, rispose il capitano accettate questo siguro signor Aronax ben che non venga da Lavana vi piacerà se non siete un novizio presi il sigaro che mi veniva offerto e la cui forma ricordava quello dei Londres ma sembrava fatto con foglie d'oro lo accesi a un piccolo bracere sostenuto da un elegante piede di bronzo aspirai le prime boccate con la volutà di un intenditore che da due giorni non ha fumato eccellente dissi ma non è tabacco infatti rispose il capitano non viene dall'Havana né dall'Oriente è una specie di alga ricca di micotina che il mare mi fornisce non senza parsimonia ripiangete l'ondre signore capitano a partire da oggi li disprezzerò fumate allora a vostro piacere e senza preoccuparvi per l'origine di questi sigari nessun monopolio li ha controllati ma non sono perciò meno buoni credo anzi poi il capitano Nemo aprì una porta che frondeggiava quella dalla quale ero entrato nella biblioteca e passammo in un salone immenso splendidamente illuminato era un gran quadrilatero dagli angoli smussati lungo 10 metri largo 6 alto 5 un soffitto luminoso e adorno di sottili arabeschi diffondeva una dolce chiarezza sulle meraviglie radunate distribuite in questo museo poiché davvero un museo era nel quale una prodiga mano intelligente aveva collocato moltissimi tesori della natura e dell'arte con l'estrosa libertà che distingue gli studi dei pittori una trentina di quadri di grandi maestri in analoghe cornici separati da scintillanti panoplie animavano le pareti tappezzate di stoffe dai colori severi vidi tele ed enorme valore che in gran parte avevo già ammirato nelle collezioni private d'europa o in esposizioni le scuole degli antichi maestri erano presenti con una madonna di Raffaello una giovane di Leonardo da Vinci e una ninfa del Correggio una donna di Tiziano un'adorazione del veronese e un'assunzione di Murillo un ritratto di Olben un monaco di Velázquez un martirio di Ribera e una kermesse di Rubens tra le opere moderne figuravano dipinti firmati della Croix Ingres, Descampes, Troillon, Messanier, D'Abouigny, ecc. ammirevoli statuette in marmo o in bronzo riproducenti i più bei modelli dell'antichità si ergevano negli angoli sui loro piedistalli la stupefazione annunciatomi dal comandante del Nautilus cominciava a far massa signor professore mormorò allora questo strano uomo vorrete scusare la disinvoltura con la quale vi ricevo e il disordine che regna nel salone signore risposi senza cercare di sapere chi siete mi è lecito vedere in voi un artista? tutt'al più un dilettante signore in altri tempi amavo collezionare queste bellezze create dall'uomo ero un avido ricercatore un instancabile segugio e ho potuto raccogliere alcune cose eccellenti sono gli ultimi ricordi di quella terra che per me è morta per i miei occhi i vostri artisti moderni sono già più che degli antichi hanno due o tre mila anni di vita e li confondo nella mia mente ma i maestri non hanno età e i musicisti? chiesi mostrando gli spartiti di Weber, Rossini e Mozart di Beethoven, di Haydn, di Meyerbeer e Herold di Wagner, Hauber, Gonod e altri sparsi su un grandioso organo addossato a una tra le pareti del salone questi musicisti sono contemporanei di Orfeo poiché le differenze cronologiche si annullano nella memoria dei morti e io sono morto signor professore morto come quanto i vostri amici riposino sei piedi sotto la terra il capitano Nemo tacque parve immergersi in una profonda fantasticheria io lo guardavo con emozione indagavo le stranezze del suo aspetto tenendo i gomiti appoggiati su una preziosa tavola di mosaico lui non mi vedeva più dimenticava la mia presenza rispettai questo raccoglimento e continuai a passare in rivista le meraviglie che arricchivano il salone accanto alle opere d'arte le rarità naturali tenevano un posto molto importante consistevano soprattutto in piante marine conchiglie e altri prodotti dell'oceano che dovevano rappresentare personali scoperte del capitano Nemo nel centro del salone uno zampillo d'acqua illuminato elettricamente ricadeva in una vasca fatta da una sola tridacne tale conchiglia in cui vive il più grande tra i molluschi acefali misurava sui suoi orli delicatamente fatti a festoni una circonferenza di sei metri circa superava dunque in grandezza le affascinanti tridacni regalata a Francesco I dalla Repubblica di Venezia e delle quali a Parigi la chiesa di San Sulpizio ha fatto due acqua sentiere gigantesche intorno alla vasca in eleganti vetrine dall'armatura di rame erano esposti e classificati i prodotti del mare complessivamente più preziosi che non ci fossero mai offerti allo sguardo di un naturalista si può immaginare la mia gioia di scienziato il reparto zoofiti forniva curiosissimi esemplari dei suoi due gruppi dei polipi e degli echinodermi a parte in compartimenti speciali si snodavano rosari di perle della più grande bellezza che la luce elettrica pungeva con punte di fuoco perle rosa verdi gialle blu nere curiosi prodotti di vari molluschi di tutti gli oceani e di certi mitili dei corsi d'acqua del nord e finalmente diversi campioni d'un valore inestimabile distillati dalle mele agrine più rare qualcuna tra queste perle sorpassava in grossezza un uovo di piccione valevano altrettanto e anche di più di quella che il viaggiatore tavernier vendette per 3 milioni allo scià di persia superavano l'altra perla dell'imam di mascate che avevo creduto senza rivali al mondo formulare in cifre il pregio di quella collezione era dunque per così dire impossibile il capitano Nemo doveva aver speso milioni per tutti questi esemplari e mi chiedevo dove mai avesse trovato i mezzi per farlo quando udì state esaminando le mie conchiglie signor professore certo possono interessare un naturalista ma per me hanno un altro titolo di merito le ho tutte raccolte con le mie mani e non c'è mare di questo globo che sia sfuggito alle mie ricerche capisco capitano intendo bene la gioia di muoversi fra tale ricchezze siete di quelli che hanno raccolto da soli il proprio tesoro nessun museo d'europa ha una simile collezione di prodotti marini ma se esaurisco per essa la mia ammirazione che cosa mi resterà per la nave che la porta non voglio penetrare i segreti che vi appartengono ma confesso che il nautilus la forza motrice che racchiude in sé e gli apparecchi che permettono di manovrarlo tutto questo eccita al massimo la mia curiosità vedo appesi alle pareti di questa sala strumenti il cui impiego mi è sconosciuto posso sapere signor Aronax rispose il capitano Nemo vi ho detto che siete libero a bordo della mia nave e per conseguenza nessuna parte del nautilus vi è intardetta potete visitarlo a fondo e ben volentieri io vi farò da Cicerone non saprei come ringraziarvi signore ma non abuserò della vostra cortesia vi domando solo a quale uso sono destinati questi strumenti di fisica signor professore identici strumenti si trovano nella mia camera e avrò il piacere di spiegarvi là il loro impiego ma venite prima a visitare la cabina che vi è riservata non deve restarvi oscura la vostra sistemazione al bordo del nautilus seguì il capitano Nemo che mi fece tornare nei corridoi della nave mi guidò verso prua e trovai non una cabina ma un elegante camera da letto con toletta e altro mobilio ringrazia il mio ospite la vostra camera è contigua alla mia mi disse aprendo la porta e la mia da sul salone che abbiamo appena lasciato entrammo nella stanza del capitano avevo un aspetto severo quasi cenobitico un lettino di ferro un tavolo da lavoro e qualche mobile da toletta una luce moderata nessun comfort lo stretto necessario e basta il capitano mi offrì una sedia sedete disse vi prego mi sedetti e parlò nei termini che seguono io 12 tutto mediante l'elettricità Signore, disse il capitano Nemo, mostrandomi gli strumenti appesi alle pareti della sua camera. Ecco gli apparecchi richiesti dalla navigazione del Nautilus. Qui, come nel salone, li tengo sotto gli occhi. Indicano la mia posizione e la mia direzione esatte in mezzo all'oceano. Certuni vi sono noti, come il termometro che dà la temperatura interna del Nautilus, il barometro che pesa l'aria e predice i cambiamenti di tempo, l'igrometro che segna il grado di umidità dell'atmosfera, lo storm glass, il cui miscuglio scomponendosi annunzia l'arrivo delle tempeste, la bussola che dirige la mia rotta, il sestante che con l'altezza del sole mi dice la latitudine, i cronometri che mi permettono di calcolare la longitudine e infine dei callocchiali da giorno e da notte che mi servono a scrutare tutti i punti dell'orizzonte quando il Nautilus è risalito alla superficie. Sono gli strumenti classici del navigatore, risposi, e il loro uso mi è noto. Ma ecco ne altri che, senza dubbio, rispondono alle esigenze del Nautilus. Questo quadrante percorso da un ago mobile non è un manometro. Infatti è un manometro, messo in comunicazione con l'acqua, di cui indica la pressione esterna, mi rivela la profondità dove si trova la mia nave. E queste sonde di nuovo tipo? Sonde termometriche. Misurano le temperature dei vari strati d'acqua. E questi altri strumenti dei quali non so immaginare l'impiego. A questo punto, signor professore, devo darvi qualche spiegazione. Disse il capitano Nemo. Vogliate ascoltarmi. Restò silenzioso per qualche attimo. Poi disse C'è un agente pieno di potenza, obbediente, rapido, sbrigativo, che si piega a tutti gli usi e regna da padrone a bordo della mia nave. Tutto viene fatto grazie a lui. Mi illumina, mi riscalda. È l'anima di tutti i miei apparecchi meccanici. Questo agente è l'elettricità. L'elettricità? Esclamai con sorpresa. Sì, signore. Ma il Nautilus compie movimenti veloci che oltrepassano i poteri attuali dell'elettricità. Finora la potenza dinamica dell'elettricità è rimasta assai limitata. Non si è espressa in forze ingenti. Signor professore, rispose il capitano Nemo. La mia elettricità non è quella degli altri. È tutto quanto mi sento ora di comunicarvi in proposito. Non insisto, signore, e mi contenterò di essere molto sorpreso. Un'unica domanda. Rispondete o meno, ve ne lascio bene il diritto. Gli elementi che impiegate per produrre questo meraviglioso agente devono consumarsi alla svelta. Lo zinco, per esempio. Come lo rinnovate non avendo rapporti con la terraferma? La vostra domanda avrà risposta, disse il capitano Nemo. Vi dirò prima di tutto che in fondo ai mari esistono miniere di zinco e di ferro, d'argento, d'oro, il cui sfruttamento sarebbe possibile. Ma non mi sono affatto rivolto a questi metalli terrestri. Ho voluto chiedere al mare stesso i mezzi per produrre la mia elettricità. Al mare? Sì, signor professore. E i mezzi non facevano difetto. Avrei potuto, stabilendo un circuito tra fili immersi più o meno profondamente, ottenere elettricità grazie alle differenze di temperatura. Ma ho preferito ricorrere a un sistema più pratico. E quale? Conoscete la composizione dell'acqua marina. Su mille grammi si trovano 96 centesimi e mezzo d'acqua e circa due centesimi e due terzi di cloruro di sodio. Poi, in piccola quantità, cloruro di magnesio e di potassio, bromuro di magnesio, solfato di magnesio, solfato e carbonato di calcio. Vedete che il cloruro di sodio vi si incontra in notevole proporzione. Ora, è questo sodio che io estrago dall'acqua e di cui compongo i miei elementi. Il sodio? Sì, signore. Mescolato al mercurio forma un'amalgama che sostituisce lo zinco negli elementi Bunsen. Il mercurio non si consuma. Solo il sodio devo rinnovare. E il mare me lo fornisce direttamente. Vi dirò inoltre che le pile al sodio hanno un'energia impareggiabile e che la loro forza elettromotrice è doppia di quella delle pile allo zinco. Capisco bene, capitano, l'eccellenza del sodio nelle condizioni in cui vi trovate. È il mare a fornirvelo. Benissimo. Ma occorre anche fabbricarlo. Insomma, estrarlo. E come fate? Le vostre pile evidentemente permetterebbero questa estrazione. Ma se non sbaglio, il consumo di sodio richiesto dagli apparecchi elettrici sorpasserebbe la quantità estratta. Ovvero sia, per produrlo ne consumereste di più di quanto venga infine prodotto. Perciò, signor professore, non lo estraggo mediante la pila e impiego semplicemente il calore del carbone di terra. Di terra? Insistetti. Diciamo, se volete, carbone di mare. E riuscite a sfruttare miniere sottomarine di carbone? Signora Ronax, mi vedrete all'opera. Non vi domando che un po' di pazienza. Ne avrete bene il tempo. Ricordatevi solo di questo. Io all'oceano debbo tutto. Esso produce elettricità. E l'elettricità dà al nautilus il calore, la luce, il moto. In una sola parola. La vita. Ma non l'aria che respirate. Oh, potrei fabbricarmela l'aria necessaria ai miei consumi. Ma è inutile, dato che risalgo la superficie del mare quando voglio. Tuttavia, se l'elettricità non mi fornisce l'aria respirabile, fa agire pompe possenti che la immagazzinano in speciali serbatoi. Ciò mi permette di prolungare in caso di bisogno, per quanto tempo io voglia, la permanenza negli strati più profondi. Capitano, risposi, mi contento di ammirare. Evidentemente avete trovato tutto ciò che gli uomini troveranno, senza dubbio in futuro. La reale potenza dinamica dell'elettricità. Non so se la troveranno, rispose freddamente il capitano Nemo. Comunque sia, conoscete già la mia prima applicazione di questo agente prezioso. Ci illumina con una uniformità, una continuità sconosciute alla luce del sole. Guardate ora questo orologio. È elettrico. E la sua regolarità sfida quella dei migliori cronometri. L'ho diviso in 24 ore, come gli orologi italiani, dato che non esistono per me la notte, né il giorno, né il sole, né la luna. Ma solo questa luce artificiale, che io porto con me fin nel fondo dei mari. Vedete, ora sono le 10 del mattino. Perfettamente. Altra applicazione dell'elettricità. Il quadrante dinanzi a voi serve indicare la velocità del Nautilus. Un filo elettrico lo mette in comunicazione con l'elica del Locke. E il suo ago mi indica la velocità reale della nave. E vedete, in questo momento filiamo a una velocità moderata, 15 miglia all'ora. È meraviglioso, risposi. E vedo bene che avete avuto ragione di impiegare questo agente destinato a sostituire il vento, l'acqua e il vapore. Non abbiamo finito, disse il capitano Nemo alzandosi. E se volete seguirmi visiteremo la parte poppiera del Nautilus. Infatti conoscevo ormai la parte prodiera di questa nave sottomarina. Eccone l'esatta suddivisione, andando dal centro dello scafo allo sperone. La sala da pranzo, lunga 5 metri, separata dalla biblioteca da una chiusura stagna, cioè al sicuro da ogni via d'acqua. La biblioteca di 5 metri. Il grande salone di circa 10 metri, separato dalla camera del capitano da un'altra chiusura stagna. La detta camera del capitano, di 5 metri. La mia, di 2 metri e mezzo. E finalmente un serbatoio per l'aria, di 7 metri, che arrivava fino al dritto di prua. In totale, 35 metri di lunghezza. Nelle chiusure stagne erano praticate delle porte, che si chiudevano ermeticamente per mezzo di otturatori di caucciù, e garantivano a bordo del Nautilus ogni sicurezza, nel caso che si aprissero delle falle. Seguì il capitano Nemo per i corridoi, arrivammo al centro della nave. Qui, una specie di pozzo si apriva fra due chiusure stagne. Una scala di ferro, aggrappata alla parete, portava all'estremità superiore. Domandai al capitano per quale uso servisse. Porta il canotto, rispose. Come? Avete un canotto? Esclamai meravigliato. Certamente. Un'ottima imbarcazione. Leggera e inaffondabile. Che serve a passeggiare e a pescare. Ma allora, per imbarcarvici, dovete risalire alla superficie? Neanche per sogno. Il canotto aderisce alla parte superiore dello scafo. Occupa una cavità apposita. È interamente pontato, assolutamente stagno, e trattenuto da solidi bulloni. La scala conduce ad un'apertura nello scafo del Nautilus, che corrisponde a un'apertura identica nel fianco del canotto. È da queste due aperture che mi introduco in esso. La prima, quella del Nautilus, viene richiusa dall'interno. Io chiudo l'altra per mezzi di viti a pressione. Svito i bulloni, e l'imbarcazione a velocità prodigiosa raggiunge la superficie del mare. Apro allora il boccaporto del ponte, fino all'ora ermeticamente chiuso. Drizzo l'albero, isso una vela, o prendo i miei remi, e me ne vado a spasso. Ma per tornare a bordo? Non sono io che torno, signor Aronax. È il Nautilus che torna. Al vostro comando? Al mio comando. Un filo elettrico mi collega al Nautilus, lancia un telegramma, e tanto basta. Veramente, dissi un po' obbriaco di tante meraviglie. Nulla c'è di più semplice. Dopo aver passato la gabbia della scala che recava alla piattaforma, vidi una cabina lunga due metri, nella quale Konseil e Ned Land erano beattamente indaffarati a pranzare. Poi una porta si aprì sulla cucina, lunga tre metri, situata tra le vaste cambuse di bordo. L'elettricità, più energica e obbediente dello stesso gas, provvedeva a tutta la bisogna. Arrivando sotto i fornelli, i fili comunicavano a spugne di platino un calore che si distribuiva e si manteneva uniformemente. Essa scaldava ugualmente degli apparecchi distillatori che, mediante la vaporizzazione, fornivano un'eccellente acqua potabile. Presso la cucina si apriva una sala da bagno confortevolmente attrezzata, i cui rubinetti fornivano acqua fredda o calda a volontà. Alla cucina seguiva la stanza dell'equipaggio, lunga cinque metri, ma l'uscio era chiuso. Non potei vedere l'arredamento che mi avrebbe forse illuminato sul numero di uomini in servizio nel Nautilus. In fondo si alzava una quarta chiusura stagna che separava l'ultima stanza dalla sala delle macchine. Si aprì un uscio e mi trovai nel compartimento dove il capitano Nemo, un ingegnere di prim'ordine senza dubbio, aveva installato i suoi apparecchi di locomozione. Questa sala macchine, fortemente illuminata, non misurava meno di venti metri di lunghezza. Era divisa in due parti. Nella prima stavano gli elementi produttivi dell'elettricità. Nella seconda il meccanismo che trasmetteva all'elica il moto. Da principio mi sorprese l'odore sui generis che riempiva il compartimento. Il capitano Nemo se ne accorse. Sono emanazioni di gas, spiegò, prodotte dall'impiego del sodio, ma è un lieve inconveniente. Del resto, ogni mattina purifichiamo la nave ventilandola a fondo. Esaminai con un interesse ben immaginabile la macchina del Nautilus. Come vedete, io impiego elementi Bunsen, disse il capitano. Non elementi Rumkorff. Questi non servirebbero. I Bunsen qui sono pochi, ma forti e grandi, cosa che risultò migliore a esperienze fatte. L'elettricità si dirige a Poppa, dove agisce mediante i grandi elettrocalamite su un particolare sistema di leve e ingranaggi che trasmettono il moto all'albero dell'elica. Questa, il cui diametro è di sei metri e che ha un passo di sette metri e mezzo, può dar fino a centoventi giri al secondo. E allora voi ottenete una velocità di cinquanta miglia allora. C'era un mistero per me in questo fatto, ma lasciai stare. Come poteva l'elettricità avere tanta potenza? Dove prendeva l'origine questa forza quasi illimitata? Forse nell'enorme tensione ottenuta con bobine di nuovo tipo? Forse nella trasmissione che un nuovo sistema di leve accrescesse all'infinito? Non riuscivo a farmene un'idea precisa. Capitano Nemo dissi Constato i risultati e non cerco di spiegarli. Ho visto il Nautilus manovrare davanti all'Abram Lilcon. Ho avvertito bene la sua velocità. Ma camminare non basta. Bisogna sapere dove si va. Occorre poter dirigersi a destra o a sinistra in alto o in basso. Come raggiungete le grandi profondità dove una resistenza crescente si misura centinaia d'atmosfere? Come risalita la superficie? Infine come vi è possibile tenerla a quota più conveniente? Sono indiscreto se ve lo chiedo. Niente affatto signor professore. Mi rispose il capitano dopo una lieve incertezza. A me basta che non lasciate più questa nave sottomarina. Andiamocene nel salone. È il nostro vero gabinetto di lavoro e lì saprete tutto quanto dovete sapere del Nautilus. 13 qualche cifra. Poco dopo eravamo seduti su un divano nel salone fumando dei sigari. Il capitano Nemo mi presentò un disegno che dava la pianta, la sezione e la proiezione del Nautilus. Poi cominciò a dirmi Ecco signor Aronax le varie dimensioni del battello in cui siete. È un cilindro molto blungo ad estremità coniche. Imita sensibilmente la forma di un sigaro forma già adottata a Londra in costruzioni del genere. La lunghezza totale di questo cilindro è esattamente 70 metri e il diametro massimo 8 metri. Non è quindi costruito sulla base di 1 a 10 come i vostri piroscafi veloci ma la sua linea è abbastanza lunga e l'immersione è tale che l'acqua spostata non opponga resistenza al suo cammino. Queste dimensioni vi permettono di ottenere mediante un calcolo molto semplice la superficie e il volume del Nautilus. La superficie è di 1011 metri quadrati e 4 centesimi. Il volume 1500 metri cubi e due decimi. Equivale a dire che del tutto immerso il Nautilus disloca o pesa 1500 metri cubi o tonnellate. Quando ho messo in progetto questa nave destinata alla navigazione sottomarina ho stabilito che durante il suo galleggiare restasse immerso per nove decimi emergendo per un decimo soltanto. Non dovevo dunque in tali condizioni spostare che i nove decimi del suo volume cioè 1356 metri cubi e 48 centesimi pesando l'identico numero di tonnellate. Mi sono tenuto nei limiti di questo peso costruendolo nelle dimensioni che vi ho dette. Il Nautilus è composto di due scafi l'uno interno l'altro esterno uniti tra loro da ferri a T che danno un'estrema rigidità. Grazie alla disposizione cellulare resiste infatti come un blocco come se fosse pieno. Il fasciame non può accedere aderisce da se stesso non per la stretta dei rivetti e l'omogeneità della costruzione dovuta alla perfetta concordanza dei materiali permette al Nautilus di sfidare i mari più violenti. I due scafi sono costruiti in una lamiera d'acciaio la cui densità relativamente all'acqua è di 7 e 8 decimi. Il primo non ha meno di 5 centimetri di spessore pesa 398 tonnellate e 96 centesimi. Il secondo con la chiglia alta 50 centimetri e larga 25 pesante essa sola a 62 tonnellate. Le macchine la zaforra i vari accessori e installazioni diverse i serramenti e le puntellature interne hanno un peso complessivo di 961 tonnellate e 62 centesimi. Aggiunte a quelle 394 e 96 centesimi danno il totale voluto di 1356 tonnellate virgola 48. D'accordo? D'accordo capitano. Quando il Nautilus galleggia in condizioni simili emerge dunque per un decimo. Ora se ho i serbatoi di una capacità uguale a questo decimo vale a dire 150 tonnellate virgola 72 e li riempio d'acqua la nave dislocando allora 1567 tonnellate si immergerà completamente. È quel che succede signor professore. Il Nautilus contiene nelle parti inferiori questi serbatoi. Apro delle valvole ed essi si riempiono e la nave scendendo nelle acque viene a sfiorare la superficie. Bene capitano ma arriviamo alle vere difficoltà. Che possiate sfiorare la superficie dell'oceano lo capisco. Tuttavia immergendosi al di sotto di questa superficie la vostra nave sottomarina non incontra una pressione crescente e non subisce dunque una spinta dal basso in alto valutabile a un'atmosfera ogni 30 piedi d'acqua cioè un chilogrammo per centimetro quadrato all'incirca. Esattamente signore. Allora se non riempite d'acqua l'intero Nautilus non vedo come possiate fargli attraversare le masse liquide sottostanti. Professore rispose il capitano Nemo non bisogna confondere la statica con la dinamica o ci si espone a gravi errori. Poco lavoro basta in questo caso a raggiungere le zone basse dell'oceano perché i corpi tendono verso il fondo. Seguite il mio ragionamento. Vi ascolto capitano. Quando ho dovuto determinare l'aumento di peso che bisogna dare al Nautilus perché si immerga ho dovuto preoccuparmi solo della riduzione del volume che si produce nell'acqua di mare man mano che gli strati diventano più profondi. È evidente dissi. Ora se l'acqua non è del tutto incomprimibile è perlomeno assai poco comprimibile. Secondo i calcoli più recenti la riduzione non è che di 436 decimi milionesimi per atmosfera o per ogni 30 piedi di profondità. Se dobbiamo andare a 1000 metri tengo conto allora della riduzione del volume sotto una pressione equivalente a quella di una colonna d'acqua di 1000 metri cioè sotto una pressione di 100 atmosfere. Questa riduzione sarà di 436 100 millesimi. Dovrò dunque aumentare il peso in modo da raggiungere 1513 tonnellate e 77 centesimi invece di 1507 due decimi. L'aumento non sarà appena di 6 tonnellate e 57 centesimi? Soltanto? Soltanto signora Ronax e verificare il calcolo è facile. Ora io ho i serbatoi supplementari capaci di imbarcare 100 tonnellate d'acqua. Posso scendere a profondità considerevoli. Quando voglio risalire alla superficie e affiorarvi mi basta espellere quell'acqua e votare per intiero i serbatoi se desidero che il Nautilus emerga per un decimo della sua capacità totale. Di fronte a simili ragionamenti appoggiati su tante cifre non avevo nulla da obiettare. Accetto i vostri calcoli capitano risposi e male mi opporrei a contestarli poiché l'esperienza dà loro ragione ogni giorno ma insorge un nuovo autentico problema quale signore? Quando siete a mille metri di profondità le pareti del Nautilus sopportano una pressione di 100 atmosfere dunque se volete allora votare i serbatoi supplementari per alleggerire la vostra nave e risalire alla superficie bisogna che le pompe vincano questa pressione che è di 100 kg per centimetro quadrato d'onde una potenza che soltanto l'elettricità poteva darmi si affrettò a dire il capitano Nemo vi ripeto signor professore che la potenza dinamica delle mie macchine è pressa poco infinita le pompe del Nautilus hanno una forza prodigiosa dovete esservene accorto quando colonne d'acqua si sono scagliate come un torrente sull'Abram Lincoln dal resto non mi servo dei serbatoi supplementari che per raggiungere profondità medie dai 1500 ai 2000 metri e questo ha lo scopo di risparmiare i miei apparecchi perciò sentendo visitare le profondità dell'oceano due o tre leghe sotto la superficie compio manovre più lunghe ma non meno infallibili quali capitano domandai ciò ovviamente mi porta a descrivervi le manovre del Nautilus mi interessano molto per governare la nave a dritta o a sinistra per manovrare in una sola parola sul piano orizzontale mi servo di un comune timone a piatto largo fissato alla ruota di poppa che funziona mediante una ruota o alcuni paranchi ma posso far muovere il Nautilus anche dal basso in alto o dall'alto in basso in senso verticale usando due piani inclinati messi ai suoi fianchi sulla linea di galleggiamento piani mobili atti a prendere qualsiasi posizione e che si manovrano dall'interno mediante leve potenti se i piani sono tenuti paralleli al bastimento questo si muove orizzontalmente se vengono inclinati il Nautilus seguendo tale inclinazione e rispondendo alla spinta dell'elica o discende secondo una diagonale che regolo a mio piacimento o risale per la stessa diagonale c'è di più quando voglio risalire alla superficie con accentuata rapidità blocco l'elica la pressione delle acque manda il Nautilus in verticale come un pallone che gonfio di idrogeno si alzi rapidamente nell'aria bravo capitano esclamai ma come fa il timoniere a seguire la rotta che gli assegnate dentro alle acque egli sta in una gabbia a vetri che sporge sulla parte superiore del Nautilus guarnita di cristalli lenticolari vetri resistenti a simili pressioni proprio così il cristallo fragile all'urto offre tuttavia notevole resistenza durante certe pratiche di pesca alla luce elettrica svoltesi nel 1864 in pieno mare del nord si sono viste placche di cristallo il cui spessore non superava i 7 mm resistere a una pressione di 16 atmosfere continuando a lasciare passare potenti raggi calorifici ora i vetri dei quali mi servo io hanno al loro centro uno spessore di 21 cm 30 volte quello che accennavo ammesso capitano Nemo ma infine per vedere bisogna che la luce scacci le tenebre e io mi chiedo come nell'oscurità delle acque dietro la gabbia del timoniere sta un potente riflettore elettrico che illumina il mare fino a mezzo miglio di distanza ah tre volte bravo mi spiego ora la fosforescenza del cosiddetto narvalo che intrigava tanto gli scienziati vorrei domandarvi a proposito se la collisione tra il nautilus e lo Scozia che sollevò tanto clamore fu dovuta al caso unicamente al caso signore navigavo due metri sotto la superficie quando avvenne l'urto del resto non ho avuto conseguenze spiacevoli nessuna signore ma quanto all'incontro con l'Abram Lincoln signor professore mi duole per quella nave tra le migliori della prode marina americana ma ero aggredito e ho dovuto difendermi limitandomi però a mettere la nave avversaria in condizioni tali da non potermi nuocere le sarà facile riparare le avarie nel porto più vicino ah comandante esclamai dal fondo dell'animo è davvero una nave meravigliosa il vostro Nautilus sì professore rispose con visibile emozione il capitano Nemo e io l'amo come carne della mia carne se tutto è pericolo sulle vostre navi esposte ai capricci dell'oceano se in pieno mare l'impressione originaria è il sentimento dell'abisso come ha ben detto l'olandese Jansen nelle sue profondità raggiunta a bordo del Nautilus il cuore dell'uomo non ha nulla da temere nessuna deformazione perché il doppio scafo di questa nave è rigido come il ferro manca d'alberatura che rollì e beccheggio possono travagliare niente vele alla merce del vento niente caldaie che il vapore possa rompere nessun incendio di cui aver paura questa nave è in lamiera e non in legno niente carbone soggetto a esaurirsi qui l'unico agente meccanico è l'elettricità nessun cattivo incontro da temere il Nautilus naviga solitario nelle acque profonde nessuna tempesta da sfidare poiché a pochi metri dalla superficie trova assoluta quiete ecco signore ecco la nave per eccellenza e se davvero il progettista ha fiducia in un bastimento ancora più che il costruttore e il costruttore più del capitano stesso immaginatevi quanto mi fidi del Nautilus io che ne sono plenariamente il capitano il costruttore e il progettista parlava con un'eloquenza trascinante l'ardore dello sguardo l'espressività appassionata dei gesti che lo trasfiguravano sì egli amava la sua nave come un padre ama il figlio ma una domanda forse indiscreta si era fatta naturale e non poter reprimerla siete dunque ingegnere capitano Nemo sì mi rispose ho studiato ingegneria a Londra a Parigi e a New York quando abitavo in terraferma ma come siete riuscito a produrre in segreto questo ammirevole Nautilus ciascuno tra i suoi pezzi signora Ronax mi arrivò da un diverso punto del globo e sotto una destinazione mascherata la chiglia è stata forgiata al Crusoe l'albero dell'elica da Pen & Co di Londra le piastre di lamiere per lo scafo da Lird di Liverpool l'elica da Scott di Glasgow i serbatoi provengono da Kale Tsi di Parigi la macchina da Krupp in Prussia lo sperone dalle officine di Motala in Svezia gli strumenti di precisione dai fratelli Hart di New York eccetera ognuno di questi fornitori aveva ricevuto i miei progetti sotto nomi diversi ma una volta fabbricate queste parti si è ben dovuto montarle sistemarle avevo fissato la mia officina su un isolotto deserto in pieno oceano là i miei operai ossia i valorosi compagni che avevo istruito e formato e io abbiamo messo insieme il nostro Nautilus poi ad operazione conclusa il fuoco ha tolto ogni traccia del nostro passaggio sull'isolotto che avrei fatto saltare in aria se fosse stato possibile mi lasciate credere che la spesa per questa costruzione fu enorme signor Arnax una nave di ferro costa 1125 franchi la tonnellata ora il Nautilus ne stazza 1500 il suo costo è di 1.600.000 franchi 2 milioni se aggiungiamo le installazioni interne e l'arreddamento 4 o 5 ne vale comprendendo le opere d'arte le collezioni che racchiude un'ultima domanda capitano a vostro agio signor professore è grande è grande la vostra ricchezza enormemente grande signore e potrei senza difficoltà pagare 10 miliardi di debiti della Francia guardai con insistenza lo strano personaggio che parlava così abusava della mia disposizione a crederti l'avvenire mi avrebbe dato una risposta 14 il fiume nero l'oceano pacifico si estende da nord a sud fra i due circoli polari da ovest a est fra l'asi e l'america per 145 gradi di longitudine è il mare più tranquillo le sue correnti sono larghe e lente le sue maree moderate le sue piogge abbondanti tale oceano un destino mi chiamava percorrerlo almeno ora nelle condizioni più strane signor professore mi disse il capitano Nemo se vi piace riveleremo adesso esattamente la nostra posizione e fisseremo il punto di partenza di questo viaggio è mezzogiorno meno un quarto stiamo per risalire alla superficie tre volte egli pigiò un bottone elettrico le pompe cominciarono a espellere acqua dai serbatoi l'ago del manometro mise in chiaro secondo le varie pressioni il movimento ascensionale del Nautilus e infine si fermò siamo arrivati disse il capitano raggiunsi la scala centrale che portava la piattaforma salì per i gradini metallici e attraverso il boccaporto aperto uscì sulla groppa del Nautilus la piattaforma emergeva solo di 80 centimetri la prua e la poppa del Nautilus presentavano l'aspetto fusiforme che lo faceva giustamente paragonare a un lungo sigaro notai come le piastre di lamiera leggermente embricate somigliassero alle scaglie che rivestono il corpo dei grandi rettili terrestri mi risultò naturale che nonostante i migliori cannocchiali si fosse sempre considerata questa nave un animale marino verso la metà della piattaforma il canotto semi incastrato nello scafo formava una leggera tumescenza davanti e dietro a questa si ergevano due gabbie molto alte a pareti inclinate e in parte chiuse da spessi cristalli lenticolari una era destinata al timoniere dall'altra il potente riflettore elettrico illuminava la rotta vedevo un mare magnifico un cielo senza nuvole il lungo veicolo risentiva appena delle larghe ondulazioni dell'oceano una leggera brezza di levante corrugava la superficie delle acque l'orizzonte sgombro di brume consentiva le migliori osservazioni nulla in vista non uno scoglio non un isolotto niente Abram Lilcon l'immensità deserta il capitano Nemo misurò col sestante l'altezza del sole che doveva dargli la latitudine attese per qualche minuto mentre osservava non uno dei suoi muscoli aveva un fremito e lo strumento non sarebbe stato più immobile in una mano di marmo mezzogiorno disse signor professore quando verrete gettai un'ultima occhiata su quel mare un po' giallastro per la vicinanza delle coste giapponesi e scesi nel salone principale qui il capitano fece il punto e cronometrò la longitudine controllandola in base a precedenti osservazioni d'angoli orari poi disse signora Ronax siamo a 137 gradi di longitudine ovest di quale meridiano domandai vivacemente sperando dalla risposta un indizio sulla nazionalità del mio ospite signore mi rispose io ho diversi cronometri regolati sui meridiani di Parigi Greenwich e Washington ma in vostro onore ricorrerò quello di Parigi ciò non mi diceva nulla mi inchinai e il comandante riprese 37 gradi e 15 minuti di longitudine est del meridiano di Parigi e 30 gradi e 7 minuti di latitudine nord ossia circa 300 miglia dalle coste del Giappone qui oggi 8 novembre a mezzogiorno comincia il nostro viaggio d'esplorazione sottomarina Dio ci assista e ora signor professore concluse il capitano vi lascio i vostri studi ho dato la rotta per est nord est profondità 50 metri eccovi le carte marine su cui potrete seguirla il salone è a vostra disposizione e permettetemi di ritirarmi il capitano Nemo mi salutò rimasi solo assorto nei miei pensieri gravitavano tutti sul comandante del Nautilus avrei mai saputo a quale paese apparteneva lo strano uomo che si vantava di non avere nazione l'odio che aveva votato all'umanità quest'odio che cercava vendette terribili chi l'aveva provocato era forse il capitano Nemo uno tra quegli scienziati incompresi tra quei geni ai quali si sono fatti dei dispiaceri secondo l'espressione di Consail un Galileo moderno oppure uno di quei dotti come l'americano morì la cui carriera è stata sconvolta da rivoluzioni politiche non potevo ancora saperlo io che ero stato gettato dalla sorte a bordo della sua nave e mi trovavo in suo potere dovevo riconoscere in lui un ospite cortese ma non aveva mai stretto la mia mano tesa non mi aveva mai offerto la sua per un'ora intera restai sprofondato in queste riflessioni cercando luce dentro un enigma tanto interessante per me poi gli sguardi mi si fissarono sul vasto planisfero steso sulla tavola e misi il dito là dove si incrociavano la latitudine e la longitudine rilevate il mare ha i suoi fiumi come li ha nei continenti sono correnti particolari riconoscibili dalle loro temperature e dai colori la più considerevole va sotto il nome di Gulf Stream o corrente del golfo la scienza ha precisato la direzione di cinque correnti principali una nell'Atlantico del nord la seconda nell'Atlantico del sud una terza nel Pacifico nord una quarta nel Pacifico sud e una quinta nell'oceano indiano sud è probabile che una volta ne esistesse anche una sesta nell'oceano indiano nord quando il Mar Caspio e la Rall riuniti ai grandi laghi d'Asia formavano una sola estensione d'acque ora nel punto indicato sul planisfero passava una tra queste correnti il Kuro Shivo dei giapponesi il fiume nero che è uscito dal golfo del Bengala dove lo scaldano i raggi perpendicolari del sole dei tropici attraversa lo stretto di Malacca si spinge oltre la costa asiatica si incurva nel Pacifico nord fino alle isole Aleutine trascinando con sé anche tronchi d'albero della Canfora e stagliando tra i flutti marini il puro indaco delle sue acque era questa corrente che il Nautilus avrebbe percorsa la seguivo con lo sguardo la vedevo perdersi nell'immensità del Pacifico e mi sentivo come rapito insieme ad essa quando Ned Land e Consail apparvero sulla soglia del salone rimasero pietrificati vedendo tante meraviglie ma dove siamo dove siamo esclamava il canadese al museo di Quebec se il signore permette obiettò Consail direi piuttosto al palazzo del Sommerard amici miei risposi facendo loro cenno ad entrare non siete né il Canada né in Francia ma davvero a bordo del Nautilus e a 50 metri sotto il livello del mare bisogna credere al signore dato che lo afferma replicò Consail ma francamente questo salone dà meraviglia anche un fiammingo come me meravigliati amico mio e guarda a un classificatore della tua forza si offre qui un grande lavoro Consail non aveva bisogno ad essere incoraggiato questo bravo ragazzo curvo sulle vetrine stava già mormorando parole tipiche alla lingua dei naturalisti classe dei gasteropodi famiglia dei buccinoidi genere delle porcellane specie delle ciporea madagascariensis intanto Ned Land pochissimo conchiliologo mi interrogava sul capitano Nemo avevo dunque scoperto chi era e la sua provenienza e la sua meta verso quali profondità ci trascinava insomma mille domande cui non avevo nemmeno tempo per rispondere lo misi poi al corrente di tutto quanto sapevo o piuttosto non sapevo e domandai che cosa egli avesse a sua volta visto o sentito visto niente sentito niente risposa il canadese non ho potuto identificare neanche l'equipaggio di questa nave per caso sarà elettrico anche l'equipaggio elettrico in fede mia si è tentate a crederlo ma voi signor Ronax domandò Ned Land che aveva sempre la sua idea potete dirmi almeno quanti uomini ci siano a bordo 10 20 50 100 non so rispondervi Mastro Land del resto credete a me abbandonate per ora l'idea di impadronirvi del Nautilus o scappare questa nave è un capolavoro dell'industria moderna e mi dispiacerebbe non averla vista moltissimi accetterebbero la nostra situazione non fosse che per passeggiare fra queste meraviglie perciò state quieto e proviamo a vedere che cosa succede intorno a noi vedere esclamò il fiociniere ma non si vede niente non si vedrà mai niente che riguardi questa prigione di lamiera ci si muove si naviga come ciechi Ned Land stava pronunciando tale frase quando il salone cadde repentinamente nell'oscurità nel buio completo il soffitto luminoso si spense in modo così fulmineo che i miei occhi ne ricevettero un'impressione dolorosa simile a quella che accompagna il passaggio dalla profondità delle tenebre a una luce sgargiante restammo in silenzio immobili non sapendo quale sorpresa buona o cattiva ci aspettasse ma uno scivolio si fece udire pareva che delle imposte scorressero sui fianchi del nautilus è la fine della fine disse Ned Land ordine delle idromeduse soggiunse con Seil a un tratto entrò la luce invase il salone da due oblung aperture sui lati apparvero masse liquide vivamente illuminate dall'elettricità due lastre di cristallo ci separavano dal mare da prima fremetti al pensiero che difese così fragili si rompessero ma armature ben forti di rame le sostenevano e davano loro una resistenza quasi illimitata il mare era nettamente visibile almeno per un miglio intorno al nautilus quale spettacolo chi saprebbe descriverlo o raffigurare in un quadro gli effetti di luce attraverso quelle trasparenze la dolcezza delle varie sfumature su e giù nell'oceano è noto come il mare sia di afano e che la sua limpidezza supera quella dell'acqua di fonte le sostanze minerali e organiche aumentano ancora la sua trasparenza in alcune parti dell'oceano nelle antille 145 metri d'acqua lasciano scorgere il fondo di sabbia con sorprendente esattezza e la forza di penetrazione dei raggi solari sembra arrivare fino a una profondità di 300 metri ma in questo caso l'illuminante elettricità operava all'interno stesso del mare non vedevamo acqua luminosa ma luce liquida se si ammette l'ipotesi di Ehrenberg che crede a un'illuminazione fosforescente dei fondali sottomarini la natura ha senza dubbio riservato agli abitanti del mare uno dei suoi spettacoli più mirabili e ora potevo esserne buon giudice grazie ai giochi incessanti della luce da un lato e dall'altro restava aperta per noi una finestra su quegli abissi inesplorati il buio totale nel salone faceva risaltare la chiarezza dell'esterno e guardavamo intenti come se quei cristalli purissimi fossero le vetrine di un acquario immenso pareva che il Nautilus non si muovesse per la mancanza di ogni riferimento però a volte le zone d'acqua tagliate dal suo sperone correvano dinanzi a noi con slancio evidentissimo stupefatti guardavamo in silenzio poi con sé l'esclavò volevate vedere amico Ned ecco uno spettacolo curioso curioso faceva il canadese che dimenticando le collere e i progetti d'evasione subiva un'attrazione irresistibile si verrebbe da più lontano per ammirare una faccenda simile ah disse a gran voce io comprendo quest'uomo si è creato un mondo a sé stupendamente esclusivo ma i pesci osservò il canadese non ne vedo che vi importa amico rispose con sail dato che non sapete cosa sono io non sarei dunque un pescatore ribatte Ned Land e su questo argomento nacque una gran discussione fra i due amici entrambi conoscevano i pesci ma in modi differentissimi tutti sanno che i pesci formano la quarta ed ultima classe del ramo dei vertebrati sono stati giustamente definiti dei vertebrati a circolazione doppia e a sangue freddo che respirano con le branchie e debbono vivere nell'acqua compongono due famiglie ben distinte la serie dei pesci ossei quelli la cui spina dorsale è fatta di vertebre ossee e i pesci cartilaginosi la cui spina dorsale ha vertebre cartilaginose il canadese conosceva forse questa distinzione ma con Seil ne sapeva molto di più diventato ora amico di Ned Land non tollerava che questi ne sapesse meno di lui amico Ned disse fra l'altro siete un uccisore di pesci un abilissimo pescatore avete preso un gran numero di questi animali interessanti ma scommetterei che non sapete come vanno classificati sì rispose con serietà il fiociniere si distinguono fra pesci che si mangiano e pesci che non si mangiano è un distinguo da ghiottone obiettò con Seil ma conoscete la differenza fra i pesci ossei e i cartilaginosi magari anche con Seil e il suddividersi di queste grandi classi niente affatto ebbene con Seil disse il fiociniere chinandosi sul cristallo alcune varietà stanno passando sì ecco dei pesci pare di essere in un acquario no replicai l'acquario è una gabbia ma i pesci che vediamo sono liberi come gli uccelli nell'aria bene dite i nomi con Seil fate i nomi chiedeva Ned Land io non ne sono capace questo spetta il mio padrone e infatti il degno giovane classificatore arrabbiato non era affatto un naturalista forse non avrebbe saputo distinguere un tonno da un merluzzo insomma il contrario del canadese che definiva adesso ogni pesce senza esitare un pesce balestra avevo detto io pesce balestra cinese completava Ned genere delle balestre famiglia degli sclerodermi ordine dei plactognati soggiungeva con Seil decisamente Ned e con Seil insieme avrebbero costituito un naturalista coi fiocchi il fiociniere non si era sbagliato un branco di pesce balestra dal corpo compresso la pelle granulosa armati d'un aculeo sulla loro dorsale giocavano intorno al Nautilus agitando i quattro ordini di spine che si rizzano su ogni lato della loro coda molto affascinante la loro epidermide grigia in alto bianca in basso a macchie d'oro scintillanti fra le onde là in mezzo ondulavano delle razze come drappi abbandonate ai venti escorsi con gioia una razza cinese giallastra nella parte superiore rosa tenero sotto il ventre munita di tre aculei dietro l'occhio specie rara di incerta catalogazione ai tempi di l'SPD che non la vide mai se non in una raccolta di disegni giapponesi per due ore tutto un esercito acquatico fece scorta al nautilus la nostra ammirazione non diminuiva Ned continuava a nominare i pesci con Sail li classificava io mi estasiavo per la vivacità dei movimenti e la bellezza delle forme non avevo mai sorpreso i pesci finora liberi nel loro elemento naturale rinuncio a dire tutte le varietà presentatesi ai nostri occhi sbalorditi tutto quel repertorio dei mari del Giappone e della Cina i pesci accorrevano numerosi più che uccelli nell'aria attirati certamente dalla profusa luce elettrica a un tratto questa inondò di nuovo il salone le imposte di lamiere si richiusero la visione incantevole disparve ma io non mi tolsi da una specie di sogno fino a quando gli occhi si fissarono sugli strumenti appesi alle pareti la bussola indicava sempre la direzione est-nord-est il manometro una pressione di 5 atmosfere corrispondente a un'immersione di 50 metri e il lock elettrico segnava una velocità di 15 miglia all'ora aspettavo il capitano Nemo ma non venne l'orologio segnò le 5 Ned Land e Consail tornarono nelle loro cabine io nella mia camera dove era già allestito il pranzo lo costituivano una minestra di tartaruga fatta con le più delicate testuggini marine una triglia gigante dalla carne un po' sfoglia il cui fegato preparato a parte mi fornì un contorno delizioso e filetti dolocante imperatore gustoso più del salmone stando a quanto mi parve passai la serata leggendo scrivendo e pensando poi insonno lito mi coricai sul giaciglio di Zostera profondamente dormì mentre il Nautilus correva insieme al veloce fiume nero 15 una lettera d'invito mi svegliai l'indomani 9 novembre dopo un sonno di 12 ore Consell venne come sempre a domandare come aveva passato la notte il Signore e ad offrire i Suoi servizi aveva lasciato l'amico Ned Land addormentato come chi non abbia mai fatto altro nella vita lasciai il bravo giovane chiacchierare quanto voleva senza rispondere troppo mi preoccupava ora l'assenza del capitano Nemo dalla nostra grande avventura della vigilia e speravo di rivederlo in giornata indossai alla svelta i miei abiti di bisso molto suggestivi per le riflessioni di Consell gli feci sapere che erano in tessuti di quei filamenti lucidi e serici che fissano alle rocce le nacchere specie di conchiglie frequenti intorno al Mediterraneo una volta se ne facevano belle stoffe calze guanti essendo questi filamenti nel tempo stesso morbidi e calorosi l'equipaggio del Nautilus poteva dunque vestirsi a buon mercato senza ricorrere al cotone né ai montoni né ai banchi da seta terrestri quando fui vestito andai nel grande salone era deserto mi sprofondai nello studio dei tesori di conchigliologia accumulati nelle vetrine sfogliai anche i grandi erbari riempiti delle più rare piante marine che pur disseccate conservavano i loro ammirevoli colori la giornata intera trascorse senza che il capitano Nemo mi onorasse con una visita le imposte verso l'oceano non si aprirono forse non ci si voleva disincantare con l'abitudine agli incanti dello spettacolo la direzione del Nautilus si mantenne all'est nord-est la velocità a 12 miglia l'immersione fra i 50 e i 60 metri l'indomani 10 novembre identico abbandono identica solitudine non vidi nessuno dell'equipaggio Ned e Consail passarono la maggior parte della giornata con me si meravigliarono dell'inspiegabile assenza del capitano quest'uomo sorprendente era forse ammalato o intendeva modificare i progetti a nostro riguardo dopo tutto come osservò Consail godevamo di una libertà e venivamo nutriti con raffinata abbondanza il nostro ospite rispettava le clausole da lui stabilite non potevamo allagnarci e inoltre la stessa aberrazione della nostra sorte ci offriva compensi tali che non avevamo ancora il diritto di tenerla in stato d'accusa incominciai allora il diario di queste avventure il diario che mi permette di narrarle con l'esattezza più scrupolosa e particolare curioso scrivevo su una carta fabbricata con la zostera marina l'11 novembre al mattino presto l'aria largamente penetrata nel nautilus mi rivelò che eravamo tornati alla superficie per il rinnovo delle provviste d'ossigeno mi diressi alla scala centrale e salì sulla piattaforma erano le sei trovai tempo coperto mare grigio ma calmo appena un'onda lunga il capitano Nemo che speravo incontrare lassù sarebbe venuto non vedi altri che il timoniere imprigionato nella sua gabbia di cristallo dalla sporgenza dovuta al canotto aspirai con delizia le emanazioni saline a poco a poco la bruma si dissipò sotto i raggi solari l'astro radioso valicava l'orizzonte orientale il mare si infiammò nel suo sguardo come una massa di polvere da sparo le nubi alte nel cielo presero toni vividi ma merevolmente sfumati molte lingue di gatto annunciavano intanto una giornata ventosa ma che poteva il vento sul nautilus insensibile alle tempeste stavo godendomi una splendida aurora così gioiosa vivificante quando udì salire qualcuno verso la piattaforma mi preparavo a salutare il capitano Nemo ma parve il suo secondo che avevo già visto durante la prima visita del capitano mentre avanzava sulla piattaforma parve non accorgersi della mia presenza con un potente cannocchiale scrutò l'orizzonte con minuziosa attenzione poi finito quest'esame si avvicinò al boccaporto e disse esattamente ne ho ricordo perché ogni mattina la frase fu ripetuta nell'identico modo Nautron respoc lornivirk il significato mi è ancora ignoto detto queste parole ridiscese pensavo che il Nautilus si disponesse a riprendere la navigazione sottomarina tornai al boccaporto e per i corridoi raggiunsi la mia camera cinque giorni passarono così senza che la situazione cambiasse ogni mattina salivo sulla piattaforma la medesima frase veniva pronunciata dallo stesso individuo il capitano Nemo non si mostrava mi ero rassegnato a non vederlo più quando il 16 novembre rientrato nella mia stanza con Ned e con Seil trovai sul tavolo un biglietto per me lo aprì con mano il paziente era scritto in una calligrafia franca e chiara ma un po' gotica alla tedesca il biglietto diceva signor professore Arronax a bordo del Nautilus 16 novembre 1867 il capitano Nemo invita il professore Arronax a una partita di caccia che avrà luogo domani mattina nei suoi boschi dell'isola Crespo spera che nulla impedirà il signor professore di parteciparvi ed estende vivamente l'invito ai suoi compagni il comandante del Nautilus capitano Nemo una caccia gridò Ned e nei suoi boschi dell'isola Crespo aggiunse Consail ma allora scenda a terra questo signore mi pare certo dissi rileggendo la lettera ebbene bisogna accettare replicò il canadese una volta a terra vedremo che fare del resto mangerei volentieri un po' di selvaggina fresca senza cercare scappatoie da quanto stava di contraddittorio fra l'orrore tipico il capitano Nemo per i continenti e le isole e quell'invito a caccia in foresta mi contentai di rispondere vediamo intanto cos'è l'isola Crespo la cercai sul planisfero a 32 gradi e 40 minuti di latitudine nord e 167 gradi e 50 minuti di longitudine ovest trovai un isolotto che era stato scoperto dal capitano Crespo e che le antiche carte spagnole chiamavano Rocca della Plada ossia Rocca d'Argento eravamo quindi a circa 1200 miglia dal nostro punto di partenza e la direzione un po' modificata del Nautilus portava a sud-est mostrai ai compagni il segno della piccola isola sperduta nel Pacifico settentrionale quando il capitano Nemo scende a terra dissi scegli almeno delle isole assolutamente deserte Ned Land scossa il capo senza rispondere poi con se e le lui mi lasciarono la cena mi fu servita dallo steward muto e impassibile presi sonno dopo una certa inquietudine l'indomani al risveglio notai che il Nautilus era fermo mi vesti rapidamente e andai nel salone il capitano Nemo era là mi aspettava alzandosi mi salutò e chiese se mi faceva piacere d'accompagnarlo poiché non alludeva in nessun modo la propria sparizione durante quei giorni mi astenni dal parlargliene e semplicemente risposi che i miei compagni ed io eravamo pronti a seguirlo soltanto aggiunsi mi permetterei di rivolgervi una domanda rivolgetemela signora Ronax e se mi è consentito una risposta ve la darò ebbene capitano come mai voi che avete rotto ogni legame con la terraferma possedete boschi nell'isola Crespo signor professore mi rispose il capitano le foreste che posseggo non chiedono al sole né luce né calore non sono frequentate da leoni né da tigri né da pandere sono conosciute da me solo non crescono che per me solo tali foreste non sono terrestri ma sottomarine foreste sottomarine esclamai sì professore e mi offrite da andarci con voi precisamente a piedi e anche a piedi asciutti cacciando cacciando fucile alla mano fucile alla mano guardai il comandante del Nautilus in un modo poco lusinghiero decisamente pensavo ha il cervello infermo ha avuto un accesso durato otto giorni e che per giunta dura ancora peccato bizzarro mi piaceva di più che non adesso propriamente matto erano pensieri trasparenti dal mio viso ma il capitano si limitò a farmi strada e lo seguì da uomo rassegnato a tutto arrivammo in sala da pranzo era già servita la colazione signora Ronax disse il capitano vi prego di condividere alla buona la mia colazione discorreremo mangiando ma se vi ho promesso una gita in foresta non mi sono impegnato a farvi ci trovare un ristorante fate perciò colazione come uno che si aspetti di pranzare molto tardi feci onore all'invito c'erano pesci vari e fette doloturia eccellente zoofita rinforzati da alghe piene di virtù aperitive come la porforire alla cinatia e la laurenzia prima foetida si beveva acqua limpida cui imitando il capitano aggiunsi un po' di liquore fermentato estratto secondo gli usi della camciatta dall'alga detta rodomenia palmata il capitano mangiò dapprima in silenzio poi disse signor professore quando vi ho offerto di venire a caccia nei miei boschi di crespo mi avete ritenuto in contraddizione con me stesso quando ho detto foreste sottomarine mi avete creduto matto signor professore non bisogna mai giudicare gli uomini sommariamente ma capitano non vogliate ascoltarmi e vedrete se occorre accusarmi di pazzia o di contraddizione vi ascolto signor professore il fatto è noto a voi quanto a me l'uomo può vivere sott'acqua avendo una provvista d'aria buona nei lavori sottomarini l'operaio rivestito di un abito impermeabile e con la testa imprigionata in una capsula di metallo riceve l'aria dall'esterno grazie alle pompe apposite e ai regolatori della faccenda è il sistema dei palombari dissi giusto ma in condizioni simili l'uomo non è libero è legato alla pompa che gli manda aria mediante un tubo di caucciù vera catena che lo tiene unito alla terra e se noi dovessimo ugualmente dipendere dal nautilus non andremmo lontano ma il modo di essere liberi domandai impiegare l'apparecchio Rukerolden Reuse concepito da due vostri compatrioti ma che io ho perfezionato per il mio uso e vi permetterà di affrontare queste nuove condizioni fisiologiche senza che gli organi abbiano minimamente a soffrirne l'apparecchio si compone di un serbatoio di lamiera spessa nel quale io immagazzino l'aria a una pressione di 50 atmosfere lo si porta sul dorso ben appeso a bretelle come uno zaino da soldato la parte superiore forma una scatola da cui l'aria mantenuta da un meccanismo amantice non può uscire che alla pressione normale nell'apparecchio Rukerold come viene impiegato normalmente due tubi di caociu partono da questa scatola e arrivano a una specie di maschera che imprigiona il naso e la bocca dell'operatore il primo serve all'aria da inspirare l'altro allo sfogo dell'aria ispirata e la linguetta chiude questo o quello stando ai bisogni della respirazione io che in fondo ai mari affronto pressioni fortissime ho dovuto racchiudere la mia testa come quella dei palombari in una sfera di rame e qui si concludono i due tubi inspiratore ed espiratore benissimo capitano ma l'aria che portate con voi deve presto esaurirsi e dal momento in cui essa non contiene più che il 15% d'ossigeno si fa irrespirabile certamente ma ve l'ho detto signor Aronax le pompe del Nautilus mi permettono di immagazzinarla a una pressione considerevole e in tal modo il serbatoio fornisce l'aria respirabile anche per nove o dieci ore non ho più obiezioni da fare risposi vi domando soltanto come potete illuminare il vostro percorso in fondo all'oceano con l'apparecchio Rumkorf signor Aronax se l'altro si porta sulla schiena questo è attaccato alla cintura gli appartiene una pilabunzen che io tengo in attività non con bicromato di potassa ma con sodio una bobina di induzione raccoglie l'elettricità prodotta dirigendola verso una lanterna a disposizione particolare nella lanterna sta una serpentina di vetro con appena un residuo di gas carbonico quando l'apparecchio funziona il gas dà una luce piancastra e tenace così equipaggiato io respiro e vedo capitano Nemo a tutte le mie osservazioni voi date risposte così schiaccianti che non oso più avere dubbi tuttavia costretto ad ammettere gli apparecchi ronquerolle rumcorf chiedo di poter sollevare qualche riserva sul fucile che mi destinate ma non è un fucile a polvere rispose il capitano allora un fucile ad aria senza dubbio come potrei fabbricare della polvere dalla mia nave quando non ho né sal nitro né zolfo né carbone d'altra parte dissi per sparare sott'acqua cioè in un ambiente 855 volte più denso dell'aria bisognerebbe vincere una resistenza grandissima non sarebbe un ostacolo esistono cannoni perfezionati dopo Fulton dagli inglesi Philip Coles e Burley dal francese Fursi dall'italiano Landy che muniti di un acconcio sistema di chiusura riescono a sparare in queste condizioni ma come vi ho detto non potendo farmi la polvere l'ho sostituita con aria ad alta compressione che le pompe del Nautilus mi forniscono in abbondanza ma quest'aria si consumerà in breve ebbene il serbatoio Rukarol non mi assicura un rifornimento basta per questo un rubinetto ad hoc infine signora Ronax vedrete voi stesso che in queste cacce sottomarine non si fa gran consumo d'aria né di proiettili ma in una semi-oscurità dentro a quell'acqua molto più densa dell'atmosfera direi che i colpi non possono andare lontano e difficilmente saranno mortali signore con questo fucile tutti i colpi sono invece mortali non appena un animale è colpito anche se leggermente cade fulminato perché mai? perché non sono pallottole ordinarie quelle che il mio fucile spara ma piccole capsule di vetro inventate dal chimico austriaco Laniebrook di cui ho una provvista considerevole tali capsule di vetro ricoperte da un blindaggio in acciaio e appesantite da una culatta di piombo sono autentiche bottigliette di leida in cui l'elettricità è tenuta a un'altissima tensione l'urto anche leggero provoca la scarica e l'animale per quanto robusto possa essere viene ucciso aggiungo che le capsule sono grosse non più di una munizione numero 4 e la carica ad un fucile ordinario ne conterrebbe 10 non discuto oltre risposi alzandomi da tavola ho da prendere solo il mio fucile ormai per il resto dove andrete voi io verrò il capitano mi fece strada verso poppa e passando davanti alla loro cabina invitai Ned con Seila a seguirci arrivammo tutti e quattro a uno stanzino nei pressi della sala macchine dovevamo là dentro indossare i nostri indumenti da escursione 16 passeggiata in pianura lo stanzino era per dirla esattamente l'arsenale e guardaroba del Nautilus una dozzina di scafandri aspettava là gli escursionisti Ned Land manifestò una netta ripugnanza a servirsene ma caro Ned gli dissi le foreste dell'isola Crespo non sono altro che sottomarine bene fece deluso il fiociniere cui svanivano i sogni di carne fresca ma voi signor Aronax voi entrerete in quei vestiti bisogna farlo Mastro Ned siete liberissimo di farlo signore rispose il fiociniere alzando le spalle quanto me tranne che mi si costringa non entrerò mai qua dentro nessuno vi costringe Mastro Ned disse il capitano Nemo e con Seil ci si arrischia io seguo il signore dovunque va con Seil rispose a una chiamata del capitano vennero due uomini dell'equipaggio per aiutarci a indossare quei grevi vestiti impermeabili in caociu senza cuciture e preparati così da poter sopportare pressioni enormi somigliavano ad armature insieme resistentissime e flessibili dal pantalone alla giubba il pantalone finiva in grosse calzature con pesanti suoli di piombo il tessuto della giubba era sostenuto da lamelle di rame che corazzavano il petto lo difendevano contro la pressione dell'acqua lasciando ai polmoni libertà di respiro le maniche finivano in forma di guanti così ammorbiditi da non turbare i movimenti della mano c'era una bella differenza lo si vede fra questi nuovi scafandri e i ritrovati in formi quali le corazze di sughero sopravvesti abiti di mare cassoni eccetera inventati e celebrati nel settecento il capitano Nemo e uno tra i suoi compagni un Ercole all'aspetto con Seile e io ci trovammo rapidamente addosso gli scafandri restava solo da chiudere la testa nella sfera metallica ma prima di questa operazione domandai al capitano il permesso di esaminare i fucili mi venne presentato un fucile a canna unica il cui calcio in lamiera d'acciaio e vuoto all'interno aveva dimensioni piuttosto grandi faceva da serbatoio per l'aria compressa che una valvola manovrata da un grilletto lasciava passare nella culatta un contenitore di proiettili ricavato nello spessore del calcio racchiudeva una ventina di pallottole elettriche che per mezzo di una molla si collocavano automaticamente nella canna del fucile appena partito un colpo un altro era pronto capitano Nemo dissi quest'arma è perfetta è facile da maneggiare chiedo solo di provarla ma come ci caleremo fino al fondo del mare attualmente signor professore il nautilus è posato sul fondo a 10 metri dalla superficie e non dobbiamo far altro che metterci in cammino ma come usciremo lo vedrete subito il capitano infilò la testa nella calotta sferica con sé e l'edio facemmo altrettanto mentre il canadese ci indirizzava un ironico buona caccia la parte superiore del nostro vestito terminava in un colletto di rame filettato su cui venne abitato il casco di metallo tre aperture protette da solidi cristalli permettevano di vedere in tutte le direzioni girando la testa nella calotta sistemata questi gli apparecchi runcarol che portavamo sulla schiena cominciarono a funzionare e per quanto mi riguardava respiravo comodamente lampada rumcor fa la cintura fucile in pugno ero pronto ad andare ma per essere sincero così imprigionato nel mio greve vestito e avendo ai piedi quelle suole di piombo non avrei saputo muovere un passo ma la cosa doveva essere prevista venni spinto in una cameretta attiva al guardaroba i miei compagni di spedizione ricevettero identico trattamento sentì chiudersi una porta munita dotturatori e una profonda oscurità ci avvolse dopo qualche minuto udì un grande fischio diffuso un'impressione di freddo mi saliva dai piedi allo stomaco evidentemente aprendo dall'interno del battello una valvola si era dato libero accesso all'acqua marina e la stanza ne fu presto riempita un'altra porta allora si aprì sul fianco del nautilus mi arrivava una luce fioca subito dopo i nostri piedi calpestavano il fondo del mare e adesso come potrei rievocar le impressioni lasciate in me da questa passeggiata sotto le acque se nessun pittore ha saputo farsi emulo degli effetti particolari all'elemento liquido come le riprodurrebbe la penna il capitano nemo camminava in testa e il suo compagno ci seguiva a qualche passo di distanza con Seile e io restavamo l'uno accanto all'altro come se un dialogo fosse possibile attraverso le nostre armature metalliche avevo già finito di sentire pesanti i vestiti le scarpe il serbatoio d'aria e quella grossa calotta in cui la mia testa ballonzolava come una mandorla nel guscio tutte queste cose immerse nell'acqua perdevano una parte del loro peso analogo alla quantità di liquido spostata e trovavo eccellente tale legge fisica scoperta da Archimede non ero più una massa inerte avevo una nuova libertà di movimenti la luce che rischierava il suolo fino a 30 piedi sotto la superficie oceanica mi stupì con la sua forza i raggi solari attraversavano facilmente la massa acquea vincendone la colorazione stessa potevo distinguere nettamente le cose a una distanza di 100 metri più in là i vari aspetti venivano a sfumare nelle sottili gradazioni dell'oltremare poi in lontananza si innazzurravano e svanivano nella penombra l'acqua da cui mi trovavo circondato non era in vero che una specie d'aria più densa dell'atmosfera terrestre ma altrettanto diafana in alto scorgevo la calma estensione marina camminavamo su una sabbia fine uniforme non rugosa come quelle delle spiagge che porta l'impronta delle onde questo splendido tappeto faceva da autentico riflettore i raggi del sole vi rimbalzavano con una forza sorprendente l'immenso riverbero penetrava in ogni molecola liquida sarò creduto se affermo che a quella profondità di 30 piedi vedevo bene come in pieno giorno per un quarto d'ora camminai sulla fulgida sabbia disseminata di un'impalpabile polvere di conchiglie lo scafo del nautilus profilandosi come un lungo scoglio a poco a poco svaniva ma il suo riflettore avrebbe certamente aiutato durante la notte il nostro ritorno a bordo proiettando raggi nitidissimi difficile comprendere questo effetto avendo visto solo in terraferma le biancosità emanate da un riflettore per il pulviscolo di cui l'aria è satura assumono in terraferma l'aspetto di una nebbia luminosa ma in mare o sotto il mare questi dardi elettrici si trasmettono con una purezza incomparabile continuavamo intanto a camminare e la vasta pianura di sabbia sembrava illimitata tenendo innanzi una mano attraversavo le cortine liquide che si chiudevano nuovamente dietro a me e la traccia dei passi via via si cancellava per la pressione dell'acqua in breve alcune forme vagamente sfumate mi apparvero di lontano riconobbi stupendi primi piani di rocce che zoofiti della più bella specie tappezzavano e fu subito colpito da un fenomeno tipico a quei luoghi erano le 10 del mattino i raggi solari battevano sulle acque in modo obliquo e ricevendo una luce scomposta dalla rifrazione come in un prisma i fiori le rocce le minuscole piante e le conchiglie i polipi svariavano nei propri contorni in sette colori dell'iride meraviglioso spettacolo una festa per gli occhi quel pullulare insieme di toni colorati simile a un brivido caleidoscopico di verde e giallo arancione e violetto indaco e blu insomma tutta la tavolozza ad un colorista oltranza disgraziatamente non potevo comunicare a Consail le sensazioni fervide che mi salivano al cervello e gareggiare con lui moguli ammirativi purtroppo non sapevo come il capitano Nemo il suo compagno trasmettere i pensieri secondo gesti convenuti dunque in mancanza di meglio parlavo a me stesso gridavo nella scatola di rame dove stava chiusa la mia testa ed era forse uno spendere in vane parole aria più del dovuto davanti allo splendido spettacolo Consail si era fermato come me evidentemente il bravo giovanotto osservando quegli esemplari di zoofiti e molluschi seguitava a classificarli era per me un dispiacere autentico lo schiacciare camminando gli ammirevoli molluschi sparsi al suolo a migliaia i pettini concentrici i martelli i donaci vere conchiglie saltellanti i trochi i caschi rossi gli strombi ala d'angelo gli afisi e tante altre creature dell'inesauribile oceano ma bisognava camminare e noi procedevamo mentre sopra le nostre teste nuotavano branchi di fisalie che lasciavano fluttuare dietro a sé i tentacoli coloro oltremare e meduse il cui ombrello palino o rosa tenero listato d'azzurro ci riparava dai raggi del sole tutti questi splendori li intravidi a miriade per un quarto di miglio fermandomi ogni tanto per un attimo e obbedendo subito al capitano nemo che mi faceva un gesto di richiamo poi la natura del suolo cambiò alla pianura di sabbia seguì uno strato di fango vischioso che gli americani chiamano ose composto unicamente di conchiglie silice o calcare percorremmo in seguito una prateria d'alghe piante pelagiche che le acque non avevano ancora sradicato e dalla vegetazione prorompente quei prati a tessuto stretto dolce al passo corrispondevano ai più soffici tappeti prodotti dall'uomo se la verzura accompagnava via i nostri passi non diminuiva peraltro al di sopra delle nostre teste un lieve pergolato mobile di piante marine classificate in quell'esuberante famiglie delle alghe di cui si conoscono più di 2000 specie librava il suo intreccio verso la superficie delle acque vedevo fluttuare lunghi nastri di fuco globulosi o tubolari e laurienzia e cladostefi dal fogliame agilissimo rodimeni palmati simili a ventagli di cactus notai che le piante verdi si tenevano più vicina alla superficie quelle rosse stavano profondità medie lasciando che gli idrofiti neri o bruni formassero giardini ed aiuole nei più intimi strati dell'oceano tali alghe sono un vero miracolo della creazione una tra le meraviglie della flora universale la loro famiglia produce al tempo stesso i più piccoli e i più grandi vegetali del globo così come si sono contate 40.000 di queste impercettibili planticelle entro 5 millimetri quadrati pur si sono raccolti dei fuchi la cui lunghezza superava i 500 metri avevamo lasciato il nautilus pressa poco da un'ora e mezza si avvicinava mezzogiorno me ne accorsi dalla perpendicolarità dei raggi solari la magia delle tinte svaniva a poco a poco le sfumature di meraldo e zaffero disertarono il nostro firmamento camminavamo a passi regolari che davano un suono di intensità stupefacente il minimo rumore si trasmetteva come uno slancio al quale l'orecchio non è abituato in terraferma e infatti l'acqua è per il suono un veicolo migliore dell'aria esso vi si propaga quattro volte più in fretta il terreno cominciò ad abbassarsi nettamente la luce prese una tinta uniforme raggiungemo una profondità di 100 metri subendo così una pressione di 10 atmosfere ma lo scafandro era fatto in modo da rendere innocua questa pressione provavo solo un certo fastidio alle articolazioni delle dita ma in breve finì quanto alla stanchezza che avrebbe dovuto provocare in me la camminata di due ore sotto una bardatura tanto insolita non la sentivo affatto i miei movimenti col favore dell'acqua mantenevano una sorprendente facilità sceso a 300 piedi sotto il livello del mare percepivo ancora i raggi del sole ma debolmente al loro intenso bagliore era seguito un crepuscolo rossastro quasi un termine medio fra il giorno e la notte tuttavia ci si vedeva ancora abbastanza per orientarci non era ancora necessario usare gli apparecchi Runcorf a un tratto il capitano Nemo si fermò quando lo ebbi raggiunto mi indicò varie masse oscure che nell'ombra si profilavano a breve distanza è la foresta dell'isola Crespo pensai 17 una foresta sottomarina eravamo finalmente arrivati all'orlo della foresta senza dubbio una tra le più belle nell'immenso possedimento del capitano Nemo egli la considerava sua e si attribuiva al riguardo gli stessi diritti che i primi uomini avevano nei primi giorni del mondo d'altra parte chi gli avrebbe contestato una simile proprietà quale pioniere più audace di lui sarebbe venuto con l'ascia in pugno ad sboscarne i cupi recessi la foresta era formata di grandi piante arborescenti e quando ci trovammo sovrastati dalle sue vaste volte gli sguardi mi resero evidente una singolare disposizione del complesso boschivo disposizione che non avevo mai vista nessuna tra le pianticelle ed erbe di cui il suolo era tappezzato nessuno tra i rami d'albero strisciava o si curvava o aveva una direzione orizzontale tutto si ergeva verso la superficie dell'oceano non un filamento per quanto fosse sottile che non stesse dritto come uno stelo di ferro i fuchi e le liane tenevano nello svilupparsi una linea rigida e perpendicolare governata dalla densità dell'elemento che li aveva prodotti normalmente immobili se le scostavo con la mano queste piante riprendevano subito la primitiva posizione era il regno della verticalità presto mi abituai a questa visione bizzarra come alla penombra che ci avvolgeva il suolo era cosparso di massi aguzzi difficili da evitare la flora sottomarina mi risultò abbastanza completa più ricca anche di quanto lo sarebbe stata nelle profondità artiche o tropicali dove i suoi elementi sono meno numerosi ma per qualche minuto confusi istintivamente due regni della natura tra loro prendendo zoofiti per idrofiti animali per piante e chi non si sarebbe ingannato fauna e flora sono così limitrofe nel mondo sottomarino osservavo che tutti quei prodotti vegetali erano uniti al suolo da nient'altro che un legame superficiale sprovvisti di radici indifferenti al corpo solido sabbia conchiglia guscio o ghiaia che li regge non gli chiedono vitalità ma solo un punto d'appoggio queste piante dipendono per la propria esistenza solo dall'acqua che le sostiene che le nutre la maggior parte invece di foglie presentava lamelle dalle forme capricciose in una gamma di colori limitata al rosa e al carminio al verde all'olivastro al fulvo e al bruno rivì di là ma non disseccate come gli esemplari del nautilus padine a ventaglio che sembravano offrirsi alla brezza ceramie scarlatte laminarie i cui giovani germogli commestibili si protendevano nere ociste filiformi e flessuose che all'altezza di 15 metri si ampliavano mazzi di quelle accettabili i cui steli si ingrossano in cima e una quantità d'altre piante pelagiche tutte sprovviste di fiori curiosa anomalia a questo bizzarro elemento ha detto un sapido naturalista in cui il regno animale fiorisce e il regno vegetale no fra i vari arbusti sviluppatisi come alberi delle zone temperate e nella loro umida ombra si addensavano cespugli autentici di fiori viventi siepi di zoofiti sotto vaste meandrine striate da linee tortuose cariofille giallicce dai tentacoli di afani ciuffi erbosi di zoo antarie e completando l'illusione i pesci mosca svolazzavano di ramo in ramo come uno sciame di colibri mentre i gialli lepisacanti dalla mascella ersuta dalle scaglie guzze e i dattilotteri e i monocentri si alzavano a volo fra i nostri passi come uno stormo di beccaccini verso luna il capitano Nemo diede il segnale della sosta per mio conto ne fui molto soddisfatto ci sdraiammo sotto un pergolato di alarie le cui lunghe strisce si drizzavano come frecce la tregua mi riuscì deliziosa non mancava che il piacere della conversazione impossibile parlare impossibile rispondere mi contentai di avvicinare la grossa mia testa di rame a quella di consail gli occhi del bravo giovane brillarono di contentezza e lo vidi agitarsi nell'armatura con un'aria soddisfatta estremamente comica dopo quattro ore di cammino fui stupito di non sentirmi una gran fame da che cosa dipendesse non saprei dirlo ma in compenso provavo un'irresistibile voglia di dormire come avviene a tutti i tuffatori così i miei occhi si chiusero presto dietro i grossi cristalli caddi nell'invincibile sonnolenza che solo il moto aveva potuto rinviare fino allora il capitano Nemo e il suo robusto compagno stesi nella purezza marina davano l'esempio del sonno per quanto tempo restai così assopito non potrei dirlo ma svegliandomi ebbi l'impressione che il sole tramontava il capitano si era già alzato e io cominciavo a stirarmi quando una visione in attesa mi fece alla meglio balzare in piedi un mostruoso ragno di mare alto un metro mi guardava con gli occhi loschi a qualche passo da me pronto ad assalirmi benché lo scafandro fosse abbastanza solido per difendermi contro i suoi morsi non tratteni un moto d'orrore con Seil e il marinaio del Nautilus si svegliarono in quel momento il capitano indicò il compagno l'orrendo crostaceo egli lo abbatté subito usando il calcio del fucile e vidi le zampe del mostro torcersi in convulsioni atroci l'incidente mi fece pensare che altri animali più temibili dovevano frequentare quelle profondità e che lo scafandro non mi avrebbe protetto dai loro assalti fino allora non lo avevo immaginato decisi adesso di stare in guardia supponevo del resto che la sosta corrispondesse al traguardo della nostra impresa ma sbagliavo e invece di tornare al Nautilus il capitano prolungò l'audace escursione il suolo continuava ad abbassarsi e la pendenza accentuandosi via via ci portava profondità assai maggiori dovevano essere pressa poco le tre quando giungemmo a una valle stretta fra alte pareti a picco e situata a 150 metri di profondità grazie ai nostri perfettissimi apparecchi superavamo così di 90 metri il limite che la natura sembrava fino allora avere posto alle discese sottomarine dell'uomo ho detto 150 metri benché nessuno strumento mi rendesse misurabile la distanza ma sapevo che anche nei mari più limpidi i raggi solari non vanno oltre ebbene l'oscurità si fece allora decisa niente era visibile a più che dieci passi procedeva a tentoni ma improvvisamente brillò una vivida luce bianca il capitano aveva messo in funzione l'apparecchio elettrico il suo compagno lo imitò con sé e lei e io seguimmo i loro esempi stabilì girando una vite la comunicazione fra la bobina e la serpentina di vetro e rischiarato dalle nostre quattro lanterne il mare si illuminò per un raggio di 25 metri il capitano avanzava nella foresta le piante andavano ora diradandosi osservai che la vita vegetale si rarefaceva più in fretta di quell'animale le piante pelagiche già disertavano il suolo inaridito mentre un'enorme quantità di animali zoofiti articolati molluschi e pesci vi pullulava ancora camminando pensavo che la luce dei nostri apparecchi Rumkorf doveva necessariamente attrarre qualche abitante degli oscuri paesi da noi attraversati ma se davvero si avvicinò rimase almeno a una distanza deplorevole da un cacciatore non una volta sola vidi il capitano Nemo fermarsi prender la mira poi dopo qualche attimo d'osservazione si raddrizzava e riprendeva il cammino verso le quattro finì la nostra stupenda escursione un imponente muro di roccia apparve dinanzi a noi un cumulo di blocchi giganteschi in granito fra i quali si aprivano buie grotte ma dove non era visibile alcuna possibilità di scalata vi aveva i suoi puntelli l'isola crespo era la terra il capitano Nemo si fermò all'improvviso un suo gesto ci diede l'alta e nonostante la mia voglia ad andare oltre non potevo che obbedire qui finiva il regno del capitano Nemo egli non voleva uscirne al di là stava tutta la parte del mondo in cui egli non avrebbe più messo piede cominciamo a tornare verso il Nautilus il capitano Nemo stava in testa di nuovo e non mostrava incertezze notai che non tenevamo la via precedente quella attuale molto ripida e dunque molto faticosa portava in fretta verso il livello del mare ma il ritorno non fu tanto brusco da farci troppo sentire la decompressione provocando nei nostri organismi disordini gravi e forse quelle lesioni interne così temibili dai sommozzatori la luce in breve riapparve si accrebbe essendo il sole già basso all'orizzonte la rifrazione mise di nuovo sulle cose i suoi fantomatici anelli dieci metri sotto la superficie ci avvolse uno sciame di eterogenei pesciolini che risultavano più numerosi degli uccelli nell'aria e ancora più sciolti nei movimenti ma nessuna selvaggina acquatica degna ad un colpo di fucile si era presentata fino allora poi a un tratto vidi il fucile del capitano velocemente imbracciato e puntato per seguire fra i cespugli qualcosa di mobile il colpo partì intesi un fischio leggero e un animale cadde fulminato a pochi passi da me era una magnifica lontra di mare un enidro il solo quadrupede esclusivamente marino questa lontra lungo un metro e mezzo doveva valer molto la pelle d'un bruno marrone sul ventre e argentata altrove si prestava a diventare una tra quelle splendide pellicce così in voga sui mercati russi e cinesi la finezza la lucentezza del pelame garantivano un valore minimo di 2000 franchi ammirai questo strano mammifero dalla testa rotondata e orecchie corte occhi a cerchio baffi bianchi e somiglianti a quelli dei gatti piedi palmati e ungulati coda folta tale carnivoro ricercatissimo dai pescatori sta diventando molto raro e si è rifugiato specialmente nelle zone boreali del pacifico dove è probabile che venga presto ad estinguersi il marinaio del nautilus andò a raccogliere questa lontra se la mise in spalla e riprendemmo il cammino per un'ora attraversammo una pianura di sabbia risaliva spesso a meno di due metri dalla superficie vedevo allora le nostre immagini nitidamente rispecchiate mostrarsi in senso inverso sopra di noi apparivano quattro personaggi tenaci nel fare i nostri movimenti e i nostri gesti se non anche mai smettevano di tenere la testa in basso e i piedi in alto altro effetto notevole un passaggio di nuvole dense che via via si dissolvevano in fretta ma a un certo punto capì che le nuvole erano relativa al variabile spessore delle ondate di fondo e scorgevole pecorelle di schiuma trascorrenti dalla cresta di quelle onde sulle acque notavo anche le ombre dei grandi uccelli marini quando sfioravano in volo il nostro liquido soffitto potei assistere a una tra le più entusiasmanti fucilate che abbiano mai fatto sussultare le fibre di un cacciatore un grande uccello ben visibile nella sua ampiezza d'ali si avvicinava planando il compagno del capitano Nemo prese la mira e sparò nel momento giusto la preda cadde fulminata e affondò fino a portata di mano dell'abile cacciatore era un albatro della miglior specie un esemplare ammirevole d'ornitologia pelagica il nostro cammino non era stato granché interrotto da questo episodio per due ore seguimmo pianure sabbiose o praterie d'alghe che era faticoso attraversare francamente non ne potevo più scorsi infine una vaga lucentezza nelle acque a un miglio di distanza veniva dal proiettore del nautilus saremmo dunque arrivati circa in 20 minuti e a bordo avrei di nuovo respirato a mio agio il serbatoio adesso mi pareva nettamente impoverito d'ossigeno ma non avevo fatto i conti con un improvviso motivo di ritardo ero rimasto un po' indietro quando vidi il capitano Nemo tornare bruscamente verso di me dalla sua mano vigorosa mi trovai atterrato mentre il marinaio faceva altrettanto con conseil da prima questa specie d'assalto mi allarmò poi mi diede un certo sollievo vedere che il capitano mi si accucciava accanto e restava fermo ero dunque steso al suolo e precisamente al riparo di un cespuglio d'alghe quando alzata la testa scorsi due masse enormi passare impetuosamente in un ribollio di fosforescenze mi si gelò il sangue nelle vene avevo riconosciuto i formidabili squali che ci insidiavano erano una coppia di tintoreas pescicani terribili dalla coda enorme dallo sguardo opaco e vitreo che attraverso fori sparsi nel loro corpo distillavano una materia fosforescente lucciole mostruose che nelle loro mascelle di ferro stritolano un uomo intero non so quanto si preoccupasse con Seil di classificarli ma certamente almeno io ero sensibile al loro ventre d'argento alla loro formidabile bocca irta di zanne non reagendo con spirito scientifico ma piuttosto da vittima che da naturalista per fortuna questi esseri voraci hanno una vista cortissima passarono senza accorgersi di noi quasi sfiorandoci con le pinne ci salvammo così da un rischio certamente più atroce che non quello dovuto all'incontro con una tigra in piena foresta mezz'ora dopo orientati dall'alone elettrico raggiungevamo il nautilus il portello esteriore era rimasto aperto e il capitano Nemo lo chiuse dopo la nostra entrata nel primo stanzino poi schiacciò un bottone udì manovrare le pompe all'interno della nave sentì l'acqua abbassarsi intorno a me e in pochi momenti il locale fu del tutto vuotato allora il portello interno si aprì e passammo nello spogliatoio toglierci gli scafandri non fu esente da difficoltà morto di stanchezza di sonno e inazione tornai nella mia stanza ancora tutto allibito per quell'impresa sottomarina 18 4.000 leghe sotto il pacifico l'indomani mattina 18 novembre mi ero perfettamente rimesso dalle fatiche della vigilia salì in piattaforma mentre il secondo ufficiale pronunciava la sua frase quotidiana pensai allora che riguardasse le condizioni del mare o chissà voleva dire niente in vista l'oceano infatti era deserto non una vela all'orizzonte le alture dell'isola crespo erano sparite durante la notte il mattino assorbendo i colori del prisma a eccezione dei raggi blu li rifletteva in tutte le direzioni vestendosi di una magnifica tinta indaco proprio una stoffa amarezzata a righe larghe pareva svolgersi insieme al ritorno delle onde vidi apparire il capitano Nemo non sembrò accorgersi della mia presenza lo assorbirono certe osservazioni astronomiche poi si appoggiò alla gabbia del proiettore perdendosi con lo sguardo nella grandezza dell'oceano forse una ventina di marinai tutta gente robusta e ben fatta erano intanto saliti in piattaforma doveva tirar su svuotare le reti gettate alla traina durante la notte quei marinai appartenevano evidentemente a nazioni diverse benché il tipo europeo fosse comune a tutti riconobbi senza incertezza degli inglesi dei francesi e alcuni slavi ma quegli uomini erano poco loquaci e usavano l'idioma bizzarro di cui non sapevo identificare nemmeno l'origine rinunciai dunque a interrogarli le reti bennero issate a bordo erano delle specie di sciaviche simili alle normanne baste sacche che una verga galleggiante e una catena passata fra le maglie inferiori mantengono socchiuse le sacche così rimorchiate spazzavano il fondo dell'oceano stimai a mille libri di pesce il frutto della retata era una buona pesca ma non sorprendente reti come quelle stanno a rimorchio per varie ore e inghiottano nel loro carcere di cordella tutto un mondo acquatico avremmo dunque sempre conquistato viveri d'ottima qualità quei pesci furono subito calati attraverso il boccaporto fino alle cambuse gli uni per essere mangiati freschi gli altri da conservare credevo poi che il nautilus riprendesse la navigazione sottomarina e mi disponevo a tornare nella mia stanza quando il capitano Nemo esclamò senza preamboli guardate l'oceano signor professore non è forse realmente vivo con le sue ire e le sue tenerezze si è addormentato ieri come noi eccolo risvegliarsi dopo una notte quieta né buongiorno né buonasera non sembrava proseguire con me un discorso mai interrotto questo strano personaggio guardate egli riprese si sveglia sotto le carezze del sole ricomincia a vivere la sua esistenza diurna è uno studio interessante seguire il gioco del suo organismo ha un polso delle arterie ha i suoi spasmi ed ho ragione a quel sapientissimo morì che vi ha scoperto una circolazione effettiva quanto la circolazione è sanguigna negli animali è certo che il capitano Nemo non si aspettava da me alcuna risposta e mi parve inutile prodigargli evidentemente il sicuro e gli avete ragione egli parlava piuttosto con se stesso facendo lunghe pause tra una frase e l'altra era una meditazione ad alta voce si disse l'oceano ha un'effettiva circolazione e al creatore di tutte le cose è bastato per provocarla moltiplicare nell'oceano il calorico il sale e gli infusori il calorico infatti produce densità diverse che suscitano le correnti e controcorrenti l'evaporazione inesistente nelle regioni perboree attivissima nelle zone equatoriali costituisce uno scambio permanente tra le acque tropicali e quelle polari inoltre ho scoperto l'esistenza di correnti dall'alto in basso e dal basso in alto che formano la respirazione vera dell'oceano ho visto la molecola d'acqua di mare riscaldata alla superficie ridiscendere verso il profondo raggiungere il suo massimo di densità a 2 sotto 0 poi di nuovo raffreddandosi diventar più leggera e risalire al polo vedrete le conseguenze del fenomeno e capirete perché grazie a questa legge della previdente natura la congelazione non può avvenire se non alla superficie delle acque mentre il capitano Nemo terminava la frase io pensavo il polo ma questo risicatore vuole condurci fin là adesso egli guardava in silenzio l'elemento così ampiamente così incessantemente studiato da lui poi riprendendo nel mare si trovano in grande quantità i sali signor professore e raccogliendo tutti quelli che esso tiene in soluzione ne potreste fare una massa in 4 milioni e mezzo di leghe cubiche distribuita la superficie del globo formerebbe uno strato di più che 10 metri d'altezza e non crediate che la presenza di questi sali sia dovuta solo a un capriccio della natura no rendono le acque marine meno evaporabili e impediscono ai venti di portare via a esse una quantità troppo grande di vapori che sciogliendosi sommergerebbero le zone temperate grande compito di ponderatore nell'economia del globo tacque di nuovo fece qualche passo sulla piattaforma e mi tornò vicino quanto agli infusori riprese ossia ai miliardi di animaluzzi che esistono a milioni in una piccola goccia e 800.000 dei quali pesano un milligrammo il loro compito non è meno importante assorbono i sali marini assimilano gli elementi solidi dell'acqua e veri costruttori di continente calcarei fabbricano coralli e madrepore e allora la goccia d'acqua privata del suo alimento minerale si alleggerisce risale alla superficie vi assorbe i sali abbandonati dall'evaporazione si appesantisce ridiscende e a quegli animaluzzi riporta nuovi elementi da assorbire si ha una duplice corrente ascendente e discendente e sempre il movimento sempre la vita una vitalità più intensa che sui continenti più esuberante che prospera dovunque nell'oceano elemento mortifero per l'uomo fu detto ma vitale per miriadi di esseri viventi e per me quando il capitano Nemo teneva simili discorsi si trasfigurava provocando in me emozioni straordinarie tutto sommato egli aggiunse qui è l'esistenza vera e io capirei la fondazione di città nautiche d'agglomerati urbani sottomarini che come il Nautilus tornino a respirare ogni mattina la superficie dei mari città libere se mai ve ne furono città indipendenti ma poi forse qualche despota la frase si interruppe in un gesto violento e rivolgendomisi poi direttamente come per scacciare un pensiero funesto signora Ronax domandò sapete quanto è profondo l'oceano so almeno quel che i principali scandagli hanno insegnato volete citarmeli perché possa controllarli se necessario eccone alcuni dissi che mi tornano la memoria se non sbaglio fu trovata una profondità media di 8 miglia e 200 metri nell'Atlantico Nord 2.500 metri nel Mediterraneo gli scandagli più importanti sono stati fatti nell'Atlantico Sud vicino al 35esimo essi hanno dato rispettivamente 12.000 14.096 e 15.149 metri insomma si calcola che se il fondo del mare fosse portato a un livello unico la profondità media sarebbe circa 7 chilometri bene signor professore ma spero che vi mostreremo di meglio quanto alla profondità media in questa parte del Pacifico sappiate che è appena 4.000 metri dopodiché il capitano Nemo si diresse verso il boccaporto e sparì nel vano della scaletta io andai nel salone principale presto l'elica si mise in moto e il lock indicava una velocità di 20 miglia all'ora nei giorni nelle settimane seguenti il capitano mi cercò pochissimo non lo vidi che a lunghi intervalli il suo secondo regolarmente faceva il punto che io trovavo ogni volta sulla carta e potevo dunque rilevare con esattezza la rotta del Nautilus Consail e Land passavano con me lunghe ore Consail aveva narrato all'amico gli incanti della nostra escursione e il canadese rimpiangeva di non averci accompagnati io speravo in una nuova occasione per visitare le foreste oceaniche quasi ogni giorno le imposte del salone si aprivano per qualche ora e non ci si stancava mai di penetrare con lo sguardo nei misteri sottomarini il Nautilus procedeva in genere verso sud est restando fra i 100 e i 150 metri di profondità ma un giorno non so per quale capriccio filando diagonalmente scese a 2000 metri il termometro segnava 4,25 gradi temperatura che a quella profondità pare condivisa da tutte le latitudini alle 3 del mattino del 26 novembre il Nautilus barcò il tropico del cancro a 172 gradi di longitudine il 27 passava in vista delle sandwich dove l'illustre Cook trovò la morte il 14 febbraio 1779 dal nostro punto di partenza avevamo percorso 4860 leghe la mattina quando arrivai sulla piattaforma vidi a due miglia sotto vento Hawaii la più importante fra le isole dell'arcipelago omonimo distinsi bene le sue rive coltivate le varie catene di montagne parallele alla costa e i vulcani culminanti nel Munarea a 5000 metri d'altezza la direzione del Nautilus rimaneva a sud est tagliò l'equatore il primo dicembre a 142 gradi di longitudine e il 4 dello stesso mese dopo una rapida traversata senza incidenti trovammo le isole marchesi scorsi a 3 miglia a 8 gradi e 57 minuti di latitudine sud e 139 gradi e 32 minuti di longitudine ovest la punta Martin di Nuccaiva principale isola di quel gruppo appartenenti alla Francia ne vidi solo le montagne boscose all'orizzonte poiché il capitano Nemo non amava accostare a terra dopo aver avvistato quelle simpatiche isole protette dalla bandiera francese fra il 4 e l'11 dicembre il Nautilus percorse circa 2000 miglia tale navigazione fu segnata dall'incontro con un immenso branco di calamari i pescatori francesi li chiamano encornè appartengono alla classe dei cefalopodi e alla famiglia dei dibranchiati come le seppie e gli argonauti furono particolarmente studiati dai naturalisti nell'antichità fornivano intanto numerose metafore agli oratori dell'agora e ottimi piatti alle mense dei ricchi fu nella notte dal 9 al 10 dicembre che il Nautilus incontrò quei molluschi di abitudini particolarmente notturne potevano essere milioni e migravano dalle zone temperate verso altre più calde seguendo l'itinerario delle aringhe e delle sardine li guardavamo dai nostri robusti tramezzi di cristallo nuotavano all'indietro con estrema rapidità per mezzo del loro tubo locomotore inseguendo pesci e molluschi mangiando dei piccoli e venendo divorati dai grossi e agitando in una confusione indescrivibile i dieci piedi che ad ogni calamaro la natura ha impiantato sulla testa come una capigliatura di serpenti pneumatici nonostante il suo passo veloce per ore il Nautilus navigò in mezzo a quel branco e le reti fecero un'immensa provvista di calamari il mare prodigava dunque senza trego i suoi spettacoli affascinanti ma anche i suoi più terribili segreti cominciavano a sorprendere l'undici dicembre stavo leggendo nel grande salone Ned Land e Consail osservavano lo sfaviglio delle acque fra le imposte socchiuse il Nautilus era fermo riempiti i serbatoi faceva sosta a una profondità di mille metri livello oceanico al quale è raro che i grossi pesci dirigano le proprie nuotate leggevo un piacevole libro di Jean Massé i servitori dello stomaco ne assaporavo le ingegnose lezioni Consail interruppe la mia lettura il signore vuole venire un momento disse con voce strana ma che c'è Consail il signore guardi andai a guardare dal vetro nel vivo della luce elettrica una gran massa nerastra immobile rimaneva sospesa nell'acqua osservai attentamente volevo scorgere di quale gigantesco cetaceo si trattasse ma all'improvviso una nave esclamai sì rispose Ned Land una nave disalberata che è colata picco Ned non sbagliava eravamo dinnanzi a una nave le sartie spezzate pendevano ancora dalle catene lo scafo appariva in ordine il naufragio non doveva essere avvenuto da più di qualche ora i tronconi d'albero nettamente tagliati due piedi al di sopra del ponte indicavano che la nave in pericolo aveva dovuto sacrificare l'alberatura ma sbandata sul fianco si era riempita d'acqua dava ancora della banda a sinistra cupo spettacolo quella carcassa affondata ma ancora più triste vedere che in coperta giacevano alcuni cadaveri trattenuti dai cordani ne contai quattro quattro uomini dei quali uno ritto al timone poi una donna appena per metà fuori dal cassarretto con un bambino in braccio era una donna giovane vedevo bene nella gran luce emanata del nautilus i lineamenti che l'acqua non aveva ancora decomposto in un supremo sforzo aveva levato alto sopra la propria testa il bambino le cui esi di braccia erano ancora puntate al collo della madre l'aspetto dei marinai mi riuscì terrificante contorti come erano rimasti dagli ultimi movimenti convulsivi nell'estremo sforzo per togliersi dalle corde che li trattenevano isolato più calmo nel volto con una fisionomia limpida e seria i grigi capelli incollati alla fronte la mano contratta sulla ruota affidatogli il timoniere pareva dirigere nell'oceano profondo il tre alberi vinto dal naufragio quale scena restavamo in silenzio palpitando dinnanzi a quella tragedia colta in flagrante e per così dire fotografata nel suo epilogo vedevo già il rompere con l'occhio ardente certi squali mostruosi attirati dalla preda di carne umana poi il nautilus manovrando girò intorno alla nave sommersa sulla targa di poppa si leggeva florida sunderland diciannove vanicoro questo spettacolo atroce inaugurava la serie delle catastrofi navali che il nautilus avrebbe incontrato sulla sua rotta quando si trovò per correre mari più frequentati vedemmo numerosi relitti che imputridivano nell'acqua a minor profondità dei loro cannoni ancore catene e mille altre cose che la ruggine divorava nel frattempo sempre stretti a questo nautilus l'11 dicembre abbistammo l'arcipelago delle pomutù l'antico gruppo pericoloso di buganbill sparso per 500 leghe da est sud est a ovest nord ovest tra i 13 gradi e 30 minuti e i 23 gradi e 50 minuti di latitudine sud tra i 125 gradi e 30 minuti e i 151 gradi e 30 minuti di longitudine ovest dall'isola Dussi all'isola Lazaref l'arcipelago copre una superficie di 370 miglia quadrate vi stanno una sessantina di gruppi di isole tra i quali Gambier protettorato francese le isole sono coralligene uno sviluppo lento ma continuo dovuto ai lavori dei polipi le collegherà un giorno tra loro poi questa nuova isola andrà unendosi agli arcipelaghi vicini un quinto continente si estenderà dalla Nuova Zelanda e dalla Nuova Caledonia fino alle Marchesi il giorno in cui svolsi questa teoria parlando al capitano Nemo mi rispose freddamente non di nuovi continenti ha bisogno la terra ma di uomini nuovi la navigazione aveva condotto il Nautilus precisamente verso l'isola Clermont-Onnet una delle più suggestive nel gruppo che fu scoperto nel 1822 dal capitano Bill della Minerv potei allora studiare il tipo di formazione madreporica relativo a queste isole le madrepore che non bisogna confondere con i coralli sono rivestite da un'incrostazione calcarea e le varietà di struttura hanno indotto il signor Milne Edwards il illustre maestro a classificarle in cinque sezioni gli animaluzzi che secciarnano questo polipaio vivono a miliardi in fondo alle loro celle sono i loro depositi calcarei a farsi rocce e scogliere isolotti isole formano un anello circolare dove sta un lagoon o piccolo lago interno che qualche breccia mette in comunicazione col mare si configurano là in barriere di scogli simile a quelle della Nuova Caledonia e varie isole delle Pumutu in altri luoghi come la Rignan o Maurice inalzano scogliere frastagliate alte muraglie di ritte presso le quali è assai profondo l'oceano costeggiando in questo caso a poche gomene di distanza le fondamenta dell'isola di Clermont-Tonner ammirai l'opera gigantesca compiuta dai microscopici lavoratori le muraglie rappresentavano specialmente il lavoro di madre porarie chiamate millepore porite astre e meandrine tali polipi si sviluppano in modo particolare nelle zone agitate della superficie marina si inizia dunque dalla parte superiore il complesso di queste costruzioni si abbassano via via con i frammenti di secrezione che le sorreggono tale almeno la teoria di Darwin che così spiega le formazioni degli atolli teoria preferibile secondo me a quella che riferisce i lavori madre porici a una base fornita di cime di montagne di vulcani sottomarini potei osservare da vicino queste interessanti muraglie presso la loro verticale lo scandaglio indicava più di 300 metri di profondità e la nostra luce elettrica rendeva scintillante il calcare rispondendo a una domanda fattami da consail sui tempi di crescita di queste colossali barriere lo stupì moltissimo dicendogli che gli scienziati calcolavano la crescita in un ottavo di pollice al secolo così mi disse per innalzare le muraglie in questione sono corsi 192 mila anni caro consail allungano di molto le giornate bibliche dal resto il formarsi del carbone ossia la mineralizzazione delle foreste sommerse dai diluvi ha richiesto un tempo molto più lungo ma aggiungerò che queste giornate della Bibbia rappresentano un'epoca ciascuna e non l'intervallo fra due albe secondo la Bibbia il sole non esisteva il primo giorno della creazione quando il Nautilus risalì alla superficie potei scorgere in tutta la sua estensione l'isola di Clermont-Onner passa e boscosa le sue rocce madreporiche erano state fertilizzate dai cicloni e dalle tempeste un giorno qualche seme rapito dall'uragano a territori vicini cadde sugli strati calcarei mischiati alle decomposizioni di pesci e piante marine che formano qui l'humus vegetale spinta dalle onde una noce di cocco arrivò su questa nuova costa il seme mise radici l'albero crescendo intercettò il vapore acqueo nacque un ruscello la vegetazione si estese a poco a poco degli animaluzzi dei vermi degli insetti approdavano con i tronchi strappati alle isole dal vento le tartarughe vennero a deporre le uova gli uccelli nidificarono sui giovani alberi così la vita animale prendeva sviluppo e attirato dalla verzura e dalla fertilità apparve l'uomo si formarono dunque tali isole primamente opere immense da animali preistorici verso sera Clermont-Tonnerre svanì nella lontananza e la rotta del Nautilus cominciò a mutare sensibilmente tagliato il tropico del Capricorno al 135esimo grado di longitudine il battello si diresse verso ovest-nord-ovest risalendo tutta la zona intertropicale benché il sole estivo fosse prodico dei suoi raggi non soffrivamo assolutamente il caldo a 30 o 40 metri sott'acqua la temperatura non andava oltre i 10 o i 12 gradi il 15 dicembre lasciammo a est il seducente arcipelago della società e la bella Tahiti regina del Pacifico scorsi al mattino poche miglia sotto vento le alte cime di quest'isola le sue acque fornirono alle mense di bordo ottimi pesci sgombri bonite albicore e certe varietà ad un serpente di mare chiamato Munerophis il Nautilus aveva percorso 8100 miglia ne furono segnalate 9720 dal Loc quando passammo fra l'arcipelago di Tonga Tabù dove gli equipaggi del Largo della Portoprense e della Duke of Portland perirono e l'arcipelago dei navigatori riuscito fatale al capitano dell'Angle amico di La Perose poi apparve l'arcipelago Viti dove i selvaggi avevano già massacrato i marinai dell'Union e il capitano Boreux di Nantes comandante della Meble Josephine l'arcipelago Viti si prolunga per cento leghe da nord a sud e 90 da est a ovest è compreso fra i 6 gradi e i 2 gradi di latitudine sud fra i 174 gradi e i 179 gradi di longitudine ovest con le sue isole e i suoi isolotti di scogli fu Tasman a scoprire l'arcipelago Viti nel 1643 l'anno stesso in cui Torricelli inventava il barometro e Luigi XIV saliva sul trono giudichi il lettore quale sia stato il fatto più utile all'umanità in questa serie vennero vennero poi Cook nel 1774 Dentrecasteur nel 1793 e infine nel 1827 Dumont d'Urville mise ordine nel caos geografico dell'arcipelago Il Nautilus entrava nella baia di Wailea nota per le terribili avventure di quel capitano Dillon che per primo svelò il mistero del naufragio di Lepereuse La baia dragata a varie riprese ci fornì in abbondanza ostriche eccellenti Ne mangiammo a bizzeffe dopo averle aperte sulla tavola secondo il precetto di Seneca Il banco d'ostriche a Wailea doveva essere molto ricco e certamente se non esistessero svariate forze distruttive queste agglomerazioni finirebbero per colmare i golfi dato che si contano anche 2 milioni di uova in un solo individuo Ned Land non dovette allora pentirsi della sua ghiottoneria solo perché l'ostrica è un alimento non soggetto mai a provocare indigestione In realtà 16 dozzine di questi molluschi acefali corrispondono ai 315 grammi di sostanza azotata necessari per la nutrizione quotidiana di un uomo Il 25 dicembre eravamo nelle acque dell'arcipelago delle nuove ebridi che Chiros scoprì nel 1606 Bougainville lo esplorò nel 1768 Cook gli diede il nome attuale nel 1773 Si compone principalmente di 9 grandi isole in una fascia di 120 leghe da nord-nord-ovest a sud-sud-est Passammo vicino all'isola di Auru che durante le osservazioni di mezzogiorno mi apparve come una verde massa di boschi sovrastata da un picco imponente Era Natale e Ned Land mi sembrò rimpiangere a fondo le celebrazioni del Christmas la vera festa della famiglia di cui i protestanti sono fanatici Da circa otto giorni non avevo visto il capitano Nemo quando il 27 mattina entrò nel salone con la solita aria di chi vi abbia lasciato cinque minuti fa Stavo ricostruendo sul planisfero la rotta del Nautilus Il capitano si avvicinò mise un dito su un punto della carta pronunciando questa parola Vanicoro Il nome ebbe per me una magia sugli isolotti di Vanicoro erano andati a perdersi i vascelli di Lepereuse Mi alzai di colpo Il Nautilus ci porta a Vanicoro? domandai Sì, professore rispose il capitano E potrò visitare le famose isole dove naufragarono la bussole e l'astrolabe? Se li è gradito signor professore Quando arriviamo a Vanicoro? Ci siamo signor professore Col capitano salì in piattaforma e miei sguardi percorsero avidamente l'orizzonte A nord-est emergevano due isole vulcaniche di ineguale grandezza circondate da una barriera corallifera estesa per 40 miglia Ci stava dinnanzi Vanicoro e precisamente il porticciolo naturale di Vanu L'isola appariva coperta di verde dalla spiaggia fino alle cime dell'interno al dominante monte Capogo alto 476 tese Il Nautilus dopo aver attraversato la cinta di rocce per lo stretto canale si trovò all'interno dei frangenti Qui il mare aveva una profondità di 30 o 40 braccia All'ombra verdeggiante dei paletuvieri vidi alcuni selvaggi e si mostrarono estremamente sorpresi dalla nostra apparizione Nel lungo corpo nerastro che avanzava a fior d'acqua scorgevano forse un terribile insidioso cetaceo? Mi veniva domandato intanto dal Capitano Nemo che cosa sapessi del naufragio di La Perouse Quel che ne sanno tutti Capitano risposi E potreste insegnarmelo? Egli disse in tono un po' ironico È facile! Gli narrai quel che avevano reso noto gli ultimi lavori di Dumont d'Orville Ecco nel riassunto molto succinto La Perouse e il suo secondo Capitano dell'Angle furono mandati da Luigi XVI nel 1785 a compiere un viaggio di circomnavigazione Comandavano le due corvette la Bussol e l'Astrolabe che non tornarono mai più Nel 1791 il governo francese giustamente inquieto sulla sorte delle due corvette armò due grandi trasporti della flotta La Recherche e l'Espérance che lasciarono Bré il 28 settembre sotto il comando di Bruny d'Entrecaste Due mesi dopo si veniva a sapere dalla deposizione di un certo Bowen comandante dell'Abermal che i relitti di naufragio erano stati avvistati sulle coste della Nuova Georgia Ma d'Entrecaste ignorando questa comunicazione fra l'altro molto incerta puntò sulle isole dell'ammiragliato indicate dal capitano Hunter come il luogo del naufragio di La Pereuse Le ricerche furono vane L'Espérance e la Recherche passarono anche in vista di Vanicoro senza fermarsi e tutto sommato il viaggio fu sfortunatissimo poiché costò la vita ad Entrecaste a due dei suoi ufficiali e a diversi marinai Fu un vecchio lupo di mare del Pacifico il capitano Dillon a scoprire per primo sicure tracce dei naufraghi Il 15 maggio 1824 la sua nave la St. Patrick passò vicino a Ticopia un'isola delle Nuove Ebridi Un indigeno che aveva accostato la sua piroga vendetta al capitano un'elsa di spada d'argento che portava l'impronta di caratteri incisi col bulino L'indigeno sosteneva inoltre di aver visto sei anni prima durante il soggiorno a Vanicoro due europei appartenenti agli equipaggi di navi naufragate da molti anni sulle scogliere dell'isola Dillon intuì che si trattava delle navi di Laperose la cui scomparsa aveva tanto commosso il mondo volle fare scalo a Vanicoro dove secondo l'indigeno erano rintracciabili numerosi rottami del naufragio ma i venti e le correnti glielo impedirono Dillon tornò a Calcutta seppe interessare alla propria scoperta la società asiatica e la compagnia delle Indie una nave cui fu dato il nome di Recherche fu messa a sua disposizione ed egli partì il 23 gennaio 1827 accompagnato da un agente del governo francese la Recherche fece scalo in vari punti del Pacifico gettò infine l'ancora davanti a Vanicoro nello stesso porticciolo naturale di Vanu dove il Nautilus entrava mentre parlavo Dillon trovò numerosi resti di naufragio utensili di ferro ancore stroppi di puleggia petriere una palla di cannone da 18 frantumi di strumenti astronomici un pezzo del coronamento di poppa e una campana di bronzo regante questa iscrizione Basin mi ha fatta marchio della fonderia d'arsenale di Brè verso il 1785 un dubbio non era quindi più possibile completando le sue informazioni Dillon rimase sui luoghi fino a ottobre lasciata poi Vanicoro finì per gettare l'ancora a Calcutta il 7 aprile 1828 e di là tornò in Francia dove fu molto simpaticamente accolto da Carlo X ma intanto Dumont d'Urville nulla sapendo del lavoro di Dillon era già partito per cercare altrove il luogo del naufragio dai rapporti di un baleniere si era appreso che medaglie e una croce di San Luigi erano nelle mani dei selvaggi delle Luisiade nella Nuova Caledonia Dumont d'Urville col suo Astrolab due mesi dopo che Dillon aveva lasciato Vanicoro gettava l'ancora davanti a Hobart Town veniva qui a conoscenza dei risultati ottenuti da Dillon e per di più seppe che un certo James Hobbs secondo ufficiale dell'Union di Calcutta sceso a terra su un'isola situata a 8 gradi 18 minuti di latitudine sud e 156 gradi e 30 minuti di longitudine est aveva notato barre di ferro e stoffe rosse in possesso degli indigeni molto incerto e non sapendo quanto fidarsi di narrazioni riportate da giornali poco autorevoli finì tuttavia col decidersi a seguire le tracce di Dillon il 10 febbraio 1828 l'Astrolab arrivava a Ticopia prese come guida un disertore stabilitosi sull'isola e fece rotta a Vanicoro l'avvistò il 12 febbraio costeggiò i suoi frangenti fino al 14 e solo il 20 gettò l'ancora all'interno della barriera nel porticciolo di Vanu il 23 alcuni suoi ufficiali fecero il giro dell'isola trovando rottami poco importanti gli indigeni con un loro sistema di negazioni e sotterfugi si rifiutavano di condurli sul luogo del disastro tale contegno fece sospettare che essi avessero perlomeno maltrattato i naufraghi e infatti sembravano temere che Dumont d'Urville fosse venuto a vindicare l'Apereuse e i suoi sventurati compagni ma il 26 convinti da alcuni regali e intuendo che non avevano da temere rappresaglie gli indigeni condussero al luogo del naufragio il secondo ufficiale Jacques Hineux là sotto quattro braccia d'acqua fra gli scogli Pacu e Vanu giacevano ancore e cannoni pani di ferro e di piombo che le concrezioni calcaree avevano incrostato la scialuppa e la baleniera dell'Astrolab andarono sul luogo non senza grande fatica gli equipaggi riuscirono a estrarre dall'acqua un'ancora di 1800 libre un cannone da otto di ghisa un pane di piombo e due petriere di rame interrogando i nativi Dumont d'Urville seppe anche che l'Aperose dopo aver perduto le sue due navi sui frangenti dell'isola aveva costruito una navicella più piccola per andare a perdersi una seconda volta dove? nessuno poteva dirlo il capitano dell'Astrolab fece allora costruire in un boschetto di mangi un cenotafio alla memoria del famoso navigatore e dei suoi compagni una semplice piramide quadrangolare posta su una base di corallo senza nessuna parte metallica che potesse tentare la cupidigia degli indigeni poi Dumont d'Urville voleva partire ma il suo equipaggio aveva preso le febbre di quelle coste insalubri e molto malato lui stesso non poter riprendere il mare fino al 17 marzo intanto temendo che Dumont d'Urville non fosse al corrente del lavoro di Dillon il governo francese aveva mandato a Vanicoro dall'America occidentale la corvetta Bayonet capitano Legorand de Tromolin la Bayonet arrivò a Vanicoro qualche mese dopo la partenza dell'Astrolab non scoprì alcun nuovo segno del naufragio ma fu notato che i selvaggi avevano rispettato il mausoleo di La Perue ecco la sostanza del racconto da me fatta al capitano Nemo e così mi disse non si sa ancora dove si è andata quella terza nave costruita dai naufraghi a Vanicoro non se ne sa nulla il capitano Nemo senza parlare mi condusse nel salone poco dopo il Nautilus si immerse di qualche metro e le imposte si aprirono mi precipitai ai vetri sotto le incrostazioni coralline e altri rivestimenti fra miriadi di pesci notai alcuni rottami che i dragatori non avevano potuto riportare alla superficie staffe di ferro ancore cannoni e palle da cannone una guarnizione d'argano un dritto di prua tutte cose provenienti dalle navi naufragate e ora tappezzate di fiori viventi mentre io guardavo questi tristi rottami il capitano Nemo disse con voce grave il capitano Lepreuse partì il 7 dicembre 1785 con le sue navi la Bussole e l'Astrolabe approdò prima a Botany Bay visitò l'arcipelago degli Amici e la Nuova Caledonia fece rotta su Santa Cruz e fece scala a Namuca una delle isole del gruppo Apai poi le sue due navi giunsero sulle sconosciute scogliere di Vanicoro la Bussole che precedeva si incagliò sulla costa meridionale l'Astrolabe le venne in aiuto ma ebbe la stessa sorte il primo dei due bastimenti si sfasciò quasi subito il secondo incagliato sotto vento resistette qualche giorno i nativi fecero i naufraghi accoglienze abbastanza buone questi si installarono sull'isola e con i rottami delle due navi ne costruirono una più piccola alcuni marinai rimasero volontariamente a Vanicoro gli altri debilitati malati partirono con l'Aperose fecero rotta sulla Salamon e si persero corpo e beni sulla costa ovest dell'isola principale del gruppo fra il capo delusione e il capo soddisfazione e come lo sapete esclamai ecco ciò che ho trovato sul luogo di quest'ultimo naufragio il capitano mi mostrò una scatola di latta col sigillo delle armi di Francia tutta corrosa dall'acqua salata l'apri vidi un fascio di carte ingiallite ma ancora leggibili erano le istruzioni del ministro della marina al comandante L'Eperose annotate in margine da Luigi XVI ah una bella morte per un marinaio disse il capitano Nemo è una tomba molto tranquilla questa di corallo e voglia il cielo che i miei compagni Dio non ne abbiamo una diversa 20 lo stretto di torres nella notte dal 27 al 28 dicembre lasciamo i paraggi di Vanicoro a gran velocità la rotta era per sud-ovest e in tre giorni Naudilus percorse le 750 leghe che separano il gruppo di L'Aperose dalla punta sud-est della Papuasia il primo gennaio 1863 Consail mi raggiunse sulla piattaforma il signore disse mi permette di augurargli il buon anno? come no Consail esattamente come se mi trovasse a Parigi nel mio ufficio al Jardin des Plants accetto i tuoi auguri e te ne ringrazio soltanto ti domando cosa intendi per buon anno nelle circostanze in cui ci troviamo è l'anno che porterà alla fine la nostra prigionia oppure un anno che lascerà continuare questo strano viaggio parola mia rispose Consail non so che dire al signore senza dubbio vediamo cose fuori dall'ordinario e in questi due mesi non si è avuto il tempo di annoiarci l'ultima meraviglia è sempre la più sbalorditiva e se dura questo progresso non so come andrà a finire penso che non ritroveremo mai un'occasione simile mai Consail inoltre il signor Nemo che giustifica molto bene il suo nome latino ci dà tanto fastidio quanto ce ne darebbe se non esistesse affatto proprio come dici Consail e allora se il signore permette penso che un buon anno sarebbe quello che ci permettesse di vedere tutto tutto Consail sarebbe forse troppo ma Ned Land cosa ne pensa? esattamente il contrario di me è uno spirito positivo e ha uno stomaco imperioso sempre guardare mangiare sempre pesci non gli basta la mancanza di vino di pane di carne non piace a un degno sassone che ha l'abitudine delle bistecche e che il brandy e il gin presi in quantità moderata non spaventano per conto mio Consail non è questo che mi tormenta e col regime di bordo mi trovo benissimo anch'io rispose Consail penso a rimanere quanto Mastro Lenda a fuggire dunque l'anno se non sarà buono per me lo sarà per lui e viceversa ci sarà sempre qualcuno di soddisfatto per concludere auguro al Signore ciò che gli piaccia grazie Consail ti chiedo solo di rimettere a più tardi la questione dei regali e provvisoriamente sostituirli con una buona stretta di mano non ho altro da offrirti il Signore non è mai stato così generoso rispose Consail e su queste parole andò a imboccare la scala il 2 gennaio avevamo percorso 11.340 miglia cioè 5.250 leghe dal nostro punto di partenza nei mari del Giappone dinnanzi allo sperone del Nautilus si estendevano gli insidiosi paraggi del Mar dei Coralli verso la costa australiana di nord-est la nostra nave distava qualche miglio dal temibile banco su cui per poco non andarono a perdersi le navi di Cook il 10 giugno 1770 quella direttamente comandata da Cook urtò in una roccia corallifera e se non affondò lo dovette solo a questa circostanza il pezzo di corallo strappato dall'urto restò conficcato nello scafo desideravo moltissimo visitare la scogliera sommersa per 360 leghe contro la quale un'onda sempre lunga si frange con un'intensità formidabile evocando il rombo del tuono ma i piani inclinati del Nautilus ci trascinavano nel profondo e non potei vedere nulla di quelle muraglie coralligene unica rivincita i nuovi esemplari di pesci raccolti dalle nostre reti poco prima fornirono alla nostra tavola una carne assai delicata tra i molluschi e zoofiti trovai nelle maglie della traina vari tipi di alcionari ricci di mare martelli speroni quadranti cerite ialle la flora era rappresentata da certe belle alghe galleggianti laminarie e macrociste impregnate da una mucillagine che traspariva dai pori e tra esse colsi un ammirevole nemastomage linearoide classificata subito come una piccola gemma del museo due giorni dopo la traversata del mar dei coralli il 4 gennaio avvistammo le coste della Papuasia il capitano Nemo mi rivelò allora che intendeva passare nell'oceano indiano per lo stretto di Torres la comunicazione si limitò a questo Ned mormorava con piacere che la rotta ci avvicinava ai mari europei lo stretto di Torres è ritenuto non meno pericoloso per gli scogli di cui è irto che per i selvaggi abitanti delle sue rive divide dalla nuova Olanda la grande isola della Papuasia chiamata anche Nuova Guinea quest'ultima è lunga 400 leghe con una superficie di 40.000 leghe geografiche a mezzogiorno mentre il secondo rivelava l'altezza del sole scorsi i monti Harfax formati da piani successivi e coronati da pochi picchiaguzzi la Papuasia scoperta nel 1511 dal portoghese Francisco Serrano fu visitata poi successivamente da Don José de Menezes nel 1526 da Grijalva nel 1527 dal generale spagnolo Alvar de Saavedra nel 1528 da Huigo Artez nel 1545 dall'olandese Schutten nel 1616 da Nicholas Ruyk nel 1753 da Tasman Dampier Fumet Carteret Edwards Bougainville Cook Forrest e McClure e Dentrecastè nel 1792 il Nautilus si presentò dunque all'ingresso del più temibile stretto dal globo con il quale i più arditi navigatori a stento osano misurarsi lo stretto che Louis Pade Torre affrontò tornando dai mari malinesiani del sud e in cui le corvette incagliatesi di Dumont d'Orville stavano nel 1840 per perdersi corpo e beni il Nautilus stesso estraneo in genere ai pericoli del mare avrebbe dovuto guardarsi dalle scogliere coralline lo stretto di Torres raggiunge in ampiezza circa 34 leghe ma è quasi ostruito da un'enorme varietà di isole e isolotti rocce frangenti che lo rendono poco meno che impraticabile quindi il capitano Nemo prese tutte le precauzioni del caso il Nautilus galleggiando a fior d'acqua teneva un'andatura moderata l'elica come la coda di un cetaceo batteva i flutti lentamente approfittando della situazione i miei due compagni e io avevamo preso posto sulla piattaforma deserta davanti a noi stava la gabbia del timoniere e se non sbagliavo il capitano Nemo doveva essere là dentro a dirigere personalmente il suo battello avevo sotto gli occhi alcune carte eccellenti dello stretto dovuta all'ingegnere idrografo vincenton du Moulin e al guardia marina coupe van de Beau oggi ammiraglio che avevano fatto parte dello stato maggiore di Dumont d'Urville nel suo ultimo viaggio circunnavigatorio con quelle del capitano King sono le migliori carte relative allo stretto e io le consultavo con scrupolosa attenzione intorno al Nautilus il mare ribolliva furiosamente la corrente muovendo da sud-est a nord-ovest con una velocità di due miglia e mezza veniva a frangersi sui coralli le cui punte emergevano a tratti ecco un mare detestabile davvero risposi è molto inadatto a una nave come il Nautilus questo dannato capitano deve essere ben sicuro della rotta aggiunse il canadese vedo certi ammassi di corallo che ridurrebbero il suo scafo in pezzi solo a sfiorarli la situazione era infatti pericolosa ma il Nautilus pareva scivolare per incanto fra tutti quei vortici non seguiva esattamente la rotta dell'Astrolab e della Selee fatale ad Urmondurville aveva preso più a nord costeggiò l'isola Murray tornando poi a sud-est verso il passaggio di Cumberland pensavo che lo imboccasse senz'altro quando rimessa la prua a nord-ovest attraversò una miriade di isole isolette malnote dirigendosi verso la Tonde e il canale cattivo mi domandavo se il capitano Nemo divenuto incauto fino alla pazzia volesse sfidare il passaggio nel quale si incagliò Durmondurville ma cambiando un'altra volta la rotta e puntando dritto a ovest si avvicinò all'isola Gueborar erano le tre pomeridiane i flutti rompevano la marea era quasi al massimo il Nautilus si accostava a quell'isola che vedo ancora tutta urlata di Pendanus stava a meno di due miglia quando un urto mi gettò a terra il battello aveva preso di striscio uno scoglio e restò poi fermo sbandato leggermente a sinistra quando mi rialzai vidi in piattaforma il capitano Nemo col secondo esaminavano la situazione scambiandosi qualche parola nella loro incomprensibile lingua ecco all'incirca la situazione due miglia a dritta stava l'isola Gueborar curva da nord a nord ovest come un braccio lunghissimo verso sud e ad est apparivano già numerosi coralli che il deflusso via via lasciava allo scoperto ci eravamo incagliati durante l'alta marea più sviluppata e in una zona le cui maree sono mediocri circostanza negativa per la liberazione del Nautilus questo non aveva sofferto danni tanto saldo era il suo scafo ma se non poteva affondare né spaccarsi c'era il grosso pericolo di restare per sempre nella presa di quegli scogli e allora sarebbe stata finita per il sottomarino del capitano Nemo a un certo punto il capitano freddo e calmo sempre padrone di se stesso si avvicinò mostrandosi neppur contrariato un accidente gli dissi no un incidente rispose ma un incidente che vi obbligherà forse a tornare su quella terraferma a voi odiosa mi guardò con un'aria bizzarra e fece segno di no era già dirmi abbastanza che nulla poteva toglierlo dal mare aggiunse Aronax il Nautilus non si trova in perdizione vi porterà ancora fra le meraviglie dell'oceano il nostro viaggio è appena al suo inizio e non desidero perdere tanto presto l'onore della vostra compagnia però capitano obbiettai senza rilevare quel linguaggio ironico il Nautilus si è incagliato durante la piena marea nel Pacifico le maree non sono forti e se non alleggerite il battello cosa che mi sembra impossibile non vedo come si possa liberare le maree del Pacifico non sono forti avete ragione signor professore egli rispose ma nello stretto di Torres i livelli per l'alta e bassa marea differiscono ancora di un metro e mezzo oggi è il 4 gennaio e fra 5 giorni sarà luna piena mi stupirebbe che questo compiacente satellite rinunciasse a sollevare abbastanza le presenti masse d'acqua non mi rendesse un servigio che volentieri dovrò a lui solo ciò detto il capitano Nemo ridiscese col suo secondo all'interno del Nautilus quanto al battello se ne stava fermo come se i polipi corallini l'avessero già murato nel loro indistruttibile cemento e allora signore mi domandò Ned Land avvicinandosi dopo che il capitano se ne fu andato eh caro amico tranquillamente aspetteremo la marea del giorno 9 sembra che la luna vorrà disincagliarci tutto qui? tutto qui e il nostro capitano non getta le ancore a largo? non manda la sua macchina tutta forza cercando il possibile per disincagliarsi? basterà ben la marea rispose calmo calmo con sail Ned Land guardandolo alzò le spalle era il marinaio ad esprimersi in lui signore replicò potete credermi questo pezzo di ferro mai navigherà ancora né sopra né sotto i mari lo si può solo vendere a peso immagino dunque è venuto il momento di tagliare la corda con buona pace del capitano Nemo amico Ned risposi non dispero come voi su questo ottimo Nautilus fra alcuni giorni sapremo che idea farci delle maree del pacifico d'altra parte l'idea di fuggire sarebbe pur apprezzabile se fossimo vicino all'Inghilterra o alla Provenza ma accanto alla Papuasia la cosa è ben diversa ci penseremo se il Nautilus non riesce a riprendersi faccenda grave anche per noi se vedo bene ma non si può almeno un poco assaggiare questa terra mormorava Ned Land ecco un'isola sull'isola degli alberi sotto gli alberi degli animali terrestri portatori di cotolette e roast beef darei loro con gioia qualche morso Will amico Ned ha ragione disse Consail e io mi unisco alla sua tesi non potrebbe il signore ottenere dal capitano Nemo un viaggetto fino a terra almeno per onorare l'abitudine di calpestare il nostro pianeta sulle parti solide posso chiederlo risposi ma lui non vorrà che il signore ci provi insistette Consail e sapremo poi che cosa pensare della gentilezza del capitano con mia grande sorpresa il capitano Nemo diede il permesso che gli chiedevo lo fece con molta buona grazia e premura senza neppure indurmi a promettere il ritorno a bordo ma una fuga attraverso la nuova guinea sarebbe stata pericolosissima non avrei mai consigliato a Ned Land di tentarla meglio restare prigionieri del Nautilus che venire catturati dagli indigeni della Papuasia fu messo a nostra disposizione il canotto per l'indomani mattina non cercai di sapere se il capitano ci accompagnava pensai anzi che non sarebbe venuto con noi nessuno dell'equipaggio e che a guidare il canotto avrebbe provveduto il solo Ned Land infine la terra stava tutta al più a due miglia di distanza ed era uno scherzo per il canadese destreggiarsi con quel leggero canotto fra gli scogli fatali alle navi l'indomani mattina 5 gennaio fu messo in mare il canotto dall'alto della piattaforma due uomini bastarono per l'operazione i remi erano già nella barca e non ci restava altro che scendervi armati di fucili e di asce lasciammo il nautilus alle 8 il mare era abbastanza calmo una brezza lieve soffiava da terra con Seile e io vogavamo con forza Ned manovrava il timone negli stretti passaggi che i frangenti lasciavano aperti la barca era maneggevole e filava veloce Ned non riuscì a contenere la sua gioia si sentiva un prigioniero evaso era lontano da ricordarsi che bisognava poi tornare in prigione della carne ripeteva mangeremo carne e che carne vera selvaggina niente pane lo so ma non dico che il pesce sia cattivo o tutt'altro soltanto bisogna non abusarne e un pezzo di selvaggina fresca alla griglia su un bel fuoco offrirà un piacevole cambiamento ai nostri palati goloso postillava con Seile fa venir la collina in bocca anche a me resta da vedere se queste foreste sono ricche di selvaggina disse io e se la selvaggina non è tale da poter cacciare lei il cacciatore per dinci signora Arronax rispose Ned i cui denti sembravano affilati come il taglio di un'ascia io mangerei anche della tigre lombata di tigre se in quest'isola non ci fosse altro quadrupede l'amico mi inquieta obiettava con Seile di qualunque specie sia ripresa Ned Land qualunque animale a quattro zampe senza penne o a due zampe con penne lo saluterò col mio primo colpo di fucile bene feci io ecco che Mastro Land ricomincia con le imprudenze non temete signor Arronax egli rispose e forza coi remi chiedo solo venticinque minuti per offrirvi un piatto a modo mio mezz'ora dopo la partenza il canotto si arenava con dolcezza su una spiaggia sabbiosa aveva superato felicemente l'anello corallifero che circonda l'isola di Geborar ventuno qualche giorno a terra nel toccare terra provai una viva emozione e Ned Land col piede tastava il suolo come per prenderne il possesso pur soltanto da due mesi eravamo secondo l'espressione del capitano Nemo passeggeri del Nautilus ossia in realtà prigionieri del suo comandante ci portammo in qualche minuto a un tiro di fucile dalla riva il suolo era quasi tutto madreporico ma il letto di certi torrenti disseccati con sfasciumi granitici mostrava che l'isola era ad attribuire a una formazione primordiale l'orizzonte si nascondeva dietro un'ammirevole cortina di foreste alberi enormi la cui altezza giungeva anche a duecento piedi erano collegati l'un l'altro da ghirlande di liane vere amache naturali che ondeggiavano nella brezza leggera erano alberi di mimosa ficus casuarine e tec ibischi pendani palmizi mescolati a profusione e sotto la loro volta verdeggiante ai piedi dei loro tronchi giganteschi c'erano orchidee piantine leguminose e felci senza nemmeno badare a tutti quei bei campioni di flora papousiana il canadese lasciò il dilettevole per l'utile scorse un albero da cocco e ne abbatteva rifrutti li ruppe bevemmo il loro latte e masticammo le loro mandorle con una soddisfazione anche protestataria verso il regime alimentare del nautilus eccellente diceva ned land squisito precisava con sail e non credo che il vostro nemo vorrà opporsi se a bordo portiamo un carico di noci di cocco non lo credo neppure io risposi ma quanto a mangiarne peggio per lui asserì con sail e tanto meglio per noi ribatteva ned land ne avremo di più solo una parola mastro land dissi al fiociniere che intendeva saccheggiare un altro albero di cocco il cocco è buono e va bene ma prima di riempirne il canotto mi sembrerebbe giusto vedere se l'isola non produce cose altrettanto utili dei legumi freschi sarebbero ben accolti nella cucina del nautilus il signore ha ragione disse con sail e propongo che si riservino tre posti nella nostra barca uno per la frutta un altro per i legumi e il terzo per la selvaggina di cui finora non ho intravisto neppure il più magro esemplare con sail non bisogna mai disperare replicò ned seguitiamo la nostra escursione aggiunsi ma tenendo gli occhi ben aperti benché sembri disabitata l'isola può ospitare individui meno esigenti di noi sulla natura della selvaggina fece ned land con un movimento di mascelle tutt'altro che incongruo e allora ned esclamò con sail perbacco rispose comincio a valutare gli incauti dell'antropofagia ned ned che mi salta in mente bofonchiava con sail voi antropofago ma io dormo nella stessa cabina mi sveglierò mezzo divorato un giorno all'altro amico mi piacete ma non abbastanza per mangiarci senza stretto bisogno non mi fido a caccia a caccia bisogna uccidere qualche bestia selvaggia appagando il cannibale o una di queste mattine il signore troverà appena dei brandelli del suo domestico mentre si scambiavano tante piacevolezze avanzavamo fra gli imponenti alberi della foresta e per due ore la percorremmo in lungo e in largo il caso aiutò per prima la nostra ricerca di vegetali commestibili uno tra i più utili alberi dei tropici ci fornì un elemento essenziale che a bordo mancava dico l'albero del pane abbondantissimo nell'isola Gueborar notai soprattutto quella varietà sprovvista di semi che i malesi chiamano rima si distingueva per un tronco diritto alto 40 piedi la cima graziosamente rotonda e con grandi foglie multilobate segnalava abbastanza per un naturalista l'artocarpus che venne felicemente naturalizzato nelle isole mascarene dalla sua massa verde si staccavano grandi frutti globulari larghi un decimetro provvisti all'esterno di rugosità che avevano una disposizione ad esagono è un albero che senza esigere cure dà frutti per otto mesi l'anno ned land li conosceva bene tali frutti ne aveva mangiati nei molti suoi viaggi ed era esperto del prepararne una sostanza commestibile la loro vista lo eccitò che io muoia se non assaggio un po' di quella pasta mi disse assaggiate amico ned assaggiatene quanto volete non siamo qui per fare esperienze facciamole me la sbrigo in fretta rispose e armatosi d'una lente accese un fuoco di legna secca che scoppiettava allegra con Seil e io sceglievamo intanto i migliori frutti dell'artocarpus alcuni non avevano raggiunto buon grado di maturità e la loro pelle spessa ricopriva una polpa bianca ma scarsa di fibra altri numerosissimi gelatinosi e giallastri non aspettavano che d'essere colti i frutti non racchiudevano alcun nocciolo con Seil ne portò una dozzina ned land che dopo averli tagliati a grosse fette li mise su un fuoco di braci e continuava intanto a ripetere sentirete sentirete quanto è buono questo pane tanto più quando il pane è mancato per molto tempo disse con Seil non è più neppur pane è un pasticcio finissimo voi signore non ne avete mangiato mai no mio caro ned e allora preparatevi a mandar giù una leccornia se non ne vorrete ancora e ancora ho finito ad essere il re dei fiucinieri la parte dei frutti esposta al fuoco fu poco dopo completamente carbonizzata all'interno appariva una pasta bianca quasi una tenera mollica al sapore ricordava il carciofo bisogna ammetterlo era un pane buonissimo e ne mangiai con trasporto purtroppo dissi una pasta del genere non si può tenerla fresca credo sia inutile farne una provvista come sarebbe a dire professore esclamò Ned Land voi parlate da naturalista ma io lo farò da panettiere con Seil raccogliete un bel mucchio di questi frutti li prenderemo tornando e come li preparerete domandai facendo della polpa una pasta fermentata che si conserverà indefinitivamente senza guastare quando vorremmo goderne la farò cuocere nella cucina di bordo e nonostante che il gusto sia un po' acido vi sembrerà ottima allora Mastro Ned vedo che a questo pane non manca nulla signor professore gli manca un po' di frutta o almeno qualche legume ultimato il raccolto tornammo a voler completare questo pasto terrestre le ricerche non furono inutili verso mezzogiorno avevamo fatto un'ampia provvista di banane nella zona torrida maturano tutto l'anno e i malesi che hanno dato loro il nome di pisang ne mangiano senza farle cuocere insieme a quelle banane cogliemmo dei yaks enormi di sapore molto forte gustosi manchi e ananassi di inverosimile grossezza ma nella raccolta spendemmo gran parte del nostro tempo non avemmo comunque motivo di rimpiangerlo consail teneva ned sempre d'occhio il fiociniere camminava avanti e perlustrando la foresta sceglieva con mano sicura i frutti che dovevano arricchire il carico adesso domandò consail non vi manca più nulla amico ned mmm fece il canadese come vi lamentate tutti questi vegetali non possono formare un pasto servono a terminarlo ma dov'è la minestra e l'arrosto già dissi ned ci aveva promesso cotolette mi sembrano terribilmente problematiche signore rispose il canadese la caccia non solo non è finita ma nemmeno è cominciata un po' di pazienza finiremo bene con l'incontrare qualche animale di piuma o pelo se non qui da altre parti e se non oggi domani aggiunse consail perché non dobbiamo allontanarci troppo io anzi propongo di tornare al canotto come di già esclamava ned dobbiamo tornare a bordo prima di notte dissi io ma che ora è fece ned almeno le due come passa presto il tempo in terraferma sospirò mastro ned land in cammino rispose consail torniamo dunque per la foresta e integrammo il nostro raccolto mediante una razzia di cavoli palmisti che bisogna andare a cogliere in cima agli alberi di piccoli fagioli in cui riconobbi gli abrus dei malesi e di gnami notevolissimi eravamo sovraccarichi quando arrivamo al canotto ma ned land non considerava ancora sufficiente la provvista il destino lo favorì scorse nel momento di imbarcarsi vari alberi alti da 25 a 30 piedi della specie dei palmizi non meno che l'artocarpus sono considerati fra i migliori prodotti della malesia erano alberi del sagù che crescono senza esigere coltivazione riproducendosi come i gelsi con i loro polloni e i loro semi ned sapeva come trattare questi alberi prese l'ascia e maneggiandola energicamente ne ebbe presto abbattuti due o tre ben maturi lo si riconosceva dalla polvere bianca sulle loro palme io lo guardavo lavorare mi sentivo gli occhi di un naturalista non di un uomo affamato incominciò col togliere da ogni tronco una striscia di corteccia dello spessore di un pollice che aveva in sé una rete di lunghe fibre innistricabili e congiunta da una specie di farina gommosa questa farina era appunto il sagù sostanza che costituisce l'alimento principale delle popolazioni melanesiane ned land per il momento si accontentò di tagliare a pezzi quei tronchi come avrebbe fatto con la legna da ardere per estrarne la farina più tardi setacciarla togliendo i legamenti fibrosi farne evaporare l'umido al sole e lasciarla indurire in appositi stampi finalmente alle cinque pomeridiane carichi di tutte le nostre ricchezze lasciavamo l'isola e mezz'ora dopo raggiungevamo il nautilus nessuno si mostrò l'enorme cilindro di lamiera pareva deserto trasbordate le provviste scesi nella mia camera vi trovai pronta la cena mangiai e mi coricai per dormire l'indomani mattina 6 gennaio nulla di nuovo a bordo dall'interno non un rumore non un segno di vita il canotto era rimasto là dove l'avevamo ormeggiato decidemmo di tornare sull'isola ned sperava ad essere più fortunato come cacciatore del giorno prima e voleva conoscere meglio la foresta al sorgere del sole eravamo in navigazione la barca presa dal flusso che portava verso terra toccò l'isola dopo pochi minuti sbarcammo e affidandoci al suo istinto seguimmo ned land le cui lunghe gambe minacciavano di lasciarci molto indietro risalì il pendio verso ovest poi attraversando vari letti di torrente raggiunse l'altopiano contornato da splendidi boschi più di un martin pescatore vedemmo nei dintorni ma non si lasciavano avvicinare la loro circospezione mi fece intendere che sapevano giudicare i bipedi della nostra specie e ne trassi la conclusione che se non abitata l'isola era perlomeno frequentata da esseri umani percorsa una fertile prateria si arrivò a un boschetto animato dai canti e dai voli di moltissimi uccelli sempre uccelli e basta disse con sale ma ce n'è di quelli che si mangiano rispose il fiociniere nessuno caro Ned dato che si tratta di pappagalli amico rispose gravemente Ned il pappagallo è il fagiano di chi non ha altro da mangiare e aggiungerò disse io che ben cucinato vale colpi di forchetta effettivamente una moltitudine di pappagalli volteggiava là di ramo in ramo aspettando solo un'educazione ulteriore per esprimersi in qualche lingua umana ora schiammazzavano insieme a cocorite di tutte le tinte a gravi cacatoa dall'aria filosofica mentre dei colori intensamente rossi passavano come lembi di seta trascinati dal vento fra i calai dal volo rumoroso i papua dipinti con le più fini sfumature d'azzurro e altri volatili graziosissimi ma in genere anche loro poco appetibili un uccello tipico di quelle terre e che di volontà sua è sempre esclusivamente vissuto nelle isole di Haru o nelle isole di Papua mancava alla collezione ma fra poco una buona sorte doveva lasciarmelo ammirare dopo un bosco ceduo avevamo ritrovato una pianura sparsa di cespugli qui vidi levarsi a volo bellissimi uccelli che la disposizione delle piume lunghe obbligava a dirigersi contro il vento il loro volo ondulato la grazia delle loro traiettorie e curve lo sfaviglio cangiante delle tinte attraeva e incantavano lo sguardo non faticai a riconoscerli uccelli del paradiso dissi forte ordine dei passeracei sezione dei glistomori aggiunse con sale famiglia delle pernici domandò ned non credo mastro land ma conto sulla vostra abilità per non lasciarci scappare una di quelle meraviglie ci proverò signor professore quantunque io sia abituato a manneggiare l'arpione più che il fucile i malesi che di questi uccelli fanno gran commercio in cina per catturarli usano vari metodi che noi non potevamo impiegare tendono a volte dei lacci in cima ai grandi alberi sui cui gli uccelli del paradiso abitano volentieri altre volte ricorrono a un vischio tenace o persino avvelenano le fonti dove essi bevono abitualmente quanto noi dovevamo sparare loro in volo cosa che offriva scarse possibilità favorevoli e infatti consumammo per nulla una parte delle nostre munizioni verso le undici del mattino ci eravamo portati abbastanza in alto nella zona centrale dell'isola e non avevamo ancora messo a segno un colpo la fame ci mordeva i cacciatori si erano fidati della caccia e avevano avuto torto per fortuna un bel momento con Seil con suo immediato stupore fece una coppiola assicurandosi la colazione preso un piccione bianco e un colombaccio spennati in fretta appesi a uno spiedino di fortuna li arrostimmo su un bel fuoco di legna secca mentre questi suggestivi animali cuocevano Ned preparò alcuni frutti dell'artocarpus il piccione e il colombaccio vennero divorati fino alle ossa con elogi vibranti la noce moscata di cui sono ghiotti profuma la loro carne e ne fa un cibo squisito come se le pollanche mangiassero tartufi sentenziò con sale e dunque Ned cosa desiderate ancora domandai selvaggina a quattro zampe signor Arronax tutti questi piccioncini sono appena antipasti piccoli divertimenti da bocca fin quando non avrò ucciso un diretto possessore di cotolette non sarò appagato né io caro Ned se non prendo un uccello del paradiso seguitiamo dunque la nostra caccia e gli disse ma tornando verso il mare siamo all'inizio delle montagne e deve essere meglio andare di nuovo dove ci sono foreste era un parere sensato lo mettemmo in pratica un'ora dopo raggiungevamo un'autentica foresta d'alberi del sagù innocui serpenti fuggivano sotto i nostri passi gli uccelli del paradiso se la battevano al nostro avvicinarsi e io disperavo di riuscire mai a prenderne quando con sale capriva la marcia si chinò di colpo gettando un grido di trionfo e venne a porgermi una magnifica preda ah bravo esclamai il signore è troppo buono e gli rispose ma no ragazzo mio hai fatto un colpo da maestro prender vivo un uccello del paradiso e con le mani se il signore vorrà esaminarlo vedrà che non ho molto merito e perché con sale perché questo galantuomo è ubriaco come una quaglia ubriaco sì signore ubriaco delle noci moscate che stava divorando sotto la pianta dove l'ho preso vedete ned ecco i mostruosi effetti dell'intemperanza per mille diavoli ribatte il canadese tutto il gin che ho bevuto nel nautilus volete proprio rimproverarmelo intanto esaminavo il prigioniero con sei l'aveva ragione l'uccello stordito dal succo inebriante era ridotto all'impotenza non poteva volare ma appena camminare questo non mi inquietava e lo lasciai digerire le sue noci moscate apparteneva alla più bella delle otto specie viventi in papuasia e nelle isole attigue era un uccello del paradiso grande smeraldo tra i più rari misurava tre centimetri di lunghezza testa relativamente piccola occhi molto vicini all'apertura del becco e piccoli anch'essi ma offriva un ammirevole insieme di colori essendo giallo nel becco bruno nei piedi e unghie nocciola nelle ali imporporata all'estremità giallo pallido sulla testa e sulla parte posteriore del collo color smeraldo era la gola bruni marrone il ventre e il petto due reticelle curve ricoperti di pelurie stavano sulla coda prolungata da grandi piume leggere straordinariamente fini l'insieme era degno in tutto di quello che gli indigeni hanno chiamato poeticamente uccello del sole mi auguravo molto di potermi tenere questo superbo esemplare fino a Parigi e regalarlo al giardin de plants che non ne possiede neppure uno vivo è proprio rarissimo domandò il canadese nel tono del cacciatore che poco apprezza la selvaggina come opera d'arte rarissimo mio caro Ned è soprattutto difficile da prendere vivo ma anche morti questi uccelli sono oggetto di un mercato importante ragion per cui i nativi hanno pensato bene di fabbricarne come si fabbricano perle o diamanti cosa? esclamò Consail si producono falsi uccelli del paradiso sì Consail e il signore conosce il metodo d'operato dagli indigeni? a puntino gli uccelli del paradiso durante il monsone da est perdono le magnifiche piume che adornano la loro coda e che i naturalisti chiamano subalarie i falsari diciamo così le raccolgono poi le applicano a qualche misero pappagallino previamente mutilato tingono la sutura verniciano l'uccello e spediscono in Europa i prodotti di questa loro singolare industria bah fece Nedland se non è proprio l'uccello del paradiso le piume sono le sue e non ci vedo granché male dato che non è da mangiare contrariamente ai miei desideri i desideri del canadese in ogni modo non erano soddisfatti per fortuna verso le due egli abbatté un bel maiale boschereccio di quelli che i nativi chiamano bariutang l'animale veniva a proposito per fornirci una buona carne di quadrupede e fu degnamente ricevuto Ned apparì fiero della sua fucilata grazie anche alla capsula elettrica il maiale era caduto stecchito Ned lo scuoiò e lo vuotò mettendo da parte una mezza dozzina di cotolette per la sera poi riprendemmo la caccia che doveva essere ancora onorata da egregie imprese di Ned e di Consail i due amici battendo i cespugli misero in fuga un branco di canguri che balzarono quasi in volo sulle zampe elastiche non abbastanza rapidamente perché le capsule elettriche mancassero di colpirne alcuni ah signor professore gridava Ned Land cui la frenesia del cacciatore dava la testa quale selvaggina specialmente da stufato che provvista per il Nautilus due tre cinque a terra e quando penso che la mangeremo noi tutta questa carne imbecilli là a bordo non ne avranno nemmeno una briciola credo che ebbro di gioia com'era se non avesse parlato tanto Ned sarebbe riuscito a massacrare tutto il branco ottenne comunque una dozzina di quegli stimabili marsupiali eravamo fieri della nostra caccia Ned tutto allegro voleva tornare l'indomani sull'isola incantata a spopolarla dei quadrupidi commestibili ma davvero faceva i conti senza l'oste alle sei eravamo di nuovo sulla spiaggia il canotto era il solito posto come un lungo scoglio il Nautilus emergeva dai flutti a due miglia dalla riva senza por tempo in mezzo il canadese provvida la grande questione della cena era bravissimo nel far arrosti le braciolle di bari utang grigliate sul carbone emanarono ben presto un odore delizioso ma vedo che sto seguendo le orme di quel ghiottone eccomi in estasi per una grigliata di maiale fresco mi si perdoni come io ho perdonato Mastroland e per gli stessi motivi insomma la cena fu magnifica due colombacci rientravano nella straordinaria imbandigione la pasta di sagù e il pane d'artocarpus qualche mango una mezza dozzina di ananas il liquore fermentato di certe nocci di cocco moltiplicarono l'allegria credo che alla fine non tutte le idee dei miei degni compagni avessero la desiderabile chiarezza e se non tornassimo al nautilus stasera domandò con sale se non ci tornassimo mai aggiunse Nedland proprio allora tagliando corto alla proposta del fiociniere una pietra ci arrivò quasi addosso 22 la folgore del capitano Nemo guardammo verso la foresta senza alzarci mi si era fermata la mano nel movimento verso la bocca quella di Ned ultimava il suo lavoro una pietra non cade dal cielo disse con sale o altrimenti bisogna chiamarla aerolito un'altra pietra ben rotonda strappando a con sale un'invidiabile coscia di colombaccio ribadì la sua osservazione ci alzammo tutti e tre con i fucili imbracciati disponendoci a qualsiasi lotta sono scimmie domandò Nedland pressa poco rispose con sale selvaggi al canotto dissi avviandomi bisognava infatti battere in ritirata una ventina di indigeni armati da archi e fionde appariva da un boschetto a cento passi di distanza il canotto era in secca a dieci tese da noi si avvicinavano senza correre gli indigeni ma prodigando manifestazioni ostili pietre e frecce piovevano Ned non aveva voluto lasciare le provviste e nonostante l'urgenza del pericolo scappava reggendo da una parte il suo maiale dall'altra i suoi canguri due minuti dopo eravamo a riva caricarle provviste e le armi sul canotto spingerlo in mare mettere i remi fu questione brevissima e non avevamo ancora fatto due gomene che cento selvaggi urlanti gesticolanti entrarne in acqua fino alla cintola guardavo se la loro apparizione non richiamasse in piattaforma a qualcuno del nautilus ma no l'enorme testuggine ferma al largo restava assolutamente deserta venti minuti e salivamo a bordo i boccaporti non erano chiusi ormeggiato il canotto entrammo nel nautilus scesi al salone dove giungevano accordi il capitano Nemo era là curvo sull'organo come in un'estasi musicale capitano gli dissi non mi udì capitano ripetei toccandolo ebbe un sussulto e voltandosi ah siete voi mi disse e allora avete fatto buona caccia erborizzato con successo si risposi ma disgraziatamente ci siamo trascinati dietro a un branco di bipedi la cui vicinanza mi sembra inquietante quali bipedi dei selvaggi selvaggi rispose il capitano Nemo con ironia e vi stupite signor professore perché su un territorio di questo globo avete trovato dei selvaggi selvaggi dove non se ne trovano ed altronde sono peggiori degli altri questi che voi chiamate selvaggi ma capitano per quanto mi riguarda signore ne ho incontrati dovunque bene risposi ma se non volete riceverli a bordo del nautilus farete bene a premunirvi tranquillizzatevi signore non c'è nulla da temere gli indigeni in questione sono molti quanti ne avete contati un centinaio almeno signora ronax disse il capitano Nemo dopo aver riavvicinato le mani ai tasti dell'organo anche se tutti gli indigeni della Papuasia si fossero dati appuntamento su questa spiaggia il nautilus non avrebbe nulla da temere dai loro attacchi le sue dita ripresero a scorrere sulla tastiera e notai che egli premeva solo i tasti neri la musica ne acquisiva un timbro essenzialmente scozzese ben presto dimenticò la mia presenza tutto immerso in una fantasticheria che rispettai qualche momento dopo ero in piattaforma facevo ormai notte a una latitudine così bassa il sole tramonta in fretta senza crepuscolo non scorgevo se non confusamente l'isola Geborar ma sulla spiaggia molti fuochi dicevano che gli indigeni non avevano intenzione d'andarsene restai là per qualche ora da solo ricordandomi a volte degli indigeni senza timore poiché la fiducia del capitano mi si era comunicata e ammirando la splendida notte tropicale l'animo si involava verso la Francia con le stelle zodiacali che fra qualche ora le avrebbero dato sguardi luminosi verso mezzanotte scesi in cabina mi addormentai alla svelta la notte passò senza incidenti i papuasici dovevano aver paura del mostro incagliato nella baia se no i boccaporti ancora spalancati avrebbero reso lusinghiero e facile l'accesso all'interno del nautilus verso le 6 del mattino 8 gennaio risali in piattaforma le penombre mattinali si dissipavano presto l'isola mostrò chiaramente le sue rive poi si liberarono dalla nebbia le cime delle montagne gli indigeni erano sempre là più numerosi del giorno prima forse 5 o 600 alcuni di loro approfittando della bassa marea erano venuti avanti sui banchi di corallo fino a due gomene dal nautilus li distinguevo facilmente erano degli autentici papù dalla statura atletica uomini di bella razza dalla fronte larga e alta dal naso grosso ma non schiacciato dai denti bianchissimi la capigliatura lanosa tinta di rosso spiccava su un corpo nero e lucente come quello dei nubiani al lobo dell'orecchio tagliato e appiattito pendevano rosari di ossicini questi selvaggi erano generalmente nudi ma notai qualche donna vestita dalle anche alle ginocchia d'una vera crinolina d'erbe appesa a una cintura vegetale certi notabili portavano al collo una mezzaluna e collane di conterie rosse e bianche quasi tutti armati d'arco frecce e scudo tenevano addosso una specie di rete nella quale stavano pietre arrotondate proiettili che le loro frombole usavano scagliare con abilità uno di quei notabili il più vicino al nautilus lo osservava attentamente doveva essere un mado d'alto rango perché si ammantava in una stuoia di foglie di banano dentellata sugli orli e assai variopinta avrei potuto facilmente abbatterlo era ben a portata del mio fucile ma pensai fosse meglio aspettare gli eventi fra europei e selvaggi è utile che gli europei controbattano le azioni ostili ma non attacchino per primi durante tutta la bassa marea gli indigeni si aggirarono in vicinanza del nautilus ma non fecero strepito quel giorno dunque il canotto non si staccò dal nautilus con grandi spiacere di Mastroland impossibilitato a completare le provviste l'abile Ned impiegò il suo tempo nel preparare le carni e le farine provenienti dall'isola quanto i selvaggi tornarono in terraferma verso le 11 del mattino dopo che i banchi di corallo avevano cominciato ricevere il flusso dell'alta marea ma vidi molti nuovi arrivi sulla spiaggia probabilmente dalle isole vicine o dalla Papuasia strettamente detta non avevo però notato piroghe non avendo da far nulla di meglio voglio idragare le belle acque limpide in cui apparivano profusioni di conchiglie zoofiti e piante pelagiche oltretutto era l'ultimo giorno che il nautilus doveva trascorrere in quei luoghi stando almeno alla promessa del capitano Nemo Consail mi portò una draga leggera non molto diversa da quelle che servono alla pesca delle ostriche e i selvaggi? mi domandò non dispiace al signore ma a me non sembrano molto cattivi però sono antropofagi caro figliolo si può essere antropofagi e brave persone replicò come essere golosi e onesti una cosa non esclude l'altra e va bene ti concedo che siano degli antropofagi onesti che divorano i loro prigionieri onestamente ma siccome non amo venire divorato sia pure onestamente mi terrò in guardia visto che il capitano sembra omettere le precauzioni e adesso al lavoro per due ore pescammo alla cremente ma senza catturare nessuna rarità la draga si riempì da orecchie di mida e arpe e melanie e specialmente dei più bei martelli che avessi visto finora prendemmo anche qualche oloturia delle ostriche perlifere e una dozzina di piccole tartarughe ma quando meno me lo sarei aspettato mi imbattei in una meraviglia per meglio dire in una difformità naturale rarissima a trovarsi Consail aveva proprio appena dato un colpo di draga e l'apparecchio risaliva a carico di svariate conchiglie abbastanza comuni quando tutta un tratto mi vide affondare la mano nella rete ed estrarne una conchiglia con un grido da conchigliologo il grido più acuto voglio dire che insorga da un ugulo umana ma che cos'ha signore Consail domandò è stato morso no ragazzo mio ma avrei dato volentieri un dito per la scoperta che ho fatto quale scoperta ecco dissi mostrando la ragione del mio trionfo ma è semplicemente un'oliva porfido genere olive e ordine dei pectini branchi classe dei gasteropodi ramo dei molluschi sì Consail ma invece che da destra a sinistra quest'oliva gira da sinistra a destra possibile e come è una conchiglia sinistrorsa una conchiglia sinistrorsa Consail ripeteva con cuore in tumulto guarda qui la spira ah il signore deve credermi Consail ricevette la preziosa conchiglia con mano tremante non ho mai provato un'emozione simile e c'era di che essere emozionati come osservano notoriamente i naturalisti la destrorsità è una legge di natura gli astri e i loro satelliti nei moti di traslazione di rotazione si muovono da destra a sinistra l'uomo si vale più spesso della mano destra che della sinistra e quindi i suoi strumenti e apparecchi scale serrature molle d'orologio eccetera vengono generalmente impiegati da destra a sinistra la natura segue di regola il medesimo criterio nell'avvolgimento delle sue conchiglie sono destrorse tranne rare eccezioni e se per caso vanno in senso contrario gli amatori le pagano a peso d'oro con Seile Dio eravamo assorbiti nella contemplazione del nostro tesoro mi ripromettevo io di arricchirne il museo quando una pietra scagliata da un indigeno venne malauguratamente a infrangere il prezioso oggetto nelle mani di Con Seile gettai un grido disperato Con Seile slanciatosi sul suo fucile mirò un selvaggio che stava bilanciando la frombola a dieci metri da noi volevo fermarlo ma il colpo partì andando a spezzare il braccialetto di amuleti che adornava l'indigeno Con Seile esclamai a gran voce ebbene non ha visto il signore che quel cannibale ha attaccato per primo una conchiglia non vale una vita gli dissi questo maledetto straccione brontolava Con Seile preferirei che mi avesse rotto una spalla era sincero ma io non la pensavo così intanto da qualche attimo la situazione era cambiata ce ne accorgemmo con ritardo una ventina di piroghe circondava il nautilus queste piroghe scavate nei tronchi d'albero lunghe strette e ben manovrabili si equilibravano mediante un doppio bilanciere di bambù che galleggiava nell'acqua le occupavano abili rematori seminudi e fui molto inquieto nel vederle avanzare chiaramente quei papù avevano avuto rapporti con gli europei conoscevano le loro navi ma del nostro lungo cilindro di ferro steso nella baia senza alberi senza fumaioli cosa dovevano pensare niente di buono certamente ma vedendolo sempre immobile riprendevano fiducia a poco a poco e cercavano di familiarizzarsi con lui proprio la familiarità bisognava impedire le nostre armi cui mancava la detonazione potevano avere solo un effetto mediocre sugli indigeni pieni di rispetto esclusivamente per le macchine rumorose e in verità il fulmine senza il rombo del tuono poco poco spaventerebbe gli uomini benché il pericolo sia nel lampo non nel fracasso le piroghe si avvicinarono al nautilus una nuvola di frecce gli venne addosso diavolo grandina disse con sail e forse è grandine avvelenata bisogna avvertire il capitano dissi infilando il boccaporto scesi nel salone non trovai nessuno mi arrischiai a bussare all'alloggio del capitano Nemo un avanti mi rispose entrando vidi il capitano assorto in un calcolo dove le x e altri segni algebrici abbondavano vi disturbo domandai per la forma certo signora Ronax ma immagino cambiate ragioni serie per cercarmi serissime le piroghe degli indigeni circondano il battello fra pochi minuti verremo senza dubbio assaliti da centinaia di selvaggi ah egli fece con tutta calma sono venuti con le piroghe sì signore ebbene basterà chiudere il boccaporto precisamente e volevo dirvi chiudere il boccaporto è facilissimo schiacciando un bottone elettrico trasmiso un ordine all'equipaggio ecco fatto signor professore mi disse il canotto è al suo posto e il boccaporto è chiuso non avrete paura che questi signori infrangano pareti rimaste illese sotto le cannonate della vostra nave no capitano ma un pericolo resta quale il fatto è che domani a questa stessa ora bisognerà aprire il boccaporto per rinnovare l'aria certamente dato che il nautilus respira come i cetacei se allora i papù sono in piattaforma non vedo come possiate impedir loro di entrare pensate dunque che salgano a bordo non ne dubito ebbene signore che salgano perché impedirglielo in fondo sono poveri diavoli questi papù non voglio che la nostra visita all'isola Geborar costi la vita a neppuruno di loro stavo per ritirarmi ma il capitano mi trattenne invitandomi a sedergli vicino mi chiese notizie sulle nostre escursioni insulari sulle nostre cacce e pareva non comprendere affatto il bisogno di mangiare carne che tormentava il canadese poi la conversazione sfiorò altri temi senza diventar più comunicativo egli risultava più affabile fra l'altro venimmo a parlare della situazione in cui si trovava il Nautilus incagliato proprio nello stretto dove fu sul punto di perdersi Dumont d'Urville e su questo argomento fu uno dei più grandi marinai d'Urville uno dei vostri più intelligenti navigatori diceva il capitano Nemo è stato il Cook francese ma quale disdetta aver sfidato le banchise del Polo Sud i coralli del Pacifico e i cannibali dell'Oceania per morire infine miseramente in un treno se quest'uomo energico ha potuto riflettere negli ultimi istanti di vita lì immaginate i suoi tormentosi pensieri il capitano Nemo pareva commosso segno l'evento al suo attivo poi carta alla mano rintracciamo i percorsi del navigatore francese i suoi viaggi di circumnavigazione il doppio tentativo al Polo Sud che portò alla scoperta delle terre Adelì e Luigi Filippo infine i rilievi idrografici delle principali isole dell'Oceania ciò che Durville ha fatto alla superficie dei mari disse il capitano Nemo io ho potuto farlo dentro all'oceano e più facilmente più ampiamente di lui l'Astrolab e la Sele sballottate senza tregua dagli uragani non valevano il Nautilus tranquillo gabinetto di lavoro un autentico sedentario in mezzo alle acque eppure obiettai c'è qualcosa d'analogo fra le due navi di Dumont d'Urville e il Nautilus quale signore anche il Nautilus si è incagliato il Nautilus non si è incagliato e gli rispose freddamente è fatto anche per starsene quieto sul letto dei mari e le fatiche le complicate manovre che ad Urville impose il disincagliamento delle corvette non mi spettano l'Astrolab e la Sele furono là in punto di morte il Nautilus non corre alcun pericolo domani all'ora stabilita la marea lo solleverà piano piano ed esso riprenderà a navigare non ho dubbi domani riprese il capitano Nemo alzandosi domani alle 2.40 pomeridiane il Nautilus galleggerà e senza avarie lasceremo lo stretto di Torres pronunciate in tono asciutto queste parole fece un leggero inchino era un congedo me ne andai nella mia stanza c'era Consail intendeva sapere il risultato del colloquio mio caro gli dissi quando il capitano mi ha sentito parlare d'una minaccia degli indigeni ha risposto con ironia ho una sola cosa da dirti fidati di lui e va a dormire in pace il signore non ha bisogno di me no amico mio che cosa fa Nedland un pasticcio di canguro alla sua altezza dormi piuttosto male sentivo gli indigeni muoversi in piattaforma e a tratti con grida assordanti l'equipaggio restava inerte quei cannibali non lo impensierivano più di quanto i soldati rinchiusi in un forte si preoccupino delle formiche vaganti sulle pareti blindate alle sei mi alzai il boccaporto non era stato aperto ma i serbatoi carichi per ogni occorrenza funzionavano a dovere e proiettarono alcuni metri cubi d'ossigeno nell'atmosfera impoverita del Nautilus lavorai nella mia stanza fino a mezzogiorno e pareva che a bordo non si facesse alcun preparativo per andarsene dopo un certo indugio mi recai nel salone la pendola segnava le due e mezza fra dieci minuti il flusso doveva raggiungere l'altezza estrema e se il capitano non aveva fatto una promessa temeraria il Nautilus sarebbe stato immediatamente liberato altrimenti solo dopo molti mesi avrebbe potuto lasciare il suo letto di corallo qualche sussulto premonitore si fece infine sentire nello scaffold udivo stridere contro la murata le asperità del fondo corallino alle due e trentacinque il capitano entrò nel salone siamo in partenza disse ah risposi ho dato l'ordine ad aprire il boccaporto e i papù i papù fece il capitano alzando un po' con le spalle non entreranno nel Nautilus ma come dal boccaporto che fate aprire signora Ronax rispose tranquillo il capitano Nemo non si entra quando si vuole dal boccaporto del Nautilus nemmeno quando è aperto lo guardai non capite? mi disse no ebbene seguitemi e vedrete mi avviai verso la scaletta centrale trovai là Nedland e Consail intrigatissimi guardavano gli uomini dell'equipaggio aprire il boccaporto mentre urla di rabbia e vociferazioni terribili risonavano all'esterno i portelli vennero spalancati venti orrende facce si mostrarono ma il primo indigeno che mise le dita sul corrimano della scaletta respinto non so da quale forza invisibile fuggì gridando e saltando in modo frenetico dieci compagni lo avevano seguito ebbero la medesima sorte Consail stava in estasi Nedland trascinato dai propri istinti violenti corsa alla scaletta ma appena ebbe toccato il corrimano egli rimbalzò a sua volta per mille diavoli gridava sono fulminato questa parola mi fu subito rivelatrice non era più un corrimano ma un cavo metallico tutto percorso dall'elettricità di bordo che saliva alla piattaforma toccandolo si era investiti da una formidabile scossa e sarebbe stata mortale se il capitano avesse immesso nella conduttura tutta l'energia dei suoi apparecchi si può dire che un baluardo elettrico separava l'interno del Nautilus dagli aggressori spaventati essi battevano in ritirata e lo spavento diventava terrore noi mezzo ridendo frizionavamo il povero Ned che bestemmiava come un turco proprio allora il Nautilus sollevato dagli ultimi ondeggiamenti del flusso lasciò il letto di corallo era il minuto previsto dal capitano Nemo l'elica batte le acque con una lentezza maestosa il passo si fece poi rapido tenendosi a fiordacqua la nave sottomarina lasciava intatta il pericoloso stretto di Torres 23 egri somnia il giorno seguente 10 gennaio il Nautilus ripresa navigare immerso con una velocità almeno di 35 miglia l'ora i giri dell'elica tenevano un ritmo che superava i miei controlli pensando a quel meraviglioso agente elettrico che dopo averci dato movimento calore e luce aveva fatto da protettore contro gli assalti esterni la mia ammirazione non aveva più limiti e dallo strumento risaliva l'ingegnere che lo aveva prodotto facevamo rotta direttamente a ovest l'11 gennaio doppiamo il capovessel situato a 135 gradi di longitudine e 10 gradi di latitudine sulla punta orientale del golfo di Carpentaria gli scogli restavano numerosi ma erano più sparsi e rilevati sulle carte con la massima precisione il nautilus evitò facilmente sulla sinistra i frangenti di muni lungo il decimo parallelo che seguivamo rigorosamente il 13 gennaio il capitano Nemo avvistava nel mare di Timor l'isola dallo stesso nome ampi a 1625 leghe quadrate l'isola è governata da una dinastia di Rajà questi principi si pretendono figli di coccodrilli discendenti cioè dalla più nobile origine consentita a un essere umano pertanto gli scagliosi antenati abbondano nei corsi d'acqua dell'isola dove godono particolare venerazione ben protetti viziati e adulati dopo varie indigestioni sono loro offerte in pasto delicate fanciulle guai allo straniero minaccioso per queste sacre lucertole ma Timor non fu visibile da noi che per un momento a mezzogiorno mentre il secondo ufficiale ne rilevava la posizione ugualmente potei solo intravedere la piccola isola di Rotti che sta in quel gruppo e le cui donne sono ammiratissime anche sui mercati malesi poi la nostra direzione piegò a sud-ovest la prua fu messa sull'oceano indiano dove ci trascinava ancora la fantasia del capitano Nemo sarebbe risalito verso le coste dell'Asia o tendeva ancora a sfiorare l'Europa intenzioni mal riferibili a un uomo che fuggiva ai continenti abitati sarebbe allora disceso a sud per doppiare il capo di Buona Speranza poi il capo Horn e spingersi fino al polo antartico o intendeva battere nuovamente i suoi mari del Pacifico dove il Nautilus trovava una navigazione facile e libera il futuro l'avrebbe detto passammo gli scogli di Cartier e di Ibernia di Seringa Patam di Scott ultimi elementi soliti contro l'elemento liquido il 14 gennaio eravamo al di là di qualunque terra la corsa del Nautilus venne prepotentemente rallentata e molto capricciosa nei suoi movimenti la nave sottomarina talvolta procedeva in immersione talvolta in superficie durante questo periodo il capitano Nemo fece notevoli esperienze sulle varie temperature marine a diversa profondità nelle condizioni solite questi rilevamenti avvengono per mezzo di strumenti abbastanza complicati i cui referti sono perlomeno dubbi si tratti di sonde termometriche i cui vetri molte volte si rompono sotto la pressione dell'acqua o di apparecchi basati sulla variazione di resistenza dei metalli alle correnti elettriche i risultati così ottenuti non possono essere controllati quanto servirebbe ma il capitano Nemo andava personalmente a misurare le temperature nelle profondità marine e il suo termometro a contatto delle varie zone liquide gli dava subito e con certezza le misurazioni richieste fu così che o sovraccaricando i serbatoi o discendendo per le linee oblique grazie ai suoi piani inclinati il Nautilus raggiunse via via profondità dai 3000 ai 10.000 metri il risultato definitivo degli esperimenti fu che il mare presenta sempre una temperatura di 4 gradi e mezzo alla profondità di 1000 metri sotto qualsiasi latitudine seguì con grande interesse queste ricerche il capitano vi si applicava con una fervida passione mi domandavo d'altra parte a che scopo egli facesse tanti studi a beneficio dei propri simili non era probabile dato che un giorno o l'altro i risultati sarebbero con lui scomparsi in qualche mare ignorato o voleva forse affidarli a me bisognava allora credere in una già ipotecata conclusione del mio strano viaggio conclusione ben lontana adesso dal lasciarsi immaginare comunque sia egli mi comunicò parecchie cifre ottenute in merito al rapporto fra la densità nei diversi mari del globo ne ricavai un insegnamento personale senza contesto scientifico avvenne nella mattina del 15 gennaio il capitano col quale stavo passeggiando in piattaforma mi domandò se conoscevo le varie densità presentate dall'acqua marina gli risposi negativamente e aggiunsi che mancavano al riguardo osservazioni decisive io le ho fatte queste osservazioni mi disse e con garanzia di certezza già risposi ma il nautilus è un mondo a parte i suoi risultati scientifici non arrivano fino a terra avete ragione signor professore ammise dopo un breve silenzio è un mondo a parte è altrettanto straniero alla terra dei pianeti che la accompagnano intorno al sole e nessun uomo conoscerà mai le esperienze scientifiche a cui Giove o Saturno abbiano dato ricetto ma siccome il caso ha legato le nostre vite posso riassumervi le osservazioni fatte qui vi ascolto capitano voi sapete signor professore che l'acqua del mare è più densa dell'acqua dolce ma questa densità non è uniforme infatti se rappresento con uno la densità dell'acqua dolce trovo un 28 millesimo per le acque dell'Atlantico un 26 millesimo per le acque del Pacifico e un 30 millesimo per le acque del Mediterraneo ah pensai il Naudilus si avventura anche nel Mediterraneo decisamente il nostro battello non evitava i mari frequentati dell'Europa e ne conclusi che ci avrebbe ricondotti forse presto verso terre meglio civilizzate una buona notizia per Nedland molte giornate trascorsero in studi ed esperimenti di ogni genere inerenti alla gradazione di salsedine delle acque a profondità diverse alla loro elettrizzazione alla loro colorazione alla loro trasparenza e il capitano Nemo vi dispiegava un'ingegnosità pari soltanto alla cortesia nei miei riguardi poi non lo vidi per alcuni giorni e vissi di nuovo come un isolato a bordo della sua nave il 16 gennaio il Naudilus parve addormentarsi a pochi metri dalla superficie le apparecchiature elettriche non funzionavano l'immobilità dell'elica lasciava regnare il capriccio delle correnti immaginai che l'equipaggio si occupasse di manutenzioni interne qui particolarmente delicate vidi allora con i miei compagni un singolare spettacolo le imposte del salone erano aperte il fanale del Naudilus non dava luce una vaga penombra teneva le acque sotto un cielo tempestoso stavo osservando il mare in quelle condizioni mi apparivano solo i pesci più grossi e come ombre appena delineate quando il Naudilus si trovò all'improvviso trasportato in piena luce avevano dunque acceso il fanale potei riconoscere presto il mio errore fluttuavamo in mezzo a una fosforescenza che l'oscurità di prima ci rendeva abbagliante proveniva da migliaia di animaluzzi luminosi il cui scintillare aumentava lungo lo scafo metallico della nave notavo allora dei lampi fra quelle estensioni luminose come da colate di piombo fuso in una fornace o da masse metalliche portate al color bianco per contrasto varie zone luminose facevano ombra in quell'ambiente igneo da cui ogni ombra pareva dover essere bandita no non era più il calmo irritarsi della nostra solita illuminazione questa aveva un vigore e un movimento insoliti la si sentiva viva era prodotta da un'agglomerazione enorme di infusori pelagici di noctiluche miliarie veri globuli di gelatina di afana con un tentacolo filiforme se ne è potuti contare fino a 25.000 in 30 centimetri cubi d'acqua e la loro luce veniva ancora raddoppiata dai bagliori particolari delle meduse e delle asterie delle aurelie dei folaresdati e di altri zoofiti fosforescenti impregnati dal grasso delle materie organiche decomposte dal mare o anche dal muco che secernano i pesci il nautilus attraversò per ore queste acque brillanti suscitando in noi un'ammirazione estesa ai grossi animali marini che vi giocavano come salamandre in un fuoco che non brucia vidi nuotar marsuini eleganti rapidissimi instancabili clown dei mari e i stiofori lunghi tre metri la cui formidabile spada urtava a volte i cristalli del salone poi mi apparvero pesci più piccoli balestre e sgomberoidi saltatori lupi nasoni cento altri che striavano nella loro corsa l'atmosfera luminosa quale incanto nello spettacolo forse una particolare condizione esterna intensificava il fenomeno un temporale al di sopra di noi ma a pochi metri dalla superficie il nautilus non avvertiva il suo furore e dormiva quieto nelle acque tranquille giorno dopo giorno potevamo dunque incontrare meraviglie Consail osservava e classificava i suoi zoofiti molluschi e pesci il tempo scorreva rapido non ne tenevo più il conto Ned badava a far variare la cucina di bordo proprio da lumache c'eravamo adattati al nostro guscio io dichiaro formalmente che si può diventare una lumaca perfetta vivere così risultava naturale e avevamo dimenticato il diverso modo d'esistere alla superficie terrestre quando un avvenimento ci richiamò alla stranezza delle nostre condizioni il 18 gennaio eravamo a 105 gradi di longitudine e 125 gradi di latitudine sud il tempo era minaccioso il mare duro e agitato soffiava da est un forte vento il barometro continuando ad abbassarsi da qualche giorno diceva prossima una lotta degli elementi ero salito in piattaforma mentre il secondo ufficiale prendeva le misure degli angoli orari come al solito aspettavo la sua frase quotidiana ma quel giorno fu sostituita da un'altra non meno incomprensibile vidi quasi subito apparire il capitano Nemo e puntò il cannocchiale sull'orizzonte rimaneva immobile senza lasciare il punto racchiuso nel suo campo visivo poi abbassò il cannocchiale scambiando col secondo una dozzina di parole questi sembrava preso da un'emozione che in vano cercasse di reprimere l'altro manteneva l'abituale freddezza ma pareva fare al suo ufficiale obiezioni ricevendone in cambio frasi esplicative così almeno credetti dai loro toni e gesti io pure avevo scrutato l'orizzonte nella medesima direzione senza scorgere nulla di allarmante il cielo e l'acqua si univano in una linea perfettamente nitida ora il capitano Nemo andava e veniva da un'estremità della piattaforma all'altra senza guardarmi senza vedermi forse il passo era fermo tuttavia meno regolare del solito ogni tanto si fermava e a braccia concerte osservava il mare che cosa cercava in quell'immenso spazio il Nautilus era a qualche centinaio di miglia dalla costa più vicina il secondo aveva ripreso a guardare nel cannocchiale interrogava l'orizzonte andando in su e in giù battendo il piede con un'agitazione nervosa tutta estranea al comandante del Nautilus ma il mistero doveva chiarirsi e presto su un ordine del capitano la macchina aumentò la potenza propulsiva diede all'elica una rotazione più veloce mentre l'ufficiale richiamava nuovamente l'attenzione del capitano questi sospese il proprio andare e venire fissò nel cannocchiale il punto indicatogli continuava a scrutare più che mai impensierito scesi nel salone e ne tornai con un ottimo telescopio di cui usavo servirmi poi appoggiatolo sulla gabbia del fanale a prua via intendevo percorrere con lo sguardo tutta la linea del cielo e del mare ma il telescopio mi fu violentemente tolto di mano mi voltai il capitano Nemo mi stava accanto con una fisionomia trasfigurata l'occhio pervaso di una cupa fiamma balenava dalle sopracciglia aggrottate i denti erano semi scoperti il corpo rigido i pugni stretti la testa infossata nelle spalle testimoniavano un odio violento non si muoveva il mio cannocchiale cadutogli dalla mano restava dove era avevo forse provocato io questa collera l'incompressibile capitano Nemo sospettava che io avessi visto qualcosa di proibito agli ospiti del Nautilus no l'odio non era direttamente rivolto a me egli infatti non mi guardava teneva gli occhi fissi su un punto dell'orizzonte finalmente tornò padrone di se stesso e la fisionomia riprese l'abituale fermezza dopo aver brevemente parlato all'ufficiale si indirizzò a me signora Ronax disse in tono alquanto imperioso chiedo il rispetto d'uno tra gli impegni che ci legano quale capitano bisogna che vi lasciate rinchiudere voi e i vostri compagni fino a quando giudicherò opportuno restituirvi la libertà voi siete il padrone risposi guardandolo fisso ma posso fare una domanda nessuna signore non potevo che obbedire scesi nella cabina di Ned e con Seil l'informai sulla decisione del capitano lascia immaginare come ruppe il canadese ma il tempo per qualunque spiegazione venne a mancare quattro marinai aspettavano alla porta ci accompagnarono nella cella dove avevamo passato la prima notte a bordo del Nautilus Ned voleva protestare l'uscio gli fu richiuso in faccia il signore mi dirà il significato di tutto questo chiese con Seil raccontai che cosa era accaduto ne rimasero stupiti quanto me e altrettanto poco illuminati a poco a poco sprofondavo in un abisso di riflessioni quella trasfigurata fisionomia del capitano non usciva dal mio pensiero ma ero incapace di connettere idee persuasive mi smarrivo nelle ipotesi più assurde quando Ned venne a dire to la colazione è servita infatti la tavola era stata preparata l'ordine del capitano in questo senso doveva aver coinciso con l'accelerazione della velocità del Nautilus il signore mi permette un suggerimento domandò Consail certo risposi bene il signore faccia colazione è prudente non sappiamo quel che sta per succedere hai ragione Consail purtroppo disse Ned Land ci hanno dato solo il menù di bordo amico replicò Consail preferite forse non mangiare era un tagliar corto alle proteste del fiociniere messici a tavola consumammo il pasto in un relativo silenzio io mangiai poco Consail si sforzò sempre per prudenza e Ned ad ogni buon conto non perso un boccone poi ciascuno si rannicchiò nel suo angolo il globo luminoso della cella si spense lasciandoci in un buio profondo Ned non tardò ad addormentarsi e cosa insolita pure Consail venne invaso alla svelta da un pesante sopore mi domandavo perché quando sentì il mio cervello intorpidirsi rapidamente gli occhi che avrei voluto tenere aperti si chiudevano mio malgrado ero in preda ad un'allucinazione dolorosa certamente qualche sostanza narcotica era stata mescolata ai nostri cibi non bastava dunque la clausura per nasconderci quanto dovevamo ignorare sentì chiudersi il boccaporto le ondulazioni marine che provocavano un lieve rollio cessarono il Nautilus aveva lasciato la superficie era tornato a immergersi volevo resistere al sonno ma fu impossibile la respirazione si indeboliva sentì un freddo mortale gelarmi le membra appesantite e come paralizzate le palpebre caddero sui miei occhi come saracinesche di piombo non potei risollevarle ero vinto da un sonno carico d'allucinazioni poi scomparvero lasciandomi in un annientamento totale ventiquattro nel regno del corallo l'indomani al risveglio avevo la testa ben libera con grande sorpresa mi ritrovavo nella mia stanza gli altri senza dubbio erano stati ricondotti anch'essi nella loro cabina ciò che era accaduto nella notte lo ignoravano come lo ignoravo io e il mistero chissà quando e come poteva diradarsi ma ero proprio libero di spostarmi nella nave come una volta o ancora prigioniero libero del tutto aprì la porta mi incamminai per il corridoio salì la scaletta centrale i portelli chiusi il giorno prima erano aperti arrivai in piattaforma dove Ned e Consail mi aspettavano le interrogai non sapevano niente presi da un greve sonno che non aveva lasciato loro alcun ricordo svegliarsi nella loro cabina li aveva assai meravigliati quanto al Nautilus ci parve tranquillo e misterioso come sempre galleggiava la superficie procedendo a velocità moderata nulla a bordo sembrava cambiato gli occhi penetranti di Ned ispezionarono il mare era deserto il canadese non segnalò all'orizzonte nulla di nuovo né vela né terra una brezza di ponente soffiava con impeto e lunghe onde scapigliate dal vento davano alla nave un sensibilissimo rollio il Nautilus dopo aver rinnovato la provvista d'aria scese e si mantenne a una profondità media di 15 metri così da essere pronto a riemergere rapidamente operazione che contro ogni abitudine fu compiuta più volte durante la giornata del 19 gennaio il secondo ufficiale saliva allora in piattaforma e la solita frase eccheggiava all'interno della nave quando al capitano non riapparve della gente di bordo non vidi che l'impassibile steward mi servì con l'esattezza e il mutismo di sempre verso le due mi trovavo nel salone occupato a riordinare le mie note quando entrò il capitano lo salutai mi rese il saluto appena appena senza parlare mi rimisi al lavoro sperando che mi venisse poi qualche spiegazione dell'accaduto nella notte precedente nulla lo guardai il viso mi sembrava stanco gli occhi arrossati parevano dire che non aveva dormito la fisionomia denotava una tristezza profonda un accoramento andava su e giù per il salone si sedeva si rialzava prendeva a caso un libro e poco dopo lo deponeva consultava gli strumenti omettendo le annotazioni abituali disse a un tratto siete medico signor Aronax così poco mi aspettavo questa domanda che lo guardai senza rispondere siete medico ripete parecchi vostri colleghi hanno studiato medicina gratulier mochintandone altri infatti sono dottore e sono stato interno ad ospedali ho praticato per alcuni anni prima di entrare al museo bene signore la risposta aveva evidentemente soddisfatto il capitano Nemo ma non sapendo dove volesse arrivare aspettai qualche altra domanda riservandomi da accoglierla secondo il caso signora Aronax mi disse il capitano consentireste a curare uno dei miei uomini avete un malato? si eccomi pronto a seguirvi venite confesso che il mio cuore batteva forte non so perché vedevo una connessione fra questa malattia ad un uomo dell'equipaggio e gli episodi appena trascorsi vi sentivo un mistero preoccupante per me almeno quanto il malato da curare il capitano mi accompagnò a poppa del Nautilus ed entrammo in una cabina attigua al quartiere dell'equipaggio là su un letto stava un uomo di 40 anni circa dal viso energico vero tipo anglosassone mi chinai su di lui non era proprio un malato ma un ferito la testa ricoperta di bende insanguinate posava su un doppio guanciale staccai le bende e il ferito tenendo i grandi occhi fissi dinnanzi a sé non imisa alcun lamento la ferita era orrenda il cranio fracassato mostrava il cervello nudo e la sostanza cerebrale aveva subito una scorticatura profonda grumi di sangue si erano formati sulla massa diffluente che presentava un color feccia di vino c'erano insieme contusione e commozione cerebrale il ferito respirava con lentezza e qualche spasmodico movimento muscolare agitava il suo viso la flemmasia cerebrale era completa implicava paralisi sensoria e motoria presi il polso del ferito era intermittente le estremità si stavano raffreddando e vidi avvicinarsi la morte di quell'uomo senza che mi fosse possibile arrestarla dopo averlo medicato rimisi a posto la fasciatura e mi volsi al capitano Nemo quale origine ha la ferita domandai che importa rispose evasivamente il capitano un urto del Nautilus ha spezzato una leva della macchina che ha colpito quest'uomo ma il vostro parere sulle sue condizioni esitavo a pronunciarmi parlate liberamente disse il capitano quest'uomo non capisce il francese guardai un'ultima volta il ferito e risposi fra due ore sarà morto niente può salvarlo niente la mano del capitano Nemo si contrasse e qualche lacrima sgorgò dai suoi occhi che non credevo potessero piangere osservai ancora l'uomo da cui se ne andava poco a poco la vita il suo pallore veniva crescendo sotto la luce elettrica che inquadrava il letto di morte guardavo quel viso intelligente le sue rughe precocemente scavate chissà quando dalla sventura e forse dalla miseria avrei voluto diradare il mistero della sua vita con le ultime parole che gli sfuggissero dalle labbra potete andare signora Ronax disse il capitano lo lasciai accanto al morente tornai nella mia camera ero commosso all'estremo e restai agitato da tristi presentimenti nelle mie riflessioni spesso interrotte credevo udire sospiri lontani un triste salmo diare erano le preghiere per i defunti in una lingua a me ignota l'indomani mattina salì in piattaforma il capitano mi aveva preceduto vedendomi signor professore mi disse vorreste fare un'escursione sottomarina con i miei compagni se lo gradiscono noi siamo ai vostri ordini capitano vogliate recarvi dunque a indossare gli scafandri del morente o già morto non una parola raggiunti Ned Land e Consail li informai sulla proposta del capitano Consail accettò subito e questa volta Ned si mostrò ben disposto a seguirci erano le otto del mattino mezz'ora dopo eravamo vestiti per la nuova impresa e muniti dai necessari apparecchi fu aperto il doppio portello con il capitano Nemo e una dozzina di uomini dell'equipaggio a una profondità di dieci metri toccammo il suolo duro su cui posava il Nautilus un leggero pendio portava a un fondale accidentato completamente diverso da quello toccatomi nella prima escursione sotto il Pacifico qui niente sabbia fine né praterie sottomarine né foresta pelagica identificai subito la meravigliosa natura del luogo attuale era il regno del corallo si classificò volta a volta il corallo nell'ambito minerale vegetale o animale medicina per gli antichi gioiello per i moderni solo nel 1694 il marsigliere Peissonnel gli attribuì definitivamente natura animale è un insieme di microscopiche bestioline addette a un polipaio fragile e pietroso tali polipi hanno un unico generatore che li ha prodotti per gemmazione e ciascuno ha la propria esistenza pur aderendo alla vita comune una specie di naturale socialismo conoscevo gli ultimi lavori scientifici su questo bizzarro zoofito che si mineralizza nel medesimo tempo in cui si arborizza giustissima osservazione dei naturalisti nulla poteva riuscirmi più interessante d'una visita a simili foreste pietrificate immerse nei mari gli apparecchi Runkorf entrarono in azione percorremmo un banco al primo grado di sviluppo che un giorno sbarrerà tutta questa parte dell'oceano indiano la via era fiancheggiata da cespugli inestricabili un aggrovigliarsi da arborescelli con piccoli fiori stellati a raggi bianchi solo che diversamente dalle piante terrestri le arborescenze fissate alle rocce del fondo andavano tutte dall'alto in basso la luce produceva mille effetti leggiadri giocando tra quei rami vivacemente colorati ero tentato dal cogliere le fresche corolle sparse di finissimi tentacoli le une ben fiorite e le altre appena nascenti lievi pesci dalle rapide pinne le sfioravano come un volo d'uccelli ma se la mia mano si avvicinava a questi fiori viventi a tali animate sensitive subito un allarme si diffondeva nella colonia le corolle bianche rientravano nei loro purpure e gli astucci le florescenze svanivano sotto i miei occhi e il cespuglio si trasformava in un blocco di masse pietrose la fortuna mi aveva presentato i migliori esemplari di questo zoofito era un corallo quale viene raccolto nel Mediterraneo sulle coste di Francia d'Italia e di Barberia giustificava con i suoi toni vividi i poetici nomi di fior di sangue e spuma di sangue dati in commercio ai suoi tipi più belli il corallo può costare 500 franchi al chilo e le acque la avvolgevano ricchezze per tutta una moltitudine di corallieri la preziosa materia spesso mescolata ad altri polipi formava quei compatti e inestricabili gruppi chiamati macciota vi notai splendidi campioni di corallo rosa poi i cespugli si rinserrarono e le arborescenze ingrossavano autentici boschetti pietrificati lunghe arcate ed un'architettura fantasiosa vennero incontro ai nostri passi il capitano penetrò in una buia galleria dal cui dolce pendio fummo recati a una profondità di 100 metri la luce delle nostre serpentine dava a volte effetti magici aderendo alle rugose asperità degli archetti e ai pendagli disposti come sui lampadari che essa faceva risplendere di punte di fuoco fra gli arborescelli coralliferi vidi altri polipi non meno suggestivi meliti o iridi dalle ramificazioni articolate alcuni ciuffi di coralline verdi e rosse simili ad alghe incrostate nei loro sali calcarei che i naturalisti dopo lunghe discussioni hanno definitivamente qualificato come vegetali stando a un buon pensatore qui troviamo forse veramente il punto dove in oscuro modo la vita si leva da un sonno di pietra restando ancora un po' unita a quell'aspro luogo di partenza finalmente dopo due ore di cammino arrivamo a 300 metri di profondità il limite estremo per il formarsi del corallo noi ci addentravamo liberamente sotto gli alti rami perduti nell'ombra dei flutti mentre ai nostri piedi le tubipore e le meandrine le astree e fonge e carofille erano un gran tappeto di fiori con gemme abbaglianti spettacolo indescrivibile e come dirci l'un l'altro le nostre sensazioni eravamo imprigionati sotto le maschere di metallo e di vetro perché non riuscire a condividere almeno la vita dei pesci o meglio quella degli anfibi che a lungo percorrono liberamente il duplice mondo delle terre e delle acque il capitano Nemo si fermò noi tre lo imitammo dopo aver proseguito per un momento e voltandomi vidi che gli altri formavano un semicerchio intorno al loro capo ora guardando con attenzione notai che quattro uomini dell'equipaggio portavano sulle spalle un grande oggetto oblungo ci si trovava al centro di una vasta radura fra le alte vegetazioni le nostre lampade proiettavano in quello spazio una luce crepuscolare da cui venivano smisuratamente allungate le ombre sul terreno al limite della radura l'oscurità diventava profonda vi apparivano solo minime scintille trattenute dalle creste vive del corallo Ned e Consail mi stavano accanto guardavamo e presentì qualcosa d'eccezionale vidi che il suolo presentava dei tumuli con una loro crosta calcarea i tumuli non alti e distribuiti con una regolarità che segnava l'opera dell'uomo in mezzo alla radura su un piedistallo di massi confusamente ammucchiati si ergeva una croce di corallo le sue lunghe braccia purpure evocavano il sangue pietrificato a un cenno del capitano uno dell'equipaggio si fece avanti e cominciò a scavare non lontano dalla croce una fossa con un piccone che si era tolto dalla cintura capì a un tratto la radura era un cimitero la fossa una tomba e l'oggetto oblungo il corpo dell'uomo morto nella notte il capitano Nemo e i marinai del Naudilus venivano a sotterrare il compagno in questa dimora comune in fondo all'inaccessibile oceano il mio animo non era mai stato così sconvolto pensieri così impressionanti lo avevano sovreccitato non volevo vedere ciò che gli occhi vedevano intanto la tomba lentamente si approfondiva i pesci fuggivano qua e là da un asilo violato udivo battere sul terreno calcareo il ferro del piccone esso scintillava a volte urtando in una silice la fossa si allungava si allargava e infine fu profonda quanto bastava per accogliere il corpo allora i quattro si avvicinarono il corpo avvolto in un bisso candido scese nella sua umida tomba il capitano Nemo abbraccia concerte e gli altri compagni si inginocchiarono nell'atto di pregare i miei due amici e io c'eravamo religiosamente inchinati la tomba venne ricoperta con i frantumi di calcare strappati al suolo che formarono un leggero rigonfiamento poi il capitano e i suoi uomini si rialzarono avvicinatisi alla tomba piegarono ancora il ginocchio e tesero la mano per un estremo addio ci incamminammo tutti verso il Nautilus risalendo a poco a poco apparve infine la luce della nave a luna eravamo di ritorno mi cambiai e salito in piattaforma andai a sedermi vicino al proiettore il capitano Nemo mi raggiunse gli dissi così secondo le mie previsioni quell'uomo è morto durante la notte sì il capitano rispose e riposa ora accanto ai suoi compagni in un cimitero di corallo sì dimenticato da tutti ma non da noi nella tomba scavata là i polipi si incaricano di suggellare i nostri morti eternamente nascondendo il viso fra le mani con un gesto brusco egli cercò inutilmente di far tacere un singhiozzo poi aggiunse è là il nostro camposanto remoto a qualche centinaio di piedi sotto la superficie del mare i vostri morti vi dormono almeno in pace capitano al sicuro dai pescicani sì signore rispose gravemente il capitano Nemo al sicuro dai pescicani e dagli uomini e dagli uomini rispose rispose